Dopo i problemi audio ci siamo Evviva Non mi sembra vero ragazzi Non mi neanche io me, avvio Dai Vado Hai fino E io ho giocato tipo un'oretta e mezzo Due ore e poi basta Giusto per esigenza per registrare Su youtube va bene Però volutamente per portarmi un po' avanti Questi giorni particolarmente Densi non sarei riuscito Però non so Veramente niente a parte Qualche spoiler Su qualche forma Ma poi niente di niente di niente No io non ho guardato niente assolutamente Sono blind Ti dico solo che non so neanche quali sono gli starter tranne uno No Ah vabbè dai Cioè proprio Come hai fatto No ho guardato solo i trailer con le novità Ho cercato di spoilerarmi Il meno possibile Cioè ho guardato solo le differenze Appunto per fare il video Spiegando le differenze Tra i vecchi titoli di pokemon e questo Voglio ti voglio aprire Anch'io In modalità condivisione Raga apriteci Aprite tutti dallo stream squad Così ci vedete in contemporanea Esatto Così potete vedere entrambe Le live Se aprite dallo stream squad C'è il link in alto Io sono a questo il mio regno Un luogo al di là del tempo e dello spazio Io ero sempre all'italiano Ma insomma ora arrivo Ma io trailerini sì Vai Vado Ci dà il benvenuto Tu le leggi di solito? Io sì Io meno Quindi guarda non mi pare il vero Se hai intenzione di leggerle Vai allora vado Io sono anche più gradita come cosa sicuramente Chiamate Arceus Mostrami dunque il tuo aspetto Ah vai Devi creare l'avatar Allora io direi bionda con gli occhi azzurri E nome? Non so come ti chiami tu Io mi chiamo sempre Lillian Sui giochi E io ho il mio nomignolo Da battaglia Alexis Ah bello bello Mi piace che abbiamo questi due nomignoli da battaglia E mi vergogno a dirti il perché però Perché? Adesso mi hai detto Ormai Quando ero Quando ero Quando ero Bimbetto Io volevo un Nick che facesse rima con Deoxys Ah beh figo dai Sì Ci sta Grazie per l'educazione No no dai Figo Mi piace C'è una bella motivazione Sì sì Ragazzi a casa non googlate Alexis Perché non vengono i Pokémon Andiamo avanti Allora Io una volta mi sono chiamata Edelweiss Eh non era Uguale Sono colleghe Alexis Sono colleghe Ok Non mi sono chiamata Edelweiss Senza saperlo Su un MMO Bene Ok Allora vado Vai 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 Lillian Io sono Lillian Lillian Alexis Presto ti troverai in un mondo a te sconosciuto Un mondo abitato da creature misteriose Creature che voi umani chiamate Pokémon Lillian Alexis Incontra tutti i Pokémon Allora mi mostrerò di nuovo a te No vabbè ma c'è l'annunciazione questa No qui si parte subito forte capito Bellissimo Cioè pronti via Sì 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 c'è partiamo subito con Arceus che E qui è stra super interessante perché le magliette che abbiamo sono di Kalos Guarda specialmente la mia maglietta quella del FG maschile È la maglietta che potevi metterti a Kalos in XY Quindi è già tutto la palissiano Guarda è tutto stranissimo E poi Cioè qui siamo ai suoi Sì È praticamente il predisinno Quindi è come se in realtà ci mandasse in un'altra dimensione o una cosa del genere Esatto Cioè tutte le elugubrazioni no? Sui viaggi nel tempo che è in otto secondi sono confermate Sì sono confermate perché c'è ti manda proprio sì Adesso vi abbasso il volto perché evidentemente è altissimo Svegliati Svegliati forza wake up È un po' Giorgiovanni con lui sì Oh vedo un sindaco Sei ancora viva spero Ah ecco adesso ho visto gli start Tu me l'avevi già detto forse Io ti lascio cavallerescamente la prima scelta Però tanto mi sa che siamo tranquilli perché io non vorrei prendere quello che vuoi prendere tu Lo sai già hai deciso già Forse ce l'eravamo detti Poi io ho rimosso gli starter non me li ricordo più Non ti dico che spavento mi sono preso quando ti ho vista precipitare dal cielo Fortuna che stai bene via Chi sei? Professore con le mutande in testa questo qui E questo è uscito da ramma mezzo Rivedibile l'outfit Sì sì molto rivedibile Beh ma questo dovrei chiedertelo io casomai Non è certa cosa di tutti i giorni vedere gente che cade dal cielo così all'improvviso Ma tornando a noi che strani indumenti Ah ecco come dicevi tu Io non so te ma tipo il pg maschile ha dei sandali veramente da tedesco sull'Adriatico Anche la mia lini Cose che vedo a Rimini di solito Ecco bravo Sì 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 Quelle vedo a casa Per caso conosci qualcuno che abita da queste parti? Non saprei Io gli sparo un buo invece Sì siamo caduti dal cielo Evidentemente no Che pasticcio Hai almeno un posto dove andare? No Ricapitoliamo Non conosci nessuno nei dintorni E per giunta non hai un posto dove dormire Un notevole pasticcio direi Siamo sicuri che riuscirei a cavartela da sola? Da solo? Non so che fare Dammi una dritta Io più o meno dai Più o meno No inquadratura sul sandalo no vi prego Sì tra l'altro questo cosa faceva appunto con i tre pokemon lì di fianco in spiaggia? Capisco beh in ogni caso non ho certo intenzione di abbandonare qualcuno in difficoltà Ah eccoli qui Rowlet, Cyndaquil e Osha Che sbadato Stavo quasi per dimenticarmene Stavo inseguendo questi piccoli fuggiaschi quando ti ho vista precipitare dal cielo È curioso Sembra quasi che questi tre pokemon avessero in qualche modo avvertito il tuo arrivo A proposito, sai cos'è un pokemon? Oddio Forse dovremmo dire certo Se veniamo da un'altra dimensione Sì assolutamente Ma infatti ora vedrai Ora vedrai Certo E questo dirà come fai a saperlo? Ah per fortuna sarei anche caduta dal cielo ma perlomeno hai tutte le rotelle al posto giusto Come ben sai questi tre sono esemplari delle misteriose creature che chiamiamo pokemon Comunque tu come ti chiami? Lilian Alexis Ah che nome peculiare mai sentito Ma sono sicuro che ha un bellissimo significato Sorry sorry che villano Non mi sono ne manco pre... Ne manco? Che parola è? Ne manco Lui alterna gli inglesismi ai ne manco Un bocconiano Un bocconiano Un bocconiano Non mi sono ne manco presentato Il mio nome è Laven e sono un professore pokemon In soldoni il mio lavoro consiste nel cercare di scoprire il più possibile sui pokemon Ad esempio queste tre piccole pesti Che se ne vanno? Ciao Ragazzi cioè io cerchiamo di fare sempre live in orario che possa anche curo perché questo servizio di doppiaggio live personalmente lo trovo benissimo Premo soltanto A vado avanti perfetto con C cioè non lo so e ora chat fatemi sapere Francesco sono una sorella maggiore sono abituata a leggere ad alto No no guarda io sono di una comodi sono spanzato premo A giusto a tempo vado al timing del dialogo e basta una gioia guarda Fa piacere che prezzi Allora ah Laven i miei adorati pokemon dove andate? Perché fuggite da me? Si gentile qui ci sono dei pokemon fuggiaschi da catturare Ehi voi tre aspettate Vai let's go Ah e si parte con l'esplorazione Oddio Sulla spiaggia A te piace lo stile grafico? Cioè non ti chiedo proprio l'insieme della grafica ma lo stile? Ma e onestamente con tutti i suoi difetti che sono innegabili Si Cioè a me ne parlavo stamani mattina con un ragazzo in chat che è stato veramente bravo a dire quello che pensavo senza che lo sapessi Mi spiego meglio ha detto Si vede proprio che hanno voluto un po' andare a ricercare lo stile Pastello sai dei vecchi disegni della vecchia arte un po' acquarello giapponese no? Eh che è quello che dicevo anch'io Sì perché infatti quando ho detto raga a me ricorda molto tutto con Tony Pastello e mi fanno no Sara ma non sono Tony Pastello E io dicevo pure No in realtà si lo sono Tant'è che infatti ogni tanto non rendono Però per esempio il cielo stellato vedrai quando si alterna giorno notte che arriva il cielo stellato è bellissimo è veramente bellissimo Poi è chiaro E' vero che è spoglio ha sicuramente i suoi difetti Notevoli è spoglio No esatto io parlavo di stile esatto proprio non di qualità generale ma proprio lo stile Onestamente sì e non mi vergogno a dirlo No no ma io concordo Anch'io cioè potevano effettivamente lavorarci meglio però lo stile in sé per sé a me piace Dai ti do un po' il cambio alla lettura scherzi a parte sennò poverina fra mezz'ora sei cotta C'è qualcosa che emette luci e suoni siamo arrivati a Clarsius Phone Intanto c'ho beers one cab grazie per la risafina Grazie bello per il settimo Esaminiamo E grazie anche Alex Buntu per la sub benvenuto Hai trovato un oggetto che sembra uno smartphone Io pensavo almeno qui di andare in giro senza smartphone E invece E anche qua ce ne liberiamo Sembra il tuo smartphone ma la forma è un po' diversa Ti sembra di avvertire inoltre una strana energia Mi è apparsa un messaggio sullo schermo Ti affido assieme a questo Arceus Phone una missione Incontra tutti i Pokémon E anche qua seconda direttiva molto chiara C'è la seconda volta che in un attimo ci intima il grande architetto di incontrarli tutti E poi nuovamente Sì cioè abbiamo un compito da dio praticamente Eh sì Prestigliissimo l'Aven Big Se solo riuscissi ad andare a segno meno un lancio Oh giovine caduto dal cielo Sei venuto ad aiutarmi dunque Non ridere se dico Non mi fa rivedere giovine Che io già mi trattengo Solitamente sono dissacrante L'avrei letto Fossi solo l'avrei letto come il Berlusca Leggilo come fossi solo Ti prego Ti prego fallo No non limitare la tua persona per me Non farlo Non dopo 29 minuti Fami fare il serio Sappi che io non limiterò la mia persona Perché ci sei tu Quindi ti prego Solo perché me lo chiedi così Va bene Dopo dopo però mi devi venire naturale Ho cercato di catturare i pokemon fuggiaschi Ma le mie pokeball sono volate tutte a vuoto Ah giusto giusto Forse prima è meglio che ti dia qualche informazione su quei pokemon Quelle rolet È capace di effettuare la fotosintesi proprio come le piante E lotta lanciando le sue affilatissime penne Potentissimo rolet Ecco considera che io mi sono messa a diata Perché ho assunto la forma di un rolet Quello laggiù invece è syndaquil La fiamma che brucia sul suo dorso Diventa più potente quando è arrabbiato o spaventato Quill E per finire Quello che se ne sta lì vicino al laghetto è Osha Lo si vede spesso sonnecchiare a pelo d'acqua E lotta usando quella specie di conchiglia che ha sul ventre Osha Tristissimi questi pokemon Sono proprio disillusi dalla vita Quill Si sembrano pagati no Quill Osha Ah ma dove ho la testa Stavo quasi per dimenticare un'ultima importantissima cosa Come catturare i pokemon naturalmente Tieni Eccoti delle pokemon Ti basterà lanciarne una per catturare un pokemon Ah Hai ottenuto 50 pokemon Abbiamo dato il porta Il porta cassettine Si bellissimo Che bello è Bellissimo Alla scatola di legno Bellissimo Si stupendo Bella bella Vai Dove le mettiamo 50 pokemon Sicuramente Non fare queste domande a un toscano Andiamo avanti Ok Loven Ah sorry Forse non è una spiegazione proprio esaustiva Allora Ti ricordi cosa ho detto prima I pokemon sono creature misteriose Ma perché ti chiederai tu Cos'hanno di tanto misterioso Semplice I pokemon possono rimpicciolirsi Fino a diventare microscopici Ed è qui che entra in scena la pokeball Lanciando una di queste mirabili invenzioni All'avanguardia contro un pokemon E quest'ultimo si rimpicciolirà Entrando tosto Nella pokeball Tosto lo diceva la minonna Sì sì tosto Presto tosto Che deriva dallo spagnolo Ed è questo signore e signori Quella che si chiama comunemente cattura Qui c'è già un primo cavillo Perché chiaramente Cioè Dice ma come Hanno la capacità di rimpicciolirsi da soli Ma non l'hanno mai fatto Non è la pokemon che li induce a farlo No? Dici che è perché appunto questo capitolo qui È un prequel e ancora non sanno cose Secondo me Si sono inventati questa cosa Per cercare di anticipare la domanda del Ma se siate in epoca preindustriale Com'è possibile che non abbiate Cioè che con la tecnologia che non avete Abbiate creato le pokemon Allora secondo me hanno fatto peggio Probabilmente a dare questa spiegazione Perché poi allora dici No beh beh non l'hanno mai fatto Però vabbè noi ci crediamo Perché Si rimpiccioliscono Non si va bene Si rimpiccioliscono Ecco vabbè Abbiamo le dynamax Che diventano enorme Esatto Ah beh effettivamente avranno detto Tanto ormai li abbiamo fatti diventare giganti Li facciamo anche tornare indietro Una volta si rimpicciolivano Poi hanno detto basta E si taglia la testa Non ho nessun altro a cui chiedere Aiutami a catturare i miei tre piccoli fuggiaschi Si gentile Prendi bene la mira Colpisci il pokemon con una pokeball E il gioco è fatto Non che sia mai riuscito a mandare a segno un lancio La mia mira lascia un po' a desiderare Quindi lui cioè il professore è un po' Il professore è senza mira Sì Allora quindi con ZR mira E B per lanciare Ah no per annullare Grazie boys per gli abbonamenti Scusate se non vi ringrazio ad uno ad uno Come di consueto ma Sì uguale raga Io ogni tanto mi muto e ringrazio piano piano Poi vi sbaciucchio tutti A fine live Allora quindi prendiamo la mira Ah dobbiamo scendere già quindi qui No no Questi vanno presi tutte e tre Quindi è tutorialino Tutorialino Quindi non ti preoccupare Ah va proprio Un tanto così Oh vabbè fitto Vai ho preso Sinda qui un tanto Io ho preso l'osha Oh ci fai complimenti Laven Ottimo lavoro Il tuo talento nella cattura ti sarà davvero utile da queste parti Puoi contarci Ci sono ancora due pokemon fuggiaschi Che strano però A vederti si direbbe che tu non abbia affatto paura dei pokemon Viero perché qua avevano paura Questo è un prequel Questi strani Queste strani creature Che altro sarei curioso di capire quanto lontano posso andare Allora la cosa figa Perché appunto secondo me Qui nella cattura Un po' voglio sapere cosa ne pensi anche tu Sembra insomma risiede la cosa più interessante del gioco Cioè questa possibilità Della stealth Sì a me piace Sì 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 E la cosa ganza Da quello che ho intravisto in queste proprio brevissime due ore di gioco che ho fatto È che varia anche in base alla ball Tipo la seconda ball che avremo è la peso ball Che è più efficace eccetera eccetera Però è pesante A tratti te la tiri sui piedi Cioè è una gittata Ah vero Cioè sono cosine così Cioè senti fisicamente il peso della pokeball quando la lanci Sì Ok sta cosa mi piace molto Ah ok Quindi Laven è contento che abbiamo preso il secondo pokemon E pensare che tantissime persone qui hanno timore persino ad avvicinarsi ai pokemon Ne rimane uno solo adesso Forza all'opera Pokeball alla mano Vai pure io sono al terzo Ah eccolo Era Rolex che si era nascosto tantissimo Poi è verde se mi metti Sì esatto No mi è scappato Eh già purtroppo può succedere Le pokeball in effetti non hanno un tasso di cattura del 100% Ma non ti scoraggiare Eh le master ball sì però Riprova e vedrai che andrà meglio Beh effettivamente qua non esisteva non mi sa ancora Eh no Ah aspetta sarebbe figo vedere la master ball in questo gioco Cioè come l'avranno fatta Eh boh Tu dici che c'è eh Ci dovrebbe essere Dai io penso di sì Almeno una master ball sì Avranno tipo I nostri sciamani hanno prodotto Questa pokemon Sì 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 esatto Prodotta da un buono Travita un sacrificio Un pronco Sì sì Ti ringrazio di cuore non so proprio come avrei fatto senza il tuo aiuto Vi avevo appena portati al villaggio per le mie ricerche Ma non danno retta a niente e nessuno Vedessi come sono filati via come ho detto prima e come se avessero avvertito che stavi per arrivare tu Beh sia come sia devo farti i miei complimenti sia un portento con le pokéball Sebbene tu sia appena arrivata sai già catturare i pokéball I pokéball sì i pokémon senza problemi Com'è possibile Deve esserci un motivo dietro la tua repentina comparsa Di scavolini la master Niente lei guarda lei gli mostra il cellulare Tipo ehi guarda mondo pre-tecnologico Si lo flexa proprio Esatto Incontra tutti i pokémon E un Archeus Phone dici Che aggeggio singolare Sembra quasi che serva a mostrarti la via Niente lui ha già capito tutto Se permetti avrei un grande favore da chiederti Il tuo aiuto mi sarebbe molto prezioso Il mio sogno è di portare a compimento il primo pokédex di questa regione Sai cos'è un pokédex? Si tratta di un meraviglioso lavoro di ricerca Un'opera monumentale atta a contenere informazioni su tutti i pokémon Ma ahimè per registrare i pokémon c'è bisogno anzitutto di catturarli Le pokéball sono invenzioni recentissime Ci sono davvero poche persone in grado di utilizzarle per catturare i pokémon Nel frattempo nello sfondo possiamo notare Un problema dimensionale Ma quello non interessa a me No, non curante Però ci sono i pokémon che scappano Però là dietro nel frattempo No, no, là dietro l'independence day Esatto Però va benissimo così Cioè si è aperta a un'altra dimensione Un bel crucio non trovi Quando ecco che sei sbucata fuori tu Un portento della cattura Il tuo obiettivo è incontrare tutti i pokémon E il mio quello di catturarli tutti Mi pare che una collaborazione sia d'obbligo Che ne pensi dunque? Sei disposta ad aiutarmi a realizzare il mio sogno? Non saprei Non saprei, arrivederci Titolo finito C'è game over Ci sto Ma vabbè dai Ci sto Ci sto ovvia Ma per spirito sportivo Esatto Solo perché ha un tannino in testa Ci conosciamo appena Ma da questo momento Noi due saremo colleghi di ricerca Il nostro obiettivo Completare il pokédex Non fosse stato a posai Mi sarebbe stato meno Siffato Ma adesso andiamo al villaggio Ci sono tre pokémon Da riportare indietro Per non parlare di te poi Dobbiamo pensare a ritrovarti Vitto e alloggio Seguimi allora Ti porterò al nostro amato Villaggio Giubilo Oh finalmente Vediamo il villaggio Giubilo Effettivamente le Master Ball Sono state inventate Alla Silph in rosso e blu Però dobbiamo un po' Avere un po' di elasticità mentale Esatto ragazzi E nel mentre qua Squarcio spazio temporale Sul Monte Corona Ma tutto è regolare Tutto a posto Sì appunto poi vedi tutti i vestiti No All'epoca di Isue E noi maglietta, pantaloncini E sandali di Rimini Buonasera mia cara sentinella Eh? Noi tranquilli proprio Sì sì Come sempre il suo occhio vigile Ci fa sentire tutti più sicuri Mi sono preso la libertà Di portare al villaggio Questa giovine Le sono in debito Per aver aiutato me I miei pokémon Anuisce E lui lo quasce Sì lo quasce Sai che sto gioco veramente Cioè questo titolo pokémon qua Mi sa proprio di chill massimo Mi sa di Cioè mi dà proprio delle sensazioni Di relax A manetta Sì secondo me Allora Ancora Siamo no Nella Vabbè il tutorial Nella tutorial Nel tutorial nascosto Dopo Dopo dici che parte tosto? No più che altro C'è delle belle aree Spaziose Nelle quali C'è proprio Si diverti Ti metti lì Raccogli roba È quello Secondo me il titolo Dai proseguo io Ti do il cambio Va bene Da questa parte Prego Seguimi Si gentile È un Laven Dalla doppia personalità Questo è il villaggio giubilo E poi Me lo sono perso Si è normalmente sviluppato Grazie All'opera del team Galassia Il villaggio è stato costruito Appena due anni fa C'è tanto da fare Ma poche braccia Per farlo E dato che non sappiamo molto sui pokemon Persino uscire dal villaggio Non è così scontato E mentre ci guardano malissimo L'edificio imponente che vedi In fondo alla strada È la sede del team Galassia Non si parla con gli sconosciuti Ma hai terrorizzato No scusami C'era la sillabecchietta Dietro che Mi svegliava Sì sì no Qui Le male lingue Pofabacca Quasi Mi passava di mente No lui Lui è una fuscina di meme Sento male Bisogna fare rapporto Sui pokemon fuggitivi Tu aspettami alla trattoria Si gentile Giuro mi sento male No lui è C'è ogni volta che apro bocca Mi è da ridere O c'è da piangere Sì È lì Subito dopo il ponte Si chiama Il paiolo magico Ma il mio si chiama La tovaglia di lino Anche da me era Ma mia Ero sconvolta Tipo ma come Ma mia è un altro nome Sì perché In pratica Se scegli il personaggio maschile Fa la cameriera l'altra Se no viceversa Allora cambia No L'Arsius Phone Sta reagendo a qualcosa Grazie per i 4 mesi Ti indica la strada Premendo il pulsante meno Aprirai la mappa Dell'Arsius Phone La mappa ti mostra Come raggiungere il tuo obiettivo Tramite un marcatore Insieme alle informazioni Su missioni richieste E va bene No vai Questa è proprio Monster Hunter Style Mi piace Sì 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 Infatti qui Come dire Sei tu che Mi devi Edulcorare Sul titolo Vedrai vedrai Ma sì Sembra un RPG Molto classico A dirti la verità Quindi Secondo me Vedrai super easy Sì è vero I cammini sono Dei wheezing Wheezing galar Fantastico Infatti Poi anche qui Bonus 110 Stanno rifacendo le facciate Anche Team Galassia Si scaricano tutto Eh o del resto Contributi statali di Isui Vanno presi C'è il signore Che ci guarda male Rampei Hai l'aria sospetta Appogo La tovaglia di lina È una trattoria riservata Ai membri del Team Galassia I forestieri Non sono i benvenuti Gira a largo Cattivissimo Ciao Go Games Grazie per i quattro mesi Tornato Ah Tu vedi te Ma tu chi vedi La tipina Eh sì siamo ovviamente invertiti Ah bellissimo Io vedo te Tu vedi me E tu chi saresti Che vestiti strani E poi sono così leggeri Io non me ne andrei in giro Così tutto tranquillo I Pokémon potrebbero farti Molto Molto male Vedi anche I dialoghi sono diversi Davvero? Sì Sì a me dice Tipo Stai attenta I Pokémon potrebbero farti affettine Se sei qui al villaggio Vuol dire che qualcuno Ti ha dato il permesso E qui invece Se conosci qualcuno A me mi ha dato Del raccomandato Vabbè Sì qua cambia leggermente Forse conosci il professor Loven Dopotutto è un forestiero Anche lui So che viene da una regione Molto lontana Non è molto rassicurante Vedere che si lascia Sfuggire i Pokémon Sì Mi sa Il senso è quello Però chi sono io per giudicare Se non mi fossi lasciata colpire Dal tuono shock Di quel Pokémon Non sarei finita a letto Sì Più o meno Idem Sì quindi dice tipo Che le sono scappati Che gli sono scappati Tre Pokémon Ok Hai tutte le ragioni del mondo Luce Sono un tale disastro Che mi vergogno Da me è luce Da te è Luca Il mio si chiama Luca Sì Ok Professore Qui figura di me Cioè qui figura di me Carlo grazie per la sabbia Figuraccia Sì Gli stava sparlando dietro Ma da ora in avanti Non avrai di che preoccuparti Alexis È qui per darci una mano Lillian Pardon Tutti e due Le dispiacerebbe spiegarsi meglio Vuole dirmi Che entrerà a far parte Della squadra di ricerca Ma insomma Non può reclutare Nuovi membri Senza il permesso Della caposquadra Selina Ah beh Invece dice Così senza avvisare nessuno Mi dispiace Ma non posso fidarmi Di una tipa così strana Vai vai Ci siamo Oh Selina E arriva subito Con lei che Hai seguito un po' La campagna marketing Il sito Qualcosina Lei ti ricorda Nessuno Di diamante e perla Di quegli ufficiali Classici Oddio L'hai già vista Sicuramente sì Ma stai parlando Con una persona Con una memoria orribile Che gioca a 200 titoli Alla settimana Allora questo non è spoiler Perché proprio Cioè fa parte assolutamente Della Cioè è proprio detto Sul sito Serenamente Lei è Cyrus Al femminile Lei è una trisavola Di Cyrus Ah un'antenata Un'antenata Del capo Cattivo Del team Galassia Beh sì Ci sta Team Galassia Ah quindi è proprio Tramandato Vedi c'ha proprio C'ha proprio Il piglio Aglio degli occhi E ciglia Da Super Saiyan Livello 3 È quello di Cyrus Ci saranno altri personaggi Che sono Che sono degli antenati Di personaggi di perla Di amante Dove Alcuni sono maschi Antenati Femmine Viceversa Oppure altri Hanno stesso sesso E quindi Non si capisce perché Beh essendo Una sorta di presinno Sì Ha senso ovviamente No Sì 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 Ha il suo senso Dai Questa è una delle poche cose Che effettivamente ha senso Per i momenti Per ora Sì Sempre che dimostri Di avere le capacità Di cui abbiamo bisogno Sono Selina E sono capo Della squadra di ricerca Del team Galassia Altra cosa figa Selina Cyrus Che nome simile Sì 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 Il professor Laven Mi ha messo al corrente A quanto sembra Lo hai aiutato A recuperare i pokemon Fuggitivi E ora vorresti metterti A nostra disposizione Il tuo talento In cambio di vitto e alloggio A occhio e croce Direi Che hai più o meno 15 anni Io gliene avrei dati 8 Vabbè Hai sui 15 15 portati molto bene 15 Il che significa Che hai l'età giusta Per provvedere A te stesso Ah capito 15 anni basta Sì sì Hai sui a 15 anni Hai già un paio di matrimoni Alle spalle Un paio di mutui Immobile Sì sì Come da noi Tuttavia Non mi è possibile Accogliere nella mia squadra Per effetti sconosciuti Domani ti metterò Alla prova Eh Mi sembra più che giusto E ora Mia cara caposquadra Vorrebbe unirsi A noi per cena Immagino che avrà Parecchie domande Per il nostro Giovine ospite No grazie Preferisco assaporare Le pietanze in solitudine Penso no Ma malissimo Sì Povero posai Riservata come sempre Ebbene Vorrà dire Che saremo solo Nei tre Abbiamo una quantità Di cose Da dirci Mister Rampay Il solito Per favore Due cacciucchi Di patate Ma questa volta Per tre persone Ah Mister Rampay Era il tizio Che non ci voleva servire Sì esatto Un attimo Infatti secondo me A noi ci spusano il piatto Esatto Ti do il cambio Mister Rampay I suoi moci di patate Non deludono mai Delicious come sempre Proflover racconti un po' Dove era accattato Questa specie di vagabonda Ehi Così Beh Anche un po' Miro di onestà Querela E via Giusto Hai visto anche tu Quel buco nel cielo Il cosiddetto squarcio Spazio temporale Ebbene La nostra giovine amica Deve essere precipitata Proprio da quel buco Tutto normale E scommetto che Spera che io ne creda Da me cambia pochissimo Nel momento Tento a credere sia vero Vabbè Si 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 cambiano alcuni dialoghi Io sono un uomo di scienza E il mio lavoro È verificare i meccanismi Che regolano i fatti Che osservo Ai miei occhi Solo i fatti Hanno importanza Isui La regione in cui viviamo È abitata Da innumerevoli specie di pokemon Già Sono ovunque Nell'erba alta Nei boschi Nel mare E il compito della squadra di ricerca È capire cosa siano queste creature I pokemon Ecco Sono creature spaventose Totalmente avvolte nel mistero Non c'è chiaro Quale sia la natura Dei loro poteri Né quale siano Le loro potenzialità Ma ora possiamo contare sul tuo aiuto Lillian Alexis Hai catturato tre pokemon Voglio dire Ben tre È un'impresa Che io sappia Nessun membro del team Galassia Mi è arrivato a tanto Niente Tutti schiappe Poverini Ho capito Non hanno tre pokemon Quindi chi sfideremo Nessun Ora potremmo finalmente dare inizio alle ricerche sui pokemon E se effettivamente Cioè dato che siamo dei ricercatori e non degli allenatori Non abbiamo visto niente a proposito di sfide pokemon No No Cioè le sfide Sembrano quasi Sembrano quasi propedeutiche soltanto alla cattura Cioè per indebolire magari Eh esatto Cioè però sfide con altri allenatori Perché non ci sono gli allenatori in teoria Quindi effettivamente se Quelli del team Galassia non hanno preso neanche tre pokemon No anche perché proprio traspare questa Sì Questa incapacità di interagire con i pokemon Se hai catturato tre pokemon Sei un Come dire Un fuoriclasse Sì beh Noi siamo Siamo tipo Noi lo siamo Andati da dio Cioè Ok Sì 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 Assolutamente Tre pokemon Devo ammettere che ci vuole talento Per noi è già tanto riuscire a catturarne uno Con tutti quegli attacchi che ci lanciano contro A onor del vero I pokemon che erano fuggiti in spiaggia Non hanno attaccato Ma credo comunque che la chiave sia nel suo approccio Mica nel fatto che sono dei cuccioli piccolissimi Non ha paura dei pokemon E per questo riesce ad avvicinarsi A catturarli più facilmente Dite un po' Voi della squadra di ricerca Vi sembra il caso di portare qui gente stramba E starvene seduti a mangiare come se niente fosse? La caposquadra si è pappata Tra le altre cose Ben dieci moci di patate Vi rendete conto? Capisco che la lentezza dei progressi del Pokédex vi nervosisce Ma non vi pare troppo? Niente questo è il lamentone della situa Ci si ritorna a vivere a mangiare Sì sì torniamo sicuro a mangiare qua La caposquadra Selina sarà lieta di sapere che i giorni di abbuffate e nevrotiche Saranno presto un triste ricordo Su Lilian serviti pure Una volta che sarai parte del team Galassia Non dovrai più preoccuparti di vitto alloggio Anche se sei caduta giù dal cielo E questi di Rimini hanno solo i sandali L'ospitalità proprio si gli manca Tra l'altro stavo notando adesso le scarpe di Luca Non so le scarpe di luce Sì 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 Uguale uguale C'hanno il fagotto Sì 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 Fagottino Una cena in vero delicious Guarda com'è beato Prof le ricordo che se l'esame va male Non potremmo fare entrare Lilian nella squadra di ricerca Non c'è motivo di preoccuparsi Ho piena fiducia nelle capacità di Lilian Non ce la farà Ma certo ci conosciamo solo da 5 minuti Lo spero anch'io Lilian hai detto come ti Che hai detto che ti chiami? Ah no Lilian hai detto che ti chiami? Per stanotte puoi stare nel nostro alloggio Guarda che bellezza ora no? Ma se dovessi fallire l'esame Dovrai lasciare il villaggio e vivere lo sbando là fuori Ah Dove probabilmente ti aspetta la morte Fantastico Mi piace Mi piace Già ragazzi per me questo è il miglior capitolo Pokémon Solo per Senti io ti propongo Una timeline delle nostre live Dove te li catturi E io invece vivo allo sbando E tu muori Muori Io mi do la delinquenza Tipo esatto facciamo la timeline Ma cosa sarebbe successo se Esatto Esatto E sperimentano Perché sono per terra Beh ma per loro dovrebbe essere la norma Più giù di lì non si va Più giù di lì non si va Esatto Non puoi cadere Vedi di riposare Massimo puoi rotolare A me mi fa buon riposo Che io mi tocco perché voglio dire Esatto considerando che devi fare il what if No io poi tanto faccio la vita da sbandato Esatto Non c'è problema Non riesco ancora a credere che tu sia caduta dal cielo Chi sei veramente? Eh Sono Gesù Va bene Allora Una terra sconosciuta Dai l'alloggio Vabbè ci dà Che bello Ci dà simbolini Easy Easy coi simbolini così Guarda prima di entrare Guarda che bellezza Guarda che bellezza il cielo È stupendo È quello no? Che ricorda molto Lo stile acquarello Con colori pastello Ragazzi sono il nuovo sgarbi Della regione di Suio Bellissimo Stavo ridendo perché ero già entrata Io non mai t'ho visto sai Ah no Ho fatto finta di nulla Fedi frega Che te ci zitta Non facevi finta T'ho sgamato pieno sai Fino no Bello 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 Vabbè come pena Come pena Ti toccherà leggere un altro po' Va bene Ah la guida ricerca Contiene tutto quello Che devi sapere Per avere successo Nella tua attività di ricerca Nella regione di Suio E quando vuoi leggerla Apri il menu Non succederà mai Regola fondamentale Dei membri del team Salva Va bene salva Ok Ci insegna a salvare Tu sei uno che legge le guide No Io no E poi chiedo Raga come si fa sta cosa Cioè considera io sono uno che Butta via i libretti di istruzione Uguale Uguale Tipo Ah un libretto di istruzione Non servirà nulla E poi vado a cercare Nella spazzatura Per il cammino Esatto Ah qui c'è un baule Dall'aria capiente Per gli strumenti Senti curo Vai al letto Per favore Io so già Per me già lunedì Forza Riposare fino al mattino Hai voluto la run Con l'esploratrice Eh infatti Sono fottuso ragazzi Si è pentito Questa guarda ogni foglia Sta nel cielo Ce lo no Ah bene Devastazioni Ma quindi vedi Praticamente tutto quello Che arriva Viene da altre dimensioni Quindi loro non ci sono Abituati a se robe Il giorno dopo Nichilito dall'esplorazione Pardini Si fa apposta ragazzi L'obiettivo è arrivare in fondo E leggere Almeno la prima brochure Esatto Dovrà resistere Sei in piedi Hai sentito che tu hanno Stanotte pazzesco Comunque Non capisco perché hanno Cambiato i dialoghi Così tanto Perché da me sono po' diversi Anche da me Il concetto è lo stesso Ma cambia totalmente Sì anche il modo A te ti dice Sono cavoli tuoi A me infatti Pronto per l'esame Farò il tipo per te Ah c'è da te Più simpio Comunque vedi di muoverti Se fai tardi Poi sono cavoli tuoi Allora io mi faccio un chocopops Con un latte Te Lo vorrei anch'io Fermito bene Per quanto si possa riposare bene In una terra in cui Non si era mai messo piede Su muoviti ad andare alla sede È meglio non far aspettare La caposquadra Selina Ma è davvero Ha davvero dei sandali di spallo Sembro io quattro anni fa Quando andai in montagna E appena arrivato Sulla vetta Al plan de corones A 3000 metri di altezza Mi si ruppero Gli stivali No E quindi ti sei messo Ti sei legato la corda Intorno ai piedi Quindi andai al rifugio Chiesi dello spago Magari utilizzato per legare Gli arrosti E lo utilizzai per tornare a valle Non scherzo E più o meno Era una cosa del genere Eroe Breve strode a triste Detto ciò Allora Team Galassi Questa è la sede del Team Galassi Hai mai visto un edificio Così grande in vita tua? Fatti forza Chi è questa? Sono stato attaccato Da dei pokemon selvatici Fortunio Ho provato a tenere Le loro testa Con il mio pokemon compagno Ma contro un intero branco Non c'è stato nulla da fare Non sarebbe successo Se non ti fossi allontanato Così tanto Tieni duro La squadra medica Si occuperà di te Hai sentito Se non superi l'esame Finirai là fuori E potresti anche Lasciarci le penne Ma che dico Pure se volessi provare A superarlo Senza un pokemon compagno Rischieresti grosso Ah Hanno proprio due caratteri diversi Sì Il mio è Cioè Il maschio Luca È un po' stronzetto O rude Sì Sì No invece lei Secondo me ci sta a provare Ti dico la verità Dai Ok Sì sì È una smorfiosa Caposquadra Selina Ecco Lilian Entrate Lei me la immagino Monotonale Entrate È un po' cyborg Ascoltatemi Ascoltatemi attentamente Per superare l'esame Ed entrare nella squadra Dovrai raggiungere La landa ossidiana E catturare tre pokemon Bidoof Starly E Shinx Che? Tre pokemon Così su due piedi Nessuno c'è mai riuscito Ha catturato tre pokemon Giusto ieri O sbaglio? Se ciò che dice Laven è vero Non avrà alcun problema A ripetere l'opera Oh guarda quell'abra Non possiamo permetterci Di sfamare una bocca in più Senza trarne alcun vantaggio Dovrai dimostrare Al team Galassia Che il tuo contributo Può fare la differenza Ti presterò un borsello Ogni membro della squadra Di ricerca Devi averne uno Un borsello Ti do il cambio Ti do il cambio Come ti sta Il borsello a te? Tipo cintura Va bene Sì dai Ok va bene Questi vestiti Fa un effetto Particolare Mi è schifato Sì no Lo vedo C'ha proprio Un'espressione Mamma mia Vai ora Luce Tieniti pronta Tieniti pronta Ad aiutare In caso di bisogno Ogni tanto l'algo L'esame Di ammissione Aspetta Com'era la musica Stavo pensando L'intro di Dragon Ball Prima di titoli Ah sì Sì Brubbub L'esame di ammissione L'esame di ammissione Premendo il pulsante Y Mentre visualizzi Qui ci verrebbe Il tamburellato Della Dell'intro Del recap Dell'episodio precedente Sì Degli episodi precedenti le missioni devono essere portate a termine per andare avanti nell'avventura le richieste invece sono facoltative e consistono nell'aiutare gli abitanti della regione e va bene Alexis ti dispiacerebbe seguirmi vorrei apportare anch'io il mio contributo ti regalerò un cappellino il titolo di spoiler di Dragon Ball la morte di Freezer sì, già grazie grazie zio, gentile buongiorno, miei giovani amici professore, qualcosa non va? Alexis deve superare l'esame ne va del Pokédex e della nostra vita qui ai sui perciò sono venuto a dargli tutto il supporto di cui sono capace, ecco ci siamo, eh? ci siamo, eh? Sinda roh adesso datemi la paga go on Alexis va bene scegli il Pokémon che più ti aggrada come compagno di avventure signori chat chatz che è plurale che si fa? allora io sceglierò il Pokémon che ricambierà il mio sguardo con maggiore intensità davvero? sì, io vado sempre a a sentimento quindi lo salvo un attimo allora se parli di sguardo sin da qui non mi pare fatti io ti dico non vorrei prendere rolet allora dai vado di Osha tu vai di Sinda ah, ce li scambiamo? eh? non volevi te Sinda? I always choose fire però posso fare un'eccezione più che altro perché ultimamente è tanto che in realtà la mia regola valeva solo per quando ero piccola è tanto che vado a sentimento allora io ti dico la vita ieri ho convinto su prendersi Sinda ero pronto a abbracciare Osha però se vuoi te Osha a me va benissimo prendere Sinda vado a sentimento mi sento mi sento ricambiata dallo sguardo di Osha attenzione ragazzi colpo di scena colpo di scena quindi dai vai tu su Sinda va bene vai dai prendo Osha va bene guarda mi piace da morire eh Sinda quindi guarda sono clamoroso al cimbali ragazzi esatto esatto curo Lili va di Osha hai visto lo so è strano ragazzi so che tutti volevate Rowlet ma Rowlet in questo caso è il più mainstream cioè io credo che c'è lo stesso ragionamento di Pokémon del remake di Perla uguale hanno preso tutti hanno preso tutti Rowlet quindi Rowlet lo escludo e vado su Osha che probabilmente non lo vuole nessuno perché Sinda è un fico faccio lo stesso ragionamento del povero piccolo Tartwig andiamo su Osha dai ce li siamo scambiati ce li siamo scambiati col po' di scena non è curioso il Pokémon che ti accompagnerà sarà proprio uno dei fuggitivi catturati alla spiaggia origine ebbene eccoti la Pokéball che ospita Osha Bot ah carino evviva ricevi Sinda qui l'ora bisogna controllare subito le nature vediamo perché questo gioco non ci sono le abilità non ci sono EV non ci sono IV però le nature ci sono ok questa è la tua esatto questa è la tua competenza quindi istruiscimi senpai ricorda le Pokéball che ospitano dei Pokémon vengono chiamate Partner Ball no cin cin guarda gli altri due sembra proprio che siano contenti per il loro amico Osha o magari volevano anche loro aiutare Lilian non mi sorprenderebbe d'altro canto se sono sono fuggiti via dal villaggio giusto quando Lilian è caduta dal cielo mi dispiace deludervi my little friends ma temo di aver bisogno di voi per i miei studi no adesso mi sento una persona orribile non mi avevano mai fatto sentire in colpa per non aver preso gli altri due abbiamo veramente distrutto la vita di due Pokémon ne abbiamo salvato uno e abbiamo distrutto due e l'universo è in debito non mi ero mai sentita così di solito è tipo viva hai scelto un Pokémon non ti hanno mai fatto sentire il senso di colpa per non aver scelto gli altri sì venendo a noi quali sono i Pokémon da catturare per questo esame? ma certo tre specie di Pokémon che abitano la landa ossidiana ebbene ecco ti delle Pokéball per catturarli ora ci si diverte sono fatti a mano ma funzionano alla perfezione andrà tutto a meraviglia si va allora per l'esame dovrai raggiungere la landa ossidiana ci si arriva attraversando la porta a sinistra una volta fuori dalla sede nella mia chat mi stanno massacrando perché ho letto due frasi ah scusami no ma non per quello figurati ma perché mi taggiano di pigrizia un pochino no era un momento così ho preso la palla al valto no no e io io te l'ho fatto fare perché non mi pare il vero nuovo servizio di doppiaggio ragazzi cioè chi l'ha detto che non sono doppiati perché non avete visto questa live allora vediamo nel menu di 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 scusami stavo ringraziando che mi è arrivato un raidone da Victor ciao Vic figurati ah let's go ah tu volevi esplorare sì io ho una natura dimmi la natura dell'oshawatt sono curioso la mia è buona ma non perfetta aspetta menu così ok vediamo no queste sono le pokeball andare di qua info ah no 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 vediamo info scurriami a destra fammi vedere audace più attacco meno speed no è incredibile perché io ho natura quiet io ho più attacco speciale meno velocità se attacco meno speed è buono no non troppo meglio la speed allora nei giochi solitamente la speed la puoi anche la posso pompare poi no nel senso la puoi anche ci puoi anche soprassedere se ti cagli il fatto che ti aumenti un attacco è buono indubbiamente quindi ti hai attacco e io attacco speciale è appropriato perché osha what può diventare un buon attaccante fisico ah ok perché la la peculiare che fa con la con chi con chi lama è fisica ok perché io vedo come attacco speciale lui ne ha di più però sì sì però comunque l'importanza anche le mosse che uno può apprendere e lui con chi lama che è fisica diciamo osha che poi diventa no samurit va bene un po' tutti e due però il fatto che tu abbia preso infatti niente ti vieta di farlo cosiddetto mixer cioè un po' e un po' e qui lo puoi fare perché tanto non hai discapito dell'altro attacco ma è la velocità amen ok allora poi ascolto i tuoi consigli per il building in un gioco come questo è ottimo se non abbiamo velocità perché male male sopperiamo con il rapid con il rapid style ah me l'ho mutata per ringraziare scusami Vic ti ringraziavo grazie per il raidone oh metto sempre i gommini sopra il pad della switch e poi mi saltano sempre via anch'io li ho tolti fastidio a me saltano via oh ti rispetta c'è un quadro di un di un naponi io ti invito ad andare a parlare con la tizia sarta vestita di viola no sono già andata dalla bionda va beh lo puoi fare anche dopo però leggi te è lì va bene va bene allora tu leggi il biondo lui chi ti ricorda lui mi ricorda dai qui non puoi sbagliare bravo si vede no si ha capelli ha capelli biondi e occhi grigi lui è Don Camillo io sono etelo un semplice mercante della ditta ginko che ginko viene da quelle due foglie che ha sul come il logo della ditta che sono le foglie di ginko queste vecchie foglie no biloba sì sì sono vecchie foglie dell'antico giappone oh senti io tre cose so di questo gioco le foglie di ginko cos'è fammle dire così sembra io stavo pensando al ginko biloba sì bilboa di aloe va bene io sono etelo un semplice mercante della ditta ginko preparati perché lui è toscano ok va bene ho sentito le dicerie sul tuo conto dicono che tu sia caduto dal cielo perdonami ma vista la mia posizione non posso fare a meno di impicciarmi cosa vedono i miei occhi hai persino un pokemon al tuo fianco davvero affascinante cosa vedono i miei occhi di elfo valutare individui eventi e oggetti peculiari fa parte della natura di noi mercanti che ne dici ti andrebbe di mettere alla prova la nostra capacità con i pokemon ma come ma tipo va bene appena presi ovvio mi garbi sempre più sei davvero un soggetto interessante te l'avevo detto lui lui viene da lui viene da marina di bibbona da marina di bibbona si si c'è proprio classico aspetto asserfista si si mi è giunta voce del tuo esame lascia che ti dia una dritta se i ps del tuo pokemon scendono a zero perderai la sfida tienilo a mente bene allora diamo il via alla lotta vedila come un modo per darti la spinta let's go lotte veramente molto che sorriso ragazzi allora dai almeno qualche allora c'è qualche lotta contro le lotte ci sono e sono super parte integrante non pensavo lotte fra allenatori sai oddio che roba strana potersi muovere mentre si combatte mi fa stranissimo via oscia volte vado a fare la spesa ciao oscia no io darò le spalle all'allenatore tutte le volte che darò un ordine giusto per fare fai poker face certo ok guardo perché mi stai gustando chi è avevo detto di dirti non lo so io mi dissocio da questa cosa chi è no siete molto cattivi carmine sono brutta persona ha vinto il tuo sindaco ha schiacciato l'avversario e direi far lottare i pokemon è un ottimo svago la lotta aiuta i pokemon a crescere la crescita gli consente di imparare mosse sempre più potenti a volte salendo di livello i pokemon imparano nuove mosse puoi cambiare le mosse da usare nelle lotte tramite l'opzione gestisci mosse accessibile selezionando un pokemon nel borsello questa è una grande figata sì perché in pratica è come il ricorda mosse integrato nella scuola sì ce l'abbiamo lì sei di quelli oh no semplificazione o di quelli no no figo no no figo ok bene sì sì anche io so come te meno c'è da meno c'è da sbattersi sono d'accordo peccato non ci siano molte persone che possono vantare di avere pokemon al loro fianco e sì che usare le pokemon non è così complesso in ogni caso vediamo di rimettere in sesto i nostri piccoli amici no bravo ti cura e te lo ecco accetta queste pozioni in segno di ringraziamento mio caro amico caduto dal cielo hai ottenuto 5 pozioni notare che qui le pozioni non danno 20 ps ma danno 60 infatti le statistiche dei pokemon sono tutte diversissime in termini di scala è 1 a 3 rispetto ai titoli normali quindi è come se le statistiche base fossero rispettate però cambiasse proprio l'equazione fra statistica e statistica base infatti la pozione invece di arti 20 ti dà 60 e poi sono delle pomatine cioè gli mettiamo la pomatina proprio esatto come diceva la nonna la pomata la pomata usale sul tuo pokemon nel caso in cui perda le forze per quanto riguarda l'esame hai tutto il mio sostegno del resto più ho meno i membri del team galassia più crescono le fila dei miei clienti è giusto è stato perciò giusto a me grazie ex alex grazie a tutti cari ragazzi incredibile non solo sai catturare i pokemon non sei persino in grado di lottare insieme a loro direi che possiamo avviarci verso la landa ossidiana yeee da me non l'ha detto yeee da te si no l'ho detto io non vedo l'ora prima di lasciare il villaggio giubilo ricordati di scegliere la destinazione sulla mappa sarebbe anche una buona idea avvisare salvo il guardiano si chiama salvo perché tutte le volte che passi di lì salvi lo devi salutare allora così facendo potremo inviare dei soccorsi in caso tu venga assalito dai pokemon e svenga ma io tanto voglio fare la vita di sbando posso? mi piace tanto mi piace tanto questa cosa dell'evaid sono ansiosa di provarla attraversata la porta principale il tuo esame avrà inizio allora ma ci sono gli autosalvataggi giusto? però mi ha detto che possiamo anche salvare noi si infatti secondo me ogni tanto salviamo che non si sa mai aspetta allora zr sopra no cos'è che si salva è già un'ora che si gioca e noi infatti salviamo no ma nel senso è volato come ti posso chiamare? io ho mutato il microfono Sara come vuoi te è uguale rispondo a entrambi io ti chiamo Francesco si si va bene a me in casa mi chiamavo Pardini mi chiamava la mia mamma davvero? si si certo Pardini Pardini a cena che si fa? si va? andiamo via si dai vado parlo con Salvo anch'io immagino tu sia Lilian mi hanno messo al corrente di tutto l'esame da missione si svolgerà all'esterno del villaggio mi raccomando fai attenzione allora ha parlato è un po' l'ucoace l'andadossidiana vuoi andare alla base della landa? si anche se sarei andata a piedi non si può sa che eh dobbiamo teleportarci ero curiosa di esplorare andare a vedere comunque è molto attack on typhan dici proprio per la conformazione della di Zui squadra di ricerca c'è questa sorta di pseudomura no? si si questo è il campo base il punto di partenza delle varie attività di ricerca per superare l'esame devi catturare tre specie di pokemon un Beedlef uno Starly uno Shinx voglio vedere con i miei occhi se quel che ha raccontato il prof è vero o meno prof qualcosa non va? ehm ecco ripensavo a quanto detto mi dà la caposquadra che sia chiaro se dovesse succedere qualcosa alla ragazza mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità ah si sta cacando se vera come sempre non che in questo caso le possa rendersi molto utile prof ma non sarà necessario che io faccia nulla a Lilian basterà fare affidamento sul suo indiscutibile talento all'improvviso sento un gran peso sulle spalle prof lo sa che non lavoro bene sotto pressione ma stiamo parlando di te Lilian e sono sicuro che te la caverai alla grande forza vediamo di iniziare stesame stuesame il mio parla pure in slang si si tu proprio allora la garbatella Luca qui dice che possiamo preparare quindi all'accampamento le varie risorse quindi immagino che appunto come nei vari Monster Hunter possiamo andare al banco di lavoro a creare però mi sa che ancora si è il banco di lavoro conferma si sono pensato si vede ancora ancora non ci fa fare quindi probabilmente dobbiamo seguire questa specie di tutorial si ora forse dobbiamo solo concentrarci sulla cattura mi sa si si per ora seguiamo tutto il tutorial e poi ce lo dirà lui quando possiamo iniziare a craftare roba oh benvenuta al collo e ambizioni a me sto stile ti giuro mi piace tantissimo veramente peccato che sia così spoglio si è vero perché io sono d'accordo con te mi sembrano quasi delle pennellate poi vedi l'erba e dici oh mio dio però tipo gli alberi da lontano io li trovo fichissimi pare tu sia un genio della cattura ma per sicurezza lascia che ti spieghi quello che ho imparato dalla caposquadra Selina ok ZL prima viduff è un pokemon pacato quindi in genere non se la dà a gambe quando ti vede approfittane per prendere bene la mira e lanciare una pokeball ah si perché qui abbiamo i pokemon aggressivi quelli pacati che quindi non gliene sbatte niente e quelli invece fifoni esatto secondo me è una delle cose fighe peraltro del gioco esatto non si comportano tutti uguali ma in base proprio anche alla specie cioè gli starly volano via i piccioni in piazza San Marco esattamente per me è una cosa fichissima cioè perché secondo me tipo i pokemon fifoni saranno effettivamente difficili da catturare proprio perché ti scappano via aspetta vedo una roba che brilla ah no era no scusami era solo riflesso ehi dove pensi di andare devi catturare un biduf e me lo distratto c'era un riflesso su un tronco sembrava tipo un pokemon shine subito proprio così sei stato al premio nobel sì allora io l'ho preso quel biduffino preso anch'io biduffino c'è un porro sono d'accordo valorizza proprio la razza cioè le varie diversità sei riuscita a catturare biduff il primo è fatto passiamo al prossimo chissà quanti ne dobbiamo catturare per riuscire a scoprire l'utopatia sì è che sembrano sembrano tutti e ora ti insegna la stealth ecco ecco uno starly quelle piccole pezzi se la svignano subito grande nick ma niente paura se ti accovacci nell'erba alta potrai avvicinarti senza che se ne accorgano io dall'inizio del gioco che mi accovaccio perché premo B per sbaglio scendere sì sto scuotando da quando è iniziato dove è andato? e comunque io vedo dell'erba lì te lo dico allora lo starly è qua mi è volato via ha migrato in Sud America io forse l'ho preso yes preso no io sto sprendendo il cazziatone da luce che mi ha detto ti ha sgridato? sì stai più attento a me dici ottimo lavoro lo ammetto forse sei davvero un genio vai intanto prendi il tuo io raccolgo l'erba vedi era un porro avevo ragione sì sì c'è il porro non può preso preso ok e si vola anche starly è stato catturato ce ne resta solo uno niente il tizio si indigna perché vado in giro c'è anche un albero con delle pere mele sì sì sono le le bacche ah sono bacche quelle quasi dimenticavo devo spiegarti una cosa sai in qualità di tuo mentore parliamo di come lanciare le partner ball le pokeball che contengono i tuoi compagni d'avventura ecco quello che mi ha segnato la caposquadra per lanciare un po un pokemon per lanciare un pokemon ah sì dopo aver lanciato uno strumento premi x mi fa strano per lanciare un pokemon wow se vuoi lanciare uno strumento dopo aver lanciato un pokemon premi sempre x semplice no? sì oh didi sì perché qui tiri il pokemon e lanciamo proprio il pokemon quando sei pronta a lanciare un pokemon prova a mirare verso piante o rocce il pokemon potrebbe raccogliere bacche e altri strumenti per te è ora di far entrare in azione il tuo compagno coraggio un ultimo sforzo catturano shinx e chiudiamola qui sì ma io cioè nel senso ho detto che devo lanciare il mio pokemon giusto sì premi x ah bello prende le baccarancia no sta cosa mi piace un botto fatti ganza sì vai andiamo a prendere lo shinx questa è la parte più bella del gioco cioè questa è l'essenza poi del gioco alla fine sì sì usare i pokemon per prendere le cose fighe ecco uno shinx anche perché devi avere secondo me dei pokemon apposta per prendere determinate cose non lo so su questo penso di no sai dici di no? cioè basti no da queste prime ore prima due ore ho fatto non sembra no dici che puoi prendere tutto con tutto secondo me alcuni pokemon avranno delle capacità diverse un po' come era magari prima con taglio no? possa sì perché poi ricalcherebbe anche sì ricalcherebbe anche il ci starebbe intanto grazie per l'host ciao chiaretta grazie per l'host benvenuti sono con francesco pardini abbiamo iniziato la nostra run su pokemon è la reunion del twitch party è la reunion no tra l'altro io convintissima che ci fosse la modalità cop invece non c'era no 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 vabbè l'abbiamo fatta artificiosamente esatto è la nostra cop riesci a percepire quanto è aggressivo shinx già no ho detto che intendi dire no niente di complicato in realtà basta fissare attentamente un pokemon per capire la sua indole i pokemon aggressivi hanno i nervi a fior di pelle respingono le pokeball ah vedi vada indietro quindi ci sono le freccine quindi c'è più facile più sono le freccine visualizzate più è facile la cattura ah quindi li vedi che vanno da arancione a giallo a verde sì anche a seconda di come ti ci approcci se li prendi alle spalle per esempio tipo quelli ostili come shinx ti dà la x sopra non lo puoi prendere quelli non si quelli non si li è solo in stealth ma non preoccuparti ti spiego subito come risolvere il problema il trucco è lottare con loro se lanci contro di loro una pokeball durante la lotta riuscirai a catturarli ti ho appena parlato della partner ball giusto bene prova a lanciarne una contro il pokemon che vuoi catturare dopo lo scontro con etelo dovresti aver capito come si lotta forza vai e cattura il tuo ultimo pokemon ok per iniziare una volta con un pokemon se va ti dico lanciagli contro una partner ball io sto rischiando l'aggressione a uno shiggs per aspettarti te lo dico questo morde bello oh cattivissimo vai partner ball mi sa che lo devo colpire con la partner ball si la devi anche tirare vicino ok 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 interesting sta cosa figa shinx guarda il tuo oh shavotte ti ha imparato niente acquaggetto che è fisica peraltro si si che tra l'altro non è proprio il massimo contro shinx però no no è normale è normale sei a posto è lui che se ti attacca ti fa male eh infatti ah cazzo io l'ho distrutto non dovevo ucciderlo anch'io l'ho ucciso eh no va catturato devi catturare il shins non sconfiggere l'idiota anche se stai lottando basta che selezioni una pokemon dal borsale la usi si si pure io l'ho ucciso vabbè c'è un altro eh si perché mi sono spaventata questo se mi attacca mi stende no perché io parlavo di attacchi debolezze te l'ha l'abitudine sai deformazione professionale oh l'ho bruciato ragazzi quanto è bello avere gli effetti aggiuntivi qui che non ti servono vai allora acquaggetto e prova a farli no vabbè ma gli faccio troppi danni no 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 subito pom preso oh ci sei anche tu si 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 siamo un party hai davvero catturato tre specie di pokemon chi l'avrebbe mai detto sei proprio un genio il prof deve essere rimasto a bocca aperta quando una tizia caduta dal cielo si è messa a catturare uno dopo l'altro i pokemon che gli erano sfuggiti finché non ho visto con i miei occhi le tue abilità pure io ostentavo a credere alla sua storia in ogni caso hai catturato tre specie di pokemon possiamo considerare superato l'esame va la mia festa campo base oh sì o siete anch'io che avevo detto io la mia fiducia nelle tue capacità si è rivelata più che fondata Lilian congratulazioni Alexis congratulazioni hai appena compiuto il mio il primo passo necessario per incontrare tutti i pokemon scattiamo una foto ricordo e poi anche lì c'è macchina fotografica vabbè ok è una macchina fotografica di quelle vecchissime che stampa su pergamena grazie buonasera per ora mi sta piacendo molto considerando il talento di Alexis direi che c'era da aspettarsi un risultato simile non ci resta che fare il rapporto alla caposquadra selina orsù così entriamo il villaggio giubilo orsù no ragazzi la level up la comincia a bere stasera quando i miei dati anagrafici cominceranno a farsi sentire cioè quando mi cala la palpebra e no cos'è che devi prendere stasera no mi bevo la level up che è l'energetica io ce l'ha la level si si gioca fino alle 4 buona quando verrà il momento potrei affidare scusa vado no 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 vai te vai te mi ero distratta e toccava te no vai fatti toccava te potrei affidare al pascolo del villaggio i pokemon che hai catturato quando parti per una ricerca ne puoi portare con te al massimo 6 beh non che qualcuno ne abbia mai catturati così tanti c'è sempre questo no refrain del fatto che orsumi ai giovani andiamo a fare rapporto mi pare strano anche la caposquadra sarà lieta di sentire l'esito dell'esame ne sono certa si è un po' come se la lente di ingrandimento specialmente magari all'inizio fosse su questo rapporto si il tipo che ti studia o la tipina aspetta andiamo da Sharon un attimo ah vai 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 che abiti bizzarvi da dove come vieni ecco perché si si bene bene tutto ok andiamo in casa ciao cacco ma sai che ti ho sognato ieri è bella la sera in galassia grazie per i 4 anni per ora mi sta piacendo però ancora siamo agli inizi siamo ancora nel tutorial quindi poi vedrò t'ho sognato ieri io intanto una salvata la giro bravo buona idea mi sembra un'ottimo idea io sono affetto dalla sindrome del salvataggio ossessivo compulsivo quindi io più su gli RPG su pokemon no l'ho chiuso tutto su pokemon di solito salvo meno però è giusto salvare sei da Selina vai vai ma non ti preoccupare io ci ho aperto il tuo stream e mi regolo anche se c'è immagino 3-4 secondi dei lei fisiologici ma insomma cerco di sembra che tu sia scampata a una vita allo sbando e a una morte sicura sono stata informata dei risultati le mie congratulazioni sei promossa puoi tenere il borsello sono sollevata ho deciso di sottoporti a un duro esame per via delle tue oscure origini ma tu l'hai superato prendi è la divisa ufficiale della squadra di ricerca i calzari cioè siamo gli unici no aspetta ma ci togli i sandali per darci le scarpe di spago? finalmente cioè perché vai all'alloggio di ieri e cambiati poi dirigiti subito all'ufficio del direttore lo trovi al secondo piano renditi presentabile porgi i tuoi saluti al direttore questa è la tua prima missione va bene onesto ciao Denzel grazie per la sub benvenuto se vuoi cambiarti puoi usare lo specchio della tua stanza dice luce fuori sì sì bisogna andare proprio all'alloggio ciao Katox abbiamo cominciato da un'oretta sì no siamo ancora all'inizio raga abbiamo fatto praticamente il tutorial no giuro sti tappini mi stanno facendo impazzire basta ritorno uno rimane l'altro è il sinistro è il sinistro sì di continuo mi esce sì sì e che poi si rovina se non li tengo non ti è capitato a te che ti si ma io uso il pro controller quindi anche io però non ti succede che poi ti si rovina tutto il boh io forse ci metto troppa energia ma anch'io sono abbastanza violento però ti dico boh male male prendo un altro a me si rovinano eh che mi scoccia poi perché questo sto usando quello di Monster Hunter che è super fico vorrei tenere eh vorrei tenere bene dork grazie per i tre mesi faccio sandali via ah bene no raga per tutto il gioco no raga mi chiedevano se la collab insieme è solo per oggi e per tutto il gioco no no raga lo vogliamo fare insieme no no vi veniamo a noia fino in fondo esatto ci siamo messi d'accordo proprio per questi giorni ok non trovo niente io già che ci sono lenti a contatto ah puoi anche cambiarti eh come piacevano i miei sandali non me no lenti a contatto colorate nocciola questa è nocciola vabbè volevo farle gli occhi color nocciola ma sono dico gialle io mi faccio l'occhi rossi da sbandato che vive fuori dalle mura marrone e il il cappellino non ce l'ho viola belli viola allora basta siamo appustosi c'è 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 una che si personalizza molto sì abbastanza ok fai glielo fatti la banda sì ancora no cappellino ragazzi lol ciao giocare roffo il mano è partito un treno a casissimo ah ma d'orche grazie per i tre ecco perché grazie d'orche vai la divisa ufficiale della scuola di ricerca ti calza pennello sembra quasi che la caposquadra l'abbia fatta preparare apposta per te vedo che ti sei cambiato d'ora in avanti sei libero di usare quella stanza dice selina prendi anche questo eccolo ecco il cappellino il berretto da capotreno strabellino tra l'altro è quello caratteristico che rimanda al diamante e perla sì e ora vai a salutare il direttore il quale è al secondo piano e anche lui ti ricorderà qualcuno ma lui ti viene proprio subito vediamo è lui proprio palese sì ah ma al secondo sono andata dal primo al secondo ulteriormente sulla scala centrale sì 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 quella sì oddio che mi dici no dai curo come ho una memoria veramente brutta mettigli un camice bianco no non è Bassetti quell'altro Bassetti no no stavo pensando quello no stavo pensando quello della quello di judo no 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 chi è lui è il prof rowan prof rowan è proprio il prof ma non l'avevo riconosciuto detto anche gold roger esatto gold roger jat robins ti aspettavo con ansia è lui il capo del team galassia capito il mio nome è sorwan sono il direttore del team galassia il nome sorwan urr quindi tu sei alexis dici che li hanno tradotti anche qua i nomi li hanno adattati anche qui dici inglese e italiano eh sì penso di sì 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 no peccato non so ruana sembra figo sembrava proprio soran si può starci anche no sì sembrava nativo urr no che suona è urr è lui mi hanno informato sul tuo conto mi dicono che sei precipitato da uno squarcio spazio temporale è proprio come se fosse sì sì ho preso la metro no è stato incredibile Francesco perché hai laggato mentre dicevi spazio temporale hai fatto tipo spazio e mentre dicevi spazio sei diventato un cyber umano è stato bellissimo se vuoi riprovo invoco ovviamente il problema no è stato proprio spazio spazio temporale perfetto oserei dire ora vediamo quanto vali un abbraccio sì sì lui vuol fare vuol fare astianti con noi subito un abbraccio vabbè lanciati addosso vai spacca la bacia affrontami lanciati all'attacco vabbè vieni un adulto contro una quindicenne proprio sì sì eh mobbing come bisogna di lavoro urr hai la scorza dura devi migliorare nel sumo ma si vede che hai ottime potenzialità molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitato dal cielo i più superstriziosi potranno persino pensare che porti con te delle sciagute beh in effetti tuttavia hai superato l'esame perciò per quanto bizzarro tu sia sei il benvenuto qui al villaggio grazie Zoster bentornato dedica tutto te stesso al team galassia e al completamento ma quanto è figo essere membro del team galassia cioè sei il membro del team che negli altri giochi è il team malvagio top ma ricorda Alexis i pokemon sono creature terrificanti sii sempre prudente però cioè se ci pensi mi piace questo ribaltamento appunto sì sì perché obiettivamente cioè tu dici come fanno questi qua dei vari team dei villain a raccimolare così tanta gente che effettivamente creda nei loro ideali e qui ti fanno vedere come infatti secondo me molto no personalmente l'interesse è scoprire un po' anche la storia del team galassia cioè come è che poi dopo sono diventati cattivi c'erano già i presupposti esatto esattamente bravo infatti è questo anche la mia cioè la mia curiosità capire se già di base avevano qualcosa che non andava fin da subito come organizzazione magari hanno preinteso qualche messaggio particolare l'hanno distorto ora vediamo ora sei un membro del team galassia di rango zero stelle sì non ce ne hai cinque vai in parlamento man mano che ti renderai utile alla squadra di ricerca avanzerai di rango più farai progressi con il completamento del pokédex più aumenterai il tuo rango membro sorvoliamo in altre parole la strada verso il completamento sorvoliamo la strada verso il completamento del pokédex ti condurrà alla meta suprema è vero che c'è un labbra va a 5 fps sullo sfondo sì io faccio finito di non guardarlo e cioè incontrare tutti i pokémon della regione avrai bisogno anche di questa è una ricetta per creare strumenti quindi ti danno le ricette per creare vari strumenti una ghicocca e un ciottolo fanno una pokéball una pokéball ah 3000 soldi grazie c'è anche la zia la zietta c'è anche grazie so come si chiamano questi pochi soldi non so pochi dollari luce tu sei esperta nella fabbricazione di strumenti ti assegno il compito di insegnare ad Alexis Lilian tutto ciò che sai in materia sarà fatto caposquadra Selina dunque in qualità di esperta nel campo del fai da te lei lavorava all'Erua Merlem ti spiegherò tutto ciò che devi sapere i membri del team Galassia fabbricano a mano gli strumenti di cui hanno bisogno per la ricerca alcuni sono anche acquistabili ad esempio all'emporio ma sarebbe opportuno cercare di essere autosufficienti possiamo anche fabbricare le pokéball che sono poi gli strumenti chi usiamo più di frequente pratico non trovi avanti andiamo alla bottega l'arte del fai da te chiaro chiaro alla bottega dove c'è Sharon no Sharon è la sarta Valina grazie per il sub grazie mille la savta vagazza eccola guarda l'ho chiamata mi presento vagazzo il mio nome è Sharon mi occupo della sartoria volevo farti i miei complimenti per la tua promozione vengo a consegnarti gli abiti che il professore ha ordinato per te ti vedo particolarmente calata nella parte dici si si ho un paio di calzoni esatto grandi il villaggio è ricco di negozi che potrebbero interessarti ti consiglio di darci un'occhiata grazie grazie Katox grazie mille per i cinque il villaggio è vicco di negozi meraviglioso ragazzi no no io adoro vai ti do un po' il cambio ehi guarda che la bottega è per di qua no curo membro o no cos'è dov'è ti parto la vasta in curo membro no ah parla con Suguru eh sono andata dal tizio aspetta forse c'è il dialogo obbligato questa è la bottega è il banco per il fai da te che vedi lì ti servirà per creare ciò che ti serve chiaro no Suguru chi era indietro era la sentinellina quella proprio fuori all'ingresso la scalinata della sede del team Galassia tu sei sei dove sei sono si si ho recuperato tieni sono i materiali per creare le pokeball consideralo un regalo per la tua promozione così potrai usare come meglio preferisci i soldi che la caposquadra ti ha dato dai un'occhiata le ricette per controllare i materiali necessari ok vedi quindi adesso abbiamo la possibilità di farceli in giro di farceli da noi sì per iniziare a creare basta che tu scegli dallo strumento desiderato al banco per il fai da te dai fai una prova ok banco vamo crea dovremo avere lo stesso numero di 21 e 20 sì esatto ok quindi facciamo boh io ne faccio 8 oh 10 dai la giriamo faccio 10 infatti una decina io ne faccio 13 perché ne ho 17 e mi da io sono uno di quelli che se la radio tipo a volume 17 mette 20 capito ok dimmi quando ci sei vai vai ancora difficile ragazzi dirvi se vale la spesa aspettate che andiamo un po' più avanti guarda siamo ancora nel tutorial praticamente wonderful una pokeball perfetta per essere la tua prima creazione te la sei cavata benissimo come ti ho probabilmente accennato i pokemon hanno l'affascinante capacità di rimpicciolirsi e la pokeball è appositamente pensata per trarre vantaggio da questa loro caratteristica inoltre per registrare tutti i pokemon che catturerai ti servirà un pokédex quindi eccolo yeah bella musica libriccino che raccoglie gli asidi delle ricerche sui pokédex oh che carino questo pokédex è molto dettagliato perché non c'è perché guarda guarda quanti quanti duty hai per ogni per ogni vediamo qui secondo me una come te ci si butta via oh si guarda esemplari catturati volte che l'hai visto usare bracere volte che l'hai visto usare attacco rapido dai ruota fuoco tecniche potenti no vabbè volte che l'hai fatto evolvere cioè in pratica hai gli achievement sì per stage proprio sì 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 questo lo si fa tutto con gli achievement raga sono tutti io non vedo l'ora ora capito cioè ho il sentiment io non vedo l'ora di buttarmi nella mischia e cercare di di fare capito l'ho preparato apposta per te spero che ti sarà utile nel tuo grande obiettivo di incontrare tutti i pokemon ah scusami ero ripartita vai vai anch'io sono qui per completare il pokédex dovrei anche portare a termine gli incarichi pokédex e lo stesso vale per me sarà meglio che mi dia da fare Lilian ora ti spiegherò i particolari degli incarichi pokédex ma per farlo dovremo spostarci alla base della landa sì che tra l'altro io cioè sempre mi metto a completare i pokédex però sto giro sarà tosta farlo io invece sono uno che chiaramente il pokédex non lo completa sì no esatto te vai direttamente alla parte competitive quindi ti dico cioè qui più che volentieri ma perché la cattura è figa cioè cioè diciamo ti spinge a farlo sì ti forza tra virgolette anche perché se no non progredisci a quanto ho capito però al di là di quello cioè lo farei lo stesso infatti ho registrato 3-4 video per il tubo e ho fatto quasi l'errore di dilungarmi anche quasi troppo no certo però sono uno di video a 40 minuti ma non ho fatto niente magari e fanno 8 views però perché mi divertivo capito capirato sì 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 ci sta no da Suguru senti non per origliare ma ho sentito che state andando alla base della landa visto che ci sei magari potresti occuparti di una mia richiesta procurami un rasoio che voglio tagliarmi queste basette ok pensavo che è vero ci hai creduto ma ogni tanto ogni tanto no no ma il dialogo è diverso il dialogo è diverso io sono un vigilante e non posso allontanarmi dal posto di guardia allora ti aspetto qui davanti alla sede del team Galassia intesi quindi quelli che ci danno i comuni mortali sono richieste esatto le sub mission va bene abbiamo le main quest e le sub quest quindi basta lui ce l'ha già data giusto quindi sì 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 ah no 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 bisogna parlarci esatto lui vuole un warpole vuole un warpole un warpole un warpole un warpole mi dico è toscano Pardini che è insesente mi dico è toscano Pardini no 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 ma mi sto trattenendo ragazzi in una maniera cioè proprio fuori di testa ma perché ti tratteni ma perché non posso mica leggere dialoghi con uno scaricatore di porto livornese ti prego sì no 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 fidati dopo dopo sì lo so big views però no no a quanto pare se i pokemon accumulano l'esperienza lottando possono cambiare aspetti e diventare più forti questo fenomeno è chiamato evoluzione adoro eviterei alcuni pokemon possono evolversi cambiando aspetto e statistiche questo invece è fiorentino con la c della spirata quando uno dei pokemon soddisfa i requisiti necessari per evolversi puoi selezionare fa evolvere nella schermata del borsello perché io vivendo 20 anni a Firenze però essendo di Livorno ho come dire tutte e due le righe di codice per poter parlare vorrei tanto avere un vulple e farlo crescere finché non si evolve tu fai parte della squadra di ricerca no? se per caso riuscissi a catturarne uno ti dispiacerebbe darla a me conto su di te per avere un vulple io lo dirò altre dieci volte ho preparato anche una bella ricompensa va bene per un vulple? per un vulple benissimo l'anda l'anda tu hai il codice livornese e fiorentino eh sì il codice è milanese e romagnolo si mi stanno molto bene scommetto che tu quando parli a Milano ti dicono che sei romagnolo e quando parli romagnolo a casa tu dici sei milanese ecco io è uguale perché ho la cantilena come milanesi però poi la parli sé come una romagnola quindi è un po' un casino giusto io aspiro la sci perché ormai quella non te lo levi nemmeno ma nemmeno se mi si si no ormai non ho più un posto dove stare capisci ovunque vado sono fuori posto non ho più non ho più l'identità siamo dei meticci si ormai sono una mezzosangue basta parliamo con Toshi c'è Imari che ha una quest qui da me allora Toshi vuole vedere uno Shinx Imari invece mi chiede se sono caduta dal villaggio e vuole uno Starly ok ha paura dei Pokémon attiviamole tutte scusa tanto mi sa che nell'anno ossidiana abbiamo modo di si vuole perché vabbè le danno serenità Toshi sarà il tizio qua giù vediamo si è quello là in fondo mentre Toshi è questa qua che vuole lo Shinx ce le siamo scambiate perfetto tu sei il giovane caduto dal cielo esatto così è anche figo esplorazione doppia esplorazione doppia guarda che c'è la farm lì è è dove è il box diciamo il box pc dove le andiamo a mettere ah quello è il box si stra bello l'orologio scarto ok andiamo verso le lande mi sembra assolutamente la scelta migliore io do una salvatina io non l'ho salvata let's go lande che carino il caricamento con la tipina che corre e io ho il tipino ovviamente anche abbastanza rapido direte vabbè che deve caricare 200 texture effettivamente no l'ho detto e poi ci ho pensato ho detto fast beh però almeno hanno hanno snellito i caricamenti no ma infatti l'hanno fatta apposta l'hanno fatta apposta raga per snellire i caricamenti certo certo ora veniamo a noi per completare il pocketex dovrai portare a termine determinati incarichi consultando il pocketex puoi verificare i tuoi prossimi incarichi eccolo là e la cosa figa ora te la dice ma gliela faccio dire a lui vediamo un po' te lo dice dopo dovrai catturare i pokemon affrontarli in una lotta o altro ancora e va bene portando a termine l'incarico ottiene dei punti analisi ah punti analisi devo darti un consiglio di vitale importanza se stai per subire l'attacco di un pokemon selvatico assicurati di schivare infatti ora ci insegna la schivata bella bella la schivata osserva bene i miei movimenti e prova a copiarli olè via però agile no? agile l'agile acrobazia che ho appena eseguito con estrema grazia nonché grazie alle mie due lauree entrambe ottenute con la lode è la cosiddetta schivata era sicuramente questo il testo l'hanno tagliato perché sennò poi i caricamenti erano troppo con una schivata tempestiva potrai evitare le mosse dei pokemon sono estremamente potenti e attacchi ripetuti possono farti perdere i sensi ah eri qua no mi son persa eh perché c'hanno dialoghi diversi io ho sotto occhio il tuo vabbè comunque è scappato è scappato quindi siamo ok quindi segui Luca e ascolta i suoi consigli va bene allora in pratica ora quando si mira un pokemon se premiamo giù della crociera ti apre la pagina del pokédex del pokemon esatto che tanto considerate che adesso raga ci sarà tutto sto bla bla perché è il tutorial poi dopo è tutto sperazione dopo tutto pixel infatti ci sfoghiamo adesso a dare gli accenti stupidi ai personaggi perché poi non c'è più niente da leggere poi il cringe finisce ecco un precetto della squadra di ricerca per te mentre fissi un pokemon ah guarda te lo dicevo un pokemon tenendo premuto il pulsante zella mentre zella famoso premi il pulsante giù e aprirai il pokédex così potrai controllare subito gli incarichi questo è comodo perché immagino che sarà ripetitivo in questo magari per completare le quest quindi ah di questo cosa mi manca apri il dex ah ma te lo catturo allora catturo oppure ho finito basta lo catturo più ad esempio tra gli incarichi i pokédex relativi a biduf vedrai il numero di esemplari catturati esatto non basta catturarne uno solo ma due quattro forse anche di più e va bene e biduf infatti dice ossa via via io mi do tiene a mente gli insegnamenti della caposquadra selina nel caso tu debba lottare premendo x potrai scegliere se lanciare la porco il contiene o se lanciare invece uno strumento e va bene va bene perché non provi subito nel frattempo io ti precedo va benissimo lo so ragazzi che a voi piace il cringe lo so ve ne do a piene mani ogni giorno vedi se noi si preme mi stava dicendo ma noi il cringe piace io ho detto lo so lo so ma infatti anche io li abituo bene se si preme giù ti dice i biduf che io ho catturato uno di cui uno pesante anche te immagino a me dice no ho semplicemente aperto il pocket aspetta no 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 miralo con lo zl con l'l2 del buon vecchio play ho tirato un rap pocket ball senza volere vabbè non l'avevo anche preso sì ma non volevo vabbè vai da un altro vabbè non è un problema ok allora biduf con lo zl no aspetta io invece gli ho tirato sin da quello in testa con lo zl faccio giù ah vedi biduf perfetto beh così comodo eh capito tipo te pesanti niente pesanti no eh a me invece me lo dava pesante vedi wow madonna come expano quando catturi a manetta proprio guarda come livellano i pokemon quando catturi è livello vero il biduf che hai preso ricordiamoci la quest che era allora qui mi dà gli esempiari catturati ma non posso vedere devo andare a vedere cosa scappi dannato alimentario ecco da qua allora erano un 4 un 4 e un 3 sì ma tipo adesso ve ne ho troppi che cacchio faccio li libero non posso liberarli eh no non puoi dobbiamo ritornare lì alla staccionata al maneggio tanto prendiamo i porri ma vediamo cosa dice qua Luca ti ripeto il precetto mentre fissi un pokemon apri giù apri il pokex ok prova a esaminare quelli relativi a starli va bene zietta senza farsi notare quindi questo lo dobbiamo prendere in stelto mi dicono appena finito il gioco l'assassino è il maggiordomo eh in chat da me eh va bene ok grazie dg sì mamma mia queste parti di tutorial dove ti ripetono 6 volte le stesse cose allora vai lo spostini oh che bello che si ovatta il suono quando sei in stelt si ovatta e viene la similombra hai visto sì ma diventa anche ovattato cioè proprio sei in si acuiti io io una delle mie dei talloni da killer sono le modalità stelt sì anche i miei io faccio schifo però farò del mio meglio vai fermo maledetto piccione l'altro scappa quindi ah no è scappato ah starli preso madonna come livellano sì a manetta devo prendere questo questo non è conscio della mia presenza io quando quando vedo scappano gli lancio gli lancio sindaquil così ah gli lanci direttamente sindaquil per fare il combattimento sì così così rimanga lì ma guarda è preso no cioè uno sì però no non è vero non l'ho preso si chiama vignettatura guardo grazie Damian cioè l'avevo preso ma è scappato dalla pokeball di nuovo è scappato il mio è scappato dalla lotta il mio è scappato dalla pokeball due volte guarda te poi si muovono è anche difficile prenderli quando si muovono mi piace questa cosa non è immediato killrack grazie per i 31 meno male abbraccione no no ci sta aumenta la difficoltà cioè è tosto uh su starli cazzo mi ha sentito però io volevo un altro paio di star oh non c'è verso guarda che non vogliono entrare parla piano parla piano mi scama madonna ti fa il forno alle patate vieni vi oh alleluia non ci ha visti non ci ha visti boni 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 maledetto cazzarolo ho tirato un'altra che avevo già tirato mi puoi tirare un'altra anche mentre sta io ho finito le pokeball ficcando la pokeball eh io ne ho 22 te ne hai 15 ne ho 14 hai il banco fai da te quindi vai ne ho usate tantissime no non le ho finite però ne ho usate un botto grazie giuri salve grazie mille ragazzi per i tanti abbonamenti siete meravigliosi ragazzi giù c'è shinx ce lo vedi questa questa landa è abbastanza ampia onestamente io prorò a prendere questo shinx io ho presi due vado a provare a prendere anche io lo shinx comunque queste rocce sai che mi sanno di rocce che si possono spaccare quelle lì grossocce magari no non lo so guarda ti dico la verità io ho appena lanciato una ball su uno shinx che dormiva poverino io provo si li sveglierà in un laboratorio di ricerca per il cosmetico allora il cattivert allora andiamo oh di cocche di cocche forse avete ragione vuole che io guardi il pokedex può essere non si possono lanciare i sassi no l'ombrio ma l'educazione no i sassi in cassa qua vai ho preso anche lo shinx io ti consiglio di prendere ghicocche a nastro proprio per gli alberi perché mi dà l'idea che si debba veramente fare tante bolle qua si si insomma hai visto il livellano anche quando shard di la roba quando no non c'ho fatto caso cioè se lanci sull'albero si comunque poco poco ma livellicchiano questa parte esplorativa mi piace un pozzo ma infatti il leggende è questo si è tutto così con tutto il suo spixellame ma il leggende è questo si è proprio roba che ci va da nozze infatti è il tuo no si si la roba così che va in giro esplori catturi dov'è burple l'ho trovato a destra devi andare verso est ok no io intanto ho trovato porri veramente eh burple mi fa comodo è aggressivo ma no è allerta quindi devo schivare no forse ci devi lottare devo lottare no come ho abbandonato la lotta non volevo non volevo non volevo proviamo o dove ah no è perché gli ho tirato l'oshowat invece che che la pokeball ok mors mea ciao grazie sconfitti volte la sconfitti non so ciao ciao con la manina ciao a chi è appena arrivato ma devo trovare anche io burple li trovi aspetta fammi aprire la mappa allora devi andare con le ambizione verso verso est di con le ambizione ok ok vedi poi buttalo si si sto guardando ok ci sono dei cristalli interessanti quindi la mappa innanzitutto l'attivo col meno sai non sono lontano io ci ho piazzato anche il cursorino io non riesco neanche a prenderli lanciando le pokeball dovrò proprio imparare a lanciarle bene eccoli lì le burple li devi devi lanciare bene ma infatti guarda cioè la risposta di guardini è sempre la lotta se io sto combattendo io volevo provare a prenderli senza lottare ma è difficile cioè sto sprecando un sacco di pokeball più caldo una certa mi sa che conviene oh l'ho preso una certa mi sa che conviene quasi lottare è giusto per indebolirli perché se no non esci questo a me me lo prende lo shower lanciacelo ho preso burple ho preso anch'io quindi tecnicamente mi sa che possiamo si ne prendo un altro anch'io e poi mi sa che possiamo si tecnicamente possiamo tornare a perché tanto voleva uno schinx ah ho fatto partire la lotta per sbaglio vabbè ah prendo anch'io vai il cristallo può far comodo grazie ridden crib grazie raga oh c'è un pichu un pichu? proprio pichu no lo vado a cercare anch'io dove c'è burple? ci sei anche te probabilmente però non so se magari ti spona o meno no no fermi raga fermi questo va preso no raga il pichu lo voglio anch'io non facciamo cagate sono rimaste solo 5 pokéball sta dormendo piano 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 allora facciamo che questo schinx lo faccio fuori così li tiro direttamente la pokéball pichu preso anch'io lo voglio si vola ma guarda è dove mi hai mandato te a prendere burple se vai verso la catena montuosa verso la catena montuosa guardi sono esattamente dove mi hai mandato te ok lo devo vedere no aspetta spero che ti sponi anche a te no sì spero anch'io ma più che altro così riusciamo anche a capire se effettivamente ah sì così riusciamo anche a capire se che ne so ci sono magari differenze di spawn io penso che sia un po' più rarino non gli aspetti eh no lo best è diventato potentissimo mi ha ucciso a livello 6 è anche alto eh sì a volendo si può scambiare quindi se vuoi pishu se lo vuoi mettere in squadra io tutto offro no ma spero di trovarla anch'io adesso provo a fare un giro qua più che altro devo rifare le pokeball perché magari le ho usate ne usate un po' vado all'accampamento magari a ritrovare allora vai un attimo dove ma non c'è bisogno lo puoi craftare dallo zaino adesso che ci ha dato proprio il kit se non ho capito male ah avevo capito di dover andare all'accampamento vediamo quindi tu dici strumenti base no aspetta da qua allora strumenti r strumenti base dice pokeball preferito o buco no ancora no mi sa che non so che devo andare per fare l'accampamento hai ragione te quello che cos'è audio di gioco doppio bene come mai audio di gioco doppio eh ora tocca a me Sara vedi no no vabbè si risolve in un attimo ragazzi ammuto la spengo la capture e la riapro tranquillo si ogni tanto raga stanno svalvolando si ditemi un po' ora signori grazie comunque per avermelo segnalato sto cercando il piccio disperatamente però solo tre pokeball allora girati fammi vedere un po' eh no con tre comunque rischi mi sa che è un discorso di spawn probabile però lo cerco ah già mio povero shawet è morto grazie ragazzi torniamo alla base eh perché se no te non hai dai adesso è normale ok abbiamo risolto intorno per vedere se c'è un piccio uffa beh vedi già abbiamo trovato delle differenze ma tu alla base sei tornato a piedi o si sto tornando a piedi spero sono in direzione giusta si si è un buon porting per playstation 1 devo dire però raga sti cazzi ma infatti ve lo dico onestamente a me della grafica proprio no e purtroppo sai se avessero fatto meglio non è che ci si schifano no no ma infatti cioè sono anni che chiediamo alla game trip di impegnarsi un attimo con la grafica diciamo che insomma sia io che te mi fa di capire da questo punto di vista siamo sulla stessa linea cioè si nel senso ce li godiamo comunque io me lo godo lo stesso c'è pokemon quindi mi piace a prescindere però sono d'accordo che un po' di impegno più non avrebbe guassato guarda sto tegame volevo catturarlo niente ragazzi lo scopo è a fine di tutta la mega run e che curo dica almeno una volta tipo in maniera naturale o boia de o boia de guarda sto tegame cioè ecco che è assolutamente ho trovato arrabbiatissimo dovrebbero anche più buizze ah ecco esatto brava ecco buizze rifatti livello due di scogli ora ha paura fagli male io vado di scinga e si vola ok vai due risolamenti certo che non dovrei farli male infatti mi sta prendendo ma l'importante è che non faccia troppo male ma allora sicuramente sulla switch portable rende sicuramente meglio questo certo sarà che io è più piccolo è più piccola normale si poi sull'oled probabilmente avrà dei colori incredibili dice è raro ma si può trovare anche ibm se ti interessa si mi interessa tantissimo e io questo lo sapevo perché spoiler su youtube l'ho trovato proprio qui io in ogni caso devo andare a prendere le pocket ok c'è luca qua io guarda provo a catturare buizzele e poi preso arrivo vai 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 allora vado da luca così ho anche lui nuovo vai ci sono anch'io farla farla pure molto chillino qui nei paraggi dovresti trovare un pokemon chiamato buizel grazie ho già preso sì è un pokemon aggressivo come shinx quindi ti attaccherà con le sue mosse stacci attenta se lo vorrai catturare dovrai lottarci contro grazie per il trenino ragazzi uno degli incarichi pokemon di buizel prevede di osservarlo mentre usa una mossa specifica il che significa che dovrai affrontarlo è chiaro insomma capisci da sola che lottare è essenziale beh raggiungimi quando pensi di aver finito con gli incarichi di buizel beh andiamo subito al campo base perché mi sembra sì andiamo al campo base così faccio un po' di football anch'io ho solo 10 sai ne ho chissà quante io ne ho buttate tantissime anch'io ne ho buttate 2 o 3 proprio nel niente io ne ho buttate proprio tante dov'è però il campo base dove mi guarda un sacco di luce ogni 3x2 mi fa malutare l'albero in fiore porri sono da Luca sì sì arrivo ah qui c'è non ci sei c'è le ghi coccone le ghi coccone vai ci sono anch'io vai pure te la stai chiamando bene per essere una tizia sconosciuta piombata dal cielo ti regalerò un kit fai da te in segno di riconoscimento oh ottimo grazie adesso ce le possiamo fare sì senti è transi che permette di creare strumenti che in assenza del banco fai da te ah però sai che secondo me sono a utilizzo se selezioni il kit fai da te tra gli strumenti base del borsello potrai creare strumenti ovunque tu ti trovi in qualsiasi momento tuttavia potrai utilizzare solo i materiali contenuti del borsello ahhh ok e non potrai creare più strumenti di quelli che è possibile portare con sé all'interno del borsello stesso quindi conviene farli al campo perché lì hai tutti i materiali mentre col kit fai da te puoi fare solo quelli che cioè puoi utilizzare solo i materiali che hai già nel borsello infatti in chat mi dicono non usateli sono monouso ok grazie pica immaginavo infatti ti do anche la ricetta per creare pozioni è meglio usarli sai nelle situazioni di bisogno quando serve quando proprio serve che ecco hai davanti che ne so poco hai un pikachu shiny e dici ok lo devo prendere so perché pikachu vabbè hai ottenuto la ricetta della pozione oh vai anche pozione con il kit fai da te potrai creare strumenti ovunque ti trovi utilizzando i materiali che hai nel borsello finché avrai bacche ghicocca e ciottoli potrai creare pokemon ball a volontà pokemon ball pokemon ball a volontà con una bacca arancia e un porro officinale puoi invece creare una pozione usala per rimettere i sessi i tuoi pokemon ok da me è finito lo spiegone ok come procedono i carichi pokédex sulla copertina del pokédex puoi vedere su quanti devi ancora fare rapporto dacci un'occhiata non vediamo fatti tutti no io non tu hai fatto hai completato tutto qualcosa del pokédex secondo me sì perché dovevamo prendere i carichi secondari sì quelli sì io penso di sì io dicevo gli achievement proprio del pokédex quelli no sì io ho catturato ho catturato un sacco di roba ah sì ma sai cosa anche ogni tanto bisogna anche alcuni acime hanno tutti lo sconfiggi sì bisogna ogni tanto lottare ogni tanto bisogna anche proprio brutalmente ammazzare qualcuno perché se no esatto quando hai completato un po' di incarichi ricordati di andare dal prof laven ci si vede no fantastico ho sconfitto un vulple che mi ha dato una bicocca baccata bene o meglio baccata allora io una pozione il bioncino gliela do a sinda sta piacendo sì ho trovato ivy vai piglialo piglialo oddio ho solamente due pokéball però fai un buon lavoro di come provare a combattere sì eccolo là ti sto guardando eh però scappa no scappa ma non lo farò scappare capriola capriola ma è scomparso merda sì è andato via bastardi cioè proprio io pensavo che scappasse fisicamente non che proprio una certa puff non combatterci scappa dovevo prenderlo in stealth vedi qui proprio ti fa capire che alcuni devi prendere in stealth che non è non è banale no non è banale ma fico infatti mi piace cioè c'è proprio la possibilità che effettivamente ti compaiano e ti scappino via mi piace sta cosa cioè so già che smadonnerò fortissimo più volte perché sicuramente sai perché il pokemon della vita lo vedi e scappa però è una meccanica che mi piace tantissimo cioè da un po' di pepe ma sto esploricchiando anch'io vediamo un po' cosa viene fuori dici meglio andare avanti così poi possiamo come vuoi cioè per me tanto il gioco è questo quindi chiaro secondo me più si va avanti più magari si trova probabilmente meglio andare avanti perché così poi ci manda magari anche in altre zone no più che altro perché te lo dico l'hai preso? l'hai trovato? aspetta eh magari tornavo no è scappata anche a me maledetto anche te eh c'è un ponica però oh ponica lo vuoi? sii dove l'hai trovato? perché poi ti farebbe anche comodo un fire te lo provo a prendere ma le male te lo scambio così almeno si prova anche gli scambi andiamo un po' preso nice io vado al campo a captare le pokeboy così vedo di trovare cose fighe anch'io ma devo venire anch'io perché c'ho si c'è la main quest certo certo c'è la main quest ci sono le missioni secondarie ci sono gli achievement del del pokédex quindi raga c'è un completismo pazzesco raga ma spill c'era per davvero grazie k un saluto a te e curo ciao allora crea ce ne sarebbe anche un altro diponica avrei trovato anche un altro che se magari se mi passa davanti così ti do quello con la natura meglio ah vabbè ma tanto per me l'importante è completare il pokédex eh capito ma se si riesce non costa niente ti do quello no? si grazie sei in più a cavallo donato come si dice in questo caso è proprio adatto aspetta posso far riposare i miei pocoli si quelle univi? fermi tutti univi o un bidouf? non ci sono i capopalestra qui ragazzi no perché è tutta un'altra cosa siamo in un'epoca in cui non c'erano ancora le palestre la gente non era cioè non era così come dire scontato che la gente avesse dei pokémon ah che poi volendo possiamo anche riposare tipo fino alla sera fino al mattino per vedere di trovare anche altri pokémon che sai che spawnano in base all'orario e al clima andiamoci dentro eh cioè tecnicamente uno può andare a dormire e poi tornare e cercare di insomma catturare pokémon diversi provo un attimo a riprendere quel divi se ci riesco io ti ho preso tre point grande e binoff fuggono eh comunque sti luridi ma c'è spill davvero ragazzi oppure una battuta per il meme di warrine perché se c'è lo prenderei non mi sembra l'habitat però da me è partita la musichina con il violoncello con la viola prime impressioni ragazzi è che dal punto di vista grafico non c'è da d'ascondersi talvolta è un disastro che potevano fare meglio il però onestamente in questo proprio punto si esprime al meglio il gioco perché onestamente è molto godereccio la ricerca del pokemon la steltata gli tiro la pokeball lo combatto cioè è figo veramente veramente se sono d'accordo è proprio godereccio questo game cioè se ti piace se vi piace esplorare se vi piace proprio andare a cercare i pokemon questo secondo me è un titolo che da quel punto di vista dai il massimo e io non sarei neanche uno di quelli cioè vada bene pure star di mo sto provando a sconfiggere i bidouf per cioè sono curiosa di vedere che cosa succede quando effettivamente completi tutti gli achievement penso tutti tutti non si è così subito non penso sia possibile dici un pokemon fanno vedere un po' eh tipo adesso sto provando il bidouf che sembra essere abbastanza semplice per cui dice di cattura degli esemplari pesanti di sfidare di sfidarne un tot perché anch'io devo sconfiggerlo per esempio tra pokemon e pokemon snap si si ha quella parte esplorativa e di ricerca dello snap quello si senti come il lore sembra mystery dungeon come esplorazione si un po' snap un po' un po' terre selvagge un po' un ibrido tra diversi titoli pokemon c'è da dire che raga veramente cioè quanto era che chiedevamo ai giocatori pokemon comunque un po' di innovazione cioè qualcosa di diverso proprio dal punto di vista del gameplay io apprezzo comunque il provarci cioè poi magari non a tutti piacerà però io apprezzo l'averci provato a darci qualcosa di diverso il problema tra virgolette è la grafica è che dici sai i piccinini sono una piccola software house sono il brand più o no il problema è solo la grafica secondo me generale perché poi appunto gameplay può piacere o non piacere è ominabile però graficamente lo si vede ma che poi si perde in cavolate si perde quando attraversi l'albero che ti fa la fogliata di pixel perché poi le cose vanno bene ma poi ti dico lo stile a me piace moltissimo come sono disegnati tra virgolette come sono disegnati realizzati i personaggi in pokemon a me piace il problema è proprio i pixel che è troppo evidente e livello ce l'hai te osha osha 1 al 9 ok io sono un po' avanti sono all'11 grazie data grazie ragazzi allora grossa taglia catturati volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo elettro ah vedi devi anche utilizzare determinate mosse si si o fammi vedere shinks cosa mi dice esemplari sconfitti se ne sconfig un altro ho speso il budget di fitorio si fantasma sì che poi ci sarà anche la meccanica delle mosse pesanti e delle mosse cioè mosse agili e mosse strong sì delle potenti e le agili sì quella poi più avanti probabilmente ci introducono dovremo andare avanti allora su star gli esemplari sconfitti ne dovrei sconfiggere un altro va bene e mi invitate a nozze e scappano eh sti maledetti veramente evasivo starli no allora no devo essere più vicino io se sconfigo uno starli ci dovrei essere come quest diciamo ah io vedo veramente qua tante cose vai sto provando un evade io ho visto una roccia che sbrilluccica come se ti desse qualcosa in più guarda io ho già lo strong style o meno perché forse ho passato il 10 proviamolo subito ok comunque conviene esplorare no eh conviene esplorare ok eh vedi c'è qualche robina interessante eh no riesco tirare il pokeball nel modo giusto più vicino vicino oh cosa attacca eh ma facciamo che mi nascondo perché prima scappi via poi smadonna salutiamo smadonna è un mio storico utente mi sa che devo stare proprio molto vicino sono troppo lontana probabilmente per quello riesco polvo, stella e ciottoli ecco perché brillava ah è scappato da me sono in gold in gold hour lo sai ah bellissimo allora vedrei anche da te cala e qua è cattivissimo io provo a sfidarlo non so è solo che ho paura che scappi però se è aggressivo non dovrebbe fuggire no e quindi non bene infatti tecnicamente posso sfidarlo aia ma hanno ucciso sindacul cioè se è aggressivo ragazzi posso attaccarlo sermine junior niente steso scint così città ah non voglio prendere un pokemon non voglio fargli troppo male sì posso indebolirmi con gli altri pokemon infatti qua conviene indebolirlo con un altro pokemon sì sì assolutamente a un po' base ti curavano anche ti hanno curato sì devi riposare cioè la tenda puoi riposare fai oh hai scappato qua non ho capito cosa è successo hai scappato cioè ci stavo combattendo ed è fuggito mentre combattevo fanno come nella vecchissima zona safari boia raga è veramente difficile così sentite ragazzi ha già detto il primo boia ci siamo ci siamo io sono esaltata dalla difficoltà di questa cosa ok interessante raga sono tosti da prendere molto tosti a me mi hanno sdraiato sin da quella all'11 tutto quello che non hanno messo nella grafica l'hanno messo nella difficoltà sì ma anche a me guarda mi stanno shottando è presente quando tipo inizi i primi titoli cioè gli altri titoli pokemon all'inizio sei lì con i tuoi pokemon che sono tutti oppi come lo schifo ecco forget forget that cioè questi ti shottano da livello 2 ciao not today a me fanno impazzire le musica grazie da me è notte comunque grazie ah e da te sta diventando vedo sono affogata che è oh sono affogata benissimo è stato bello continuo da solo ciao no non ho capito cosa è successo tipo sono finita in acqua sono affogata e boh vedevo tutto tutto strano cacchio ho parlato ho parlato con Flavin per sbaglio ma ho fatto il check delle ricompense grazie per le 10 sub grazie mille è sempre fantastico grazie di cuore e buonasera Dario bentornato dalle carte sì ho trovato maledizione due di gran festa che mi mancavano sì 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 molto contenta molto molto ehi ponita anch'io ho trovato un ponita è aggressivo no ok è molto facile onestamente io le ho steltate io lo so mi sto steltando io ho sbagliato ho parlato con Flavin ma mi sta cioè mi sta cecchiamo avevo anch'io non ti preoccupare arrivo aspetto vai dai vai arrivo ho preso il ponita volevo solo curare ma no vai sereno ho perso il ponita vabbè il coso laggiù prendilo dai ma sì tanto guarda possiamo anche andare avanti tanto qua ci torniamo dopo dai sì secondo me sì aspetta cos'è quella cosa che brilla così è quella prendila oh no non hai capito c'è un ponita alfa via 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 quello è un rapidash via 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 perché via dici che muoio eh secondo me lui ha il 30-40 dici ha gli occhi rossi io devo vedere Francesco cioè io devo devo sapere vai 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 però poi scappa perché non ti trebbia tutto devo vedere il suo livello vai vai è lo spirito del gioco quindi fallo sì sono curiosa raga aprite tutti lo stream squad di tutti e due così ci guardiamo gli uni mi ascolto dietro un albero non credo funzioni così con rz posso vedere il livello 40 via via stavo bello vado via proprio con davvero le gambe ciao provo a lanciarla a pokeball mi sa di no quelli li devi quelli sono gli alfa vanno per forza sconfitti in combattimento gli alfa ragazzi non si possono catturare in stealth mi sa che faccio il giro largo per tornare indietro sai prendila giù prendila giù c'è vede roba che sbrillucica eh lo so ma volevo passare però c'è quel rapidage che mi fa paura ma secondo me se corri non ti dici perché l'utore per me è un rapidage però ci provo no dai è un rapidage stai alla larga dici troppo realismo però questo lo devo prendere via 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 arrivi al boccio via via sì le mappe raga purtroppo sono abbastanza diciamo vuote come come impressione sì no diciamo che i pokemon ci sono quello è un pichu dove pichu no lì nel lento eh c'è un po' anità ah sì scusami ok no mi sembrava eh se no mi hai gasato no perché no ma posso scegliere quale prendere niente per forza il bidu voglio l'altro forse ok questo è piccino è un po' un ponita ponita proprio bravi raga aprire la modalità dovete a dove c'è regala abbonamento cioè guarda in modalità squadra cioè perché tipo adesso che io sto aspettando guardando lei almeno ve lo godete anche voi esatto se guardate il squad ci vedete tutti e due quindi vedete il punto di vista di entrambi è riuscita a vedere anche quali i pokemon prendono Francesco e quali io ti sembravano buttati via a caso no si vedono da lontano i pokemon no no li vedi da lontano infatti tico perché così li vedi e dici ok voglio quello cioè non c'è più la comparsa nell'erba a caso che qua proprio li vedi vai sto arrivando scusami ma il rapid dash mi aveva cos'è cos'è aspetta cos'è oh un dribbling perché è bu perché è notte eh si vai vai sei autorizzato al dribbling grazie ma guarda quel cielo però il cielo è bellissimo avevi ragione guarda che bello che è mi hai sgamato vedi ti viene incontro eh non sono qui non sono qui ormai 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 sì se non lo vedete il bottone ragazzi è ricaricato dico per il cielo è fatto bene raga tutto il budget di pokemon di pokemon legenda è nel cielo sì assolutamente sì ecco io lui non l'ho però hai preso yes io mi voglio mettere in squadra elekid electa buzz electa cioè di essere in elettrico oh nuovo dribbling lo adoro 50 metri questo è finalmente il titolo dove mi posso fare la squadra di pokemon libera da preconcetti di è forte non è competitivo ah io quello proprio sai no lo so te che giochi competitive certo voi potete io ormai ho dei preconcetti che non mi ah si può salire sulle montagne sì 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 a caprioline che poi tra l'altro adesso si senti anche le musiche sono rilassantissime no no ma infatti questo gioco qui è la chillanza sì la chill la chill proprio anche i pixel vanno in vacanza infatti sì sì ok sono dal prof vai vediamo che valutazione ti dà un kit fai da te dunque luca deve averti detto tutto ben fatto dunque adesso ti parlerò dei rapporti sulla ricerca per farla breve sono ciò che ti permette di ottenere delle ricompense ok mi dà del denaro fammi controllare gli incarichi pokemon che hai portato a termine wow pokemon catturate 18 rapporto su 10 o più completato specie pokemon catturate 7 pokemon catturate per la prima volta 7 pokemon catturate con un colpo si fa le 2 è uguale tu hai picci devi trovare picci interessante notevolmente interessante permettimi di aggiornare il pokédex con i nuovi dati ah ok aggiornato il pokédex ah vedi cioè ci ho dato i dati praticamente con i cibi preferiti anche però non tutti questa cosa dei cibi la devo capire cioè non so cosa eh allora penso che mi li possa tirare affinché siano più più docili esattamente cioè su questa cosa mi ero informata io praticamente il cibo preferito se ci sono dei pokemon che sono particolarmente schivi e tu li vuoi catturare ad esempio pensa se vedi uno shiny e lo vuoi catturare assolutamente gli lanci il suo cibo preferito così lui si mette a mangiare e mentre lui si mette a mangiare tu gli tiri la pokeball e cerchi di catturarlo in stealth mentre per i pokemon quelli aggressivi puoi calmarli con i cibi preferiti ok quindi bisogna aprire la pagina pokédex di turno e cercare di capire esatto tipo vedi allo starly vuole miele vuole la verdura e i baccelli non so cosa siano quelli il bidou vuole i funghi cioè ognuno di loro ha magari cose in comune tipo il wormpole che ne ho catturati diversi li dà quasi tutti tranne uno i cibi preferiti tipo pokemon go bravissimi che gli dai la bacca per blandirlo un po' si è si è anche di safari game è vero i like it ok tu sei più avanti mi dicevi excellent vai il tuo impegno nell'incarico ipote l'ex merita un riconoscimento credo proprio che sia giunto per te il momento di avanzare di rango giusto torna al villaggio giubilo per fare il rapporto alla caposquadra selina sono certo che ti promuoverà ok oh vai e poi ricordiamoci di fare sosta anzi io la farei subito qui a sinistra già che ci siamo al box al box si andiamo a mettere giù roba signora voglio vedere un po' così guardiamo un po' di un po' di pokemon allora tarli vabbè non ci interessa vuoi lasciare qualche pokemon qui con me? chinks burple ecco fammi vedere un po' questo ardente vabbè più attacco speciale meno difesa speciale fa un po' schifino 0 0 0 hai notato attorno alle statistiche c'è 0 0 0 1 2 3 sono tipo le V no aspetta fammi vedere allora 0 0 0 dov'è dove è che stavi guardando? ecco lì dove c'è proprio dove c'è le statistiche c'è scritto attacco attacco speciale vedi c'è 0 2 ah si tipo attacco speciale mi dice 2 cosa vuol dire? vanno da 1 a 10 deve essere tipo il valore dici quanto hanno expato? adesso i V e Dev sono un unico valore mi dice la chat ok quindi c'è più gli alleni più velo glielo porti avanti quindi ti dà il livello di quanto hai expato quella caratteristica esatto o di quanto già lui magari geneticamente è avanti è buono è semplifica cioè più che altro non devi andartela a cercare diversamente hanno unito due sì no ma le stat ragazzi hanno sempre expato però in questo modo te lo fa proprio vedere cioè diciamo è visibile giusto? io ci avrei sì non ho detto una cappellata no non hai detto una cappellata si chiamano EL infatti ok si imparano e io nulla ho un ponita però vabbè l'hai preso quindi ce ne hai due anche te quindi non importa che natura deve avere ponita buono? così gli altri li libero dimmi cosa c'hai fra quelle due allora natura cauta natura scaltra allora scaltra aumenta difesa e cala attacco speciale confermami ma dovrebbe esserci adesso lo dico aspetta eh oppure ah sì ne ho due cauti uno cauto e uno scaltro vanno bene comunque tutti hai avuto un gran culo quello scaltro aumenta difesa speciale e cala attacco speciale tanto lui deve essere fisico capito? cioè deve attaccare di attacco fisico ok quello scaltro ha meno attacco speciale e aumenta la difesa fisica questo è quello cauto quello scaltro quello invece cauto altra indifisce sì diminuisce l'attacco speciale sono uno che aumenta la difesa e cala attacco speciale quindi è indifferente vanno bene tutti e due? sì guarda quello che sono meglio nelle altre cose sono pari livello poi sì no vedi così mi insegna anche come guardare queste cose sono pari livello entrambi sei allora aspetta quindi io non ho ancora niente che mi ispira da mettere in squadra mi ispira mi ci metto pichu perché è stato il simbol però non lo allevo ecco mi ispira di più quello con più difesa sì che forse è anche meglio peraltro su un pokemon del genere che c'ha anche due in difesa speciale vai approvato libero il secondo libera aspetta prima di segnalo tutti quelli da liberare ma li liberi? o li lasci? ma io finché non ho problemi di di mu sul box no io so che prima o poi li avrò quindi già libero io ti consiglio di non farlo perché magari se c'è bisogno per qualche quest hai ragione dico portami dieci ponita sei rovinata sì sì è vero hai ragione hai ragione hai ragionissimo stiamo lì dentro non posso segnare ah segna devo fare segna no vabbè ma il ponita buono se lo vuoi allenare mettitelo già in squadra scusami che te lo vieta a meno non vai a giro un 3d no no infatti no ma me lo porto lo metto qua ma invece ah ma perché quelli che ho del pascolo sono tutti quelli che mi tiene lei sì è il box capito? ok rimandiamo lì mi porto osha od bidu starly shins ponita e drift no però al posto del ecco invece mi dicono per esempio che se li liberi se ne avete 10 danno i robi per aumentare le EL vabbè ma li libereremo quando ne avremo 10 per adesso secondo me ok quindi quando ne abbiamo 10 li liberiamo a pacchi eh dai sì ok si sciardano allora posso ritengo il burple al posto del bidu io intanto parlo con l'omino gli faccio vedere shins sta musica mi piace veramente troppo io c'ho il piano anche te sì ho un piano di notte uguale sì dovevo portare un burple lui burple è suguro laggiù lui shins vuole le orecchie però non so se glieli devo fisicamente portare no 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 vanno bene dal box basta che dal box mi sa allora lui dopo controlliamo il pony tre pozioncine e va bene poi c'era la signorina qui voleva vedere uno starly esatto lui voleva vedere le orecchie di shins ah no lei vuole che si completi la pagina degli starly io non l'ho completata no nemmeno io e allora torneremo poi stica come si fa eh poi la facere bisogna farlo evolvere almeno una volta andiamo da andiamo qua alla porta prima prima parla con suguru che anche lui era una quest il vulple famoso chi è che non l'ho ringraziato raga appena poi ringrazia tutti chi è che non l'ho ringraziato ok credevo di aver di aver ringraziato già tutti la sedia ok l'ho ringraziato Mau l'ho ringraziato o svariono raga come lo chiamiamo il vulple si tu li rinomini no no è che esci se esci vai da da suguru dal ah devo uscire si si ah ok allora aspetta quello fuori dalla porta quello che ci chiedeva di fargli vedere ah è vero che abbiamo una costa anche da lui e lui ti quando glielo mostri glielo regali proprio come lo chiamo beautino beautilio beauty beauty no mi sembra ovviamente scontatissimo beauty beauty beautino beautilio beauty berto il mio si chiamerà beautilio tanto tanto è il suo buono il miele ah mi avete baitato no infatti no allora è vero sicuramente c'è più cura sugli interni che sugli esterni perché se guardiamo effettivamente la creazione degli interni non è così bad anche anche la mappa antincendio sembra quasi della struttura si no se guardi proprio proprio gli interni sono fatti bene il problema è fuori eh esatto gli interni sono più piccoli e facili da gestire però guarda che bellini cioè qua è guarda che bello quel sindac wheel no vabbè che carini eh osha sarebbe stato lì no guardate ci sono roulette sull'albero e il sindac wheel che mangia sul camino e infatti c'ho osha watt dentro l'acquario e roulette sull'albero ok parliamo con selina sentiamo cosa ci dice sta vai fammi controllare il tuo pokédex ok cosa vuoi vedere non so cosa voglio vedere ma penso voglio dare un'occhiata così che se premi B poi è contenta hai fatto notevoli progressi meriti un aumento di rango ah non siamo più rango dobbiamo diventare rango membro è lo scopo sì è lo scopo di tanti scopo del gioco è rango membro sei ufficialmente promossa rango membro monostella del team galassia evviva ragazzi siamo dei ranghi membri dobbiamo diventare 10 stelle non credo si possa interagire con gli interni proviamo adesso possiamo usare le pesable pokémon fino a 20 chili ah no fino a livello 20 pensavo pesable stai fresca in a 20 chili bacca di cocca e un ciottolo nero ah vai le ricette la peso un po' ciottolo nero però abbiamo due ciottoli rossi è sorprendente come una forestiera piombata giù dal cielo come te riesca a sopravvivere in questa terra selvaggia ciò dimostra il tuo innato talento oltre che il tuo impegno la gente tende a diffidare di ciò che non le è familiare tuttavia avanzando di rango persino una sconosciuta caduta dal cielo come tre come te potrà guadagnarsi la fiducia degli altri è l'unico modo che hai per continuare a vivere in questo villaggio inoltre avanzando di rango potrai usare nuovi tipi di pokeball e ottenere ricompense maggiori mia vita da balordo fuori dalle mura no ormai a schivare la morte è solo un ricordo vuoi fare il ragazzo studiato solo un lontano ricordo per oggi è tutto vai a rifocillarti alla tovaglia di lino e riposa sì la tipa è proprio gioiosa è pragmatica ilia my dear bisogna festeggiare il lieto perché è diventato kermit bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione quando si festeggia anche i soliti moci di patate mi sembrano deliziosi parlando d'altro hai accettato la richiesta di suguru la gente del villaggio che non sa assolutamente nulla sui pokemon cioè bellissimo il mutismo selettivo del protagonista e quando sorgono problemi è compito nostro capire come risolverli in pratica in materia di pokemon siamo dei tuttofare per accettare delle richieste puoi parlare con la gente che incontri o controllare la lavagna che c'è nel mio studio a questo proposito dimmi Luca di cosa trattava quella richiesta d'aiuto che hai ricevuto credo che sia meglio che se ne occupi Lilian ci vuole qualcuno portato per le lotte pokemon se non sbaglio era una richiesta di ah la signorina Rizza del team diamante team diamante era già stanziato in queste terre ben prima dell'arrivo del team galassia con un po' di buona diplomazia potrebbero fornirci preziose informazioni sui pokemon ma se ne riparlerà domani per oggi direi di andare a letto good night good night e la lavagna con le richieste suona tanto mystery dungeon ti ricordi con la pokemon mystery dungeon ciò lo dopo sì sì gioi tutti bellini 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 mi piacevano tanto anche quelli cillosi ehi Lilian avresti due minuti prima di incontrare Lisa voglio vedere come se la te la cavi nelle lotte ah vuole combattere tizio il pardo ti è finita di lusso eppure la narratrice dalla voce suave bella acquisto visto godless c'è costata però voglio dire ti aspetto all'area allenamento allora se hai catturato tanti pokemon ricordati che puoi andare al pascolo per scegliere quali portare con te oh let's go lorenzo grazie per la risabbina bentornato lore quindi laggio in fondo guarda il tipo che fa dei passi davanti con il suo burp sì sì lui ormai è la tipa qui fuori salmon quella lì ecco li sa qui al banco degli scambi è qui se vogliamo scambiare vedi sì sì punti gratitudine vedi poi possiamo provare poi proviamo a tenere qualche pokemon particolare così li scambiamo dai ci sono vado io grazie di essere venuto ho preso una decisione importante di che si tratta sai anch'io ho un compagno ha fatto il suonino di mandocelli le pubblicità in radio ora si applaud placement anch'io ho un compagno è un po' un combina guai ma non posso demordere se vogliamo completare il pokédex hai un compagno esatto ti presento il mio compagno pikachu non è giusto che lui abbia pikachu ragazzi non guardate guardatemi negli occhi guardatemi 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 non guardate non guardate l'ombra guardatemi guardatemi va bene e ascoltate chiudete gli occhi quando sono stato attaccato da uno gix ho avuto un blocco mentale per via del terrore ovviamente lottare insieme a pikachu era fuori questione da allora si rifiuta di ascoltarmi per di più non ho davvero idea di che istruzione dargli per farlo lottare pika no scusa come pika pika no raga è uguale è lei pikachu pika pika ma che dici ma che dici allora per la prossima puntata c'è io ho una carissima amica che odia pikachu alla follia anche io l'odio devi allenarti e farmi giga pikachu hai presente quando viene giga maxato pikachu no che fa sembra che abbia sembra abbia fumato tutta la pika vabbè vieni segna avanti tuttavia dopo aver visto quello che tu e il tuo compagno siete in grado di fare ho capito che noi due dobbiamo impegnarci di più per cui desidero sfidarti voglio imparare come lottare con i pokemon e noi accontenteremo sdraiandola in due turni let's go sicuro lì ragazzi doppiatrice di pikachu non ce l'aveva mai detto in realtà in passato volevo da bambina volevo farla rumorista stavo le giornate a doppiare i poteri fantasia oh a me mi ha mollato un 50% così no infatti vorrei cambiare poi tecnica potente bene qua a me ha distrutto sindaco maledetto ho paura non so se prende le ponita ho capito che non posso sfruttarmi non volevo sfruttarmi volevo cambiare poco vabbè io l'ho l'ho sconfinito l'ho morduto con con però mi è costato ok no io l'ho sciuttato cioè l'ho fatto fuori con oshower però a te non ti ha attaccato si mi ha attaccato mi ha fatto malissimo però ho resistito a me mi ha fatto la tettina potente quel vile no io ho resistito uh nuove mosse capite ragazzi eh l'asso delle lotte perde malissimo da pia cioè lei tranquilla peraltro con lo starter svantaggiato con lo starter si è proprio presente no no puro ci insegnerà a esplorare noi gli insegneremo le lotte perché si si e noi ho sciavotte perfetto noi con sindaco il terzo perfetto bella figura di me era una sciavotte nace si non aver paura ti ringrazio per la lotta potrei sbagliarmi ma per un attimo mi è parso che pikachu e io ci capissimo no non ce l'ha messo ci ma ce lo metto perfettamente pensieri l'uno dell'altro va benissimo grazie no mi triggeri mi triggeri troppo spero sia all'inizio di una grande amicizia pikachu no da me invece dice devi sapere che non lo faccio mai uscire dalla sua pokeball perché ho paura che mi salti addosso come tutti gli altri se mi è terrorizzato dal suo pikachu non amo bene ok forse mi sbagliavo dopo tutto in ogni caso mi impegnerò nelle ricerche collaborando con il mio compagno come fai tu grazie andregold sempre che riusciamo ad andare d'accordo si intende e qui la tabella dei tipi certo può far comodo non è cambiata vero questo gioco no sarà sempre uguale tabella che io dimentico sempre anni di competitivo buttati nel cesso ma poi giocherai competitivo non ti preoccupare io con la memoria terribile che ho figurati ma te ti siedi al tavolino fai pica pica e avversario si ritira allora sei tu la regola di cui parlano tutti oh ho questa poi Anita raga è nella nella vallata iniziale questa però l'abbiamo li abbiamo trovati tutti i due questa baldanzosa la pilla io sono la pilla e sono a capo della squadra di vicilanza pocosa eh sì e ho visto lottare e devo dire che hai stoffa ma vorresti vorrei darti qualche dritta se non ti dispiace la caposquadra la pilla è maestra di un'antica scuola di arti marziali un pokemon addirittura apprendendo a fondo i segreti delle mosse è possibile cambiare le caratteristiche con l'uso di tecniche diverse qui ci spiegherà la tecnica la tecnica potente ah eccole qua le mosse sferrate usando questa tecnica sono più potenti ma l'azione seguente sarà più lenta la seconda è la tecnica rapida le mosse sferrate con questa tecnica sono meno efficaci ma l'attrazione seguente sarà più rapida l'attrazione cosa sto dicendo io sto laggando ragazzi mi sta laggando ma è normale no sembra un sappia leggere bella figura ragazzi io sono ancora laureato ma vai tranquillo è la stanchezza può persino permettere di sferrare due mosse prima che l'avversario abbia mosso un dito tecnica rapida tecnica potente mosse normali puoi decidere liberamente selezionando sinistra o destra noi facciamo sicco il capino secondo me lui annuisce va bene no raga oggi si va avanti oltranza cioè day one è il day one fino alle 4 di notte noi siamo qua l'ultima cosa facciamo settimana prossima se vuoi insegnare delle mosse fortissime ai tuoi pokemon fammi un fischio grazie all'insegnamento di la pilla potrai affrontare anche i pokemon più temibili ma adesso richiamoci da rizza che ne dici ti ricordi quello che ti ho detto ieri sera da la tovaglia di lino vorrei che fossi tu ad accettare la richiesta di rizza il luogo del nostro appuntamento con rizza si trova ai piedi del colle ambizione scegli il pokemon da portare con te assicurati che conoscono le mosse giuste e raggiungimi lì posso contare sul tuo aiuto giusto? ovvio ah wow ho dei ragazzi in chat che hanno già incontrato pokemon regali gg grandi che sono più avanti di noi si forse beh però ho già pokemon regale è figo ma secondo me ci tocca e ora vedrai tocca il regale senti si va si va diretti alla mission abbiamo già fatto il riordino del box prima stai uscendo dal villaggio fai attenzione mi raccomando andiamo yes explorer ferma cosa craftatina di ball io non c'ho più nulla ma beh le possiamo fare all'accampamento hai ragione si fanno lì ma di cosa ma di cosa mi preoccupo e facciamo il camp gli do un po' il cambio boom ebbene ti ho spaventata scommetto di si te lo leggo negli occhi beh era proprio quello il mio intento d'altronde prestami orecchio per un istante vorrei parlarti di una tecnica segreta per catturare i pokemon si tratta della tecnica segreta del colpo alle spalle colpisci un pokemon alle spalle con una pokeball e rimarrà tonito i pokemon colti di sorpresa in questo modo saranno più facili da catturare e si ritroveranno in svantaggio se affrontati in una lotta ma scusami se gli tiro una pokeball alle spalle non è tipo la cattura stealth sono confusa ma se li prendi proprio da dietro come l'uomo volante a quanto pare ok lo rincoglionisci va bene arricchire il pokelex per la squadra di ricerca significa avere la possibilità di imbattersi in ogni singolo pokemon di isui per quanto mi riguarda tenderò col fiato sospeso il giorno in cui porterai a compimento questa tua grande opera ok va bene c'è un tizio qua con una ricetta ai fondi vediamo cosa vuole boni sono indietro non ve ne parlare anzi mi devi insegnare la ricettina che hai fatto l'altro giorno con lo zucchino è facile zucchine c'è una pancetta c'è una pancetta alla fine però alla fine la pancetta facilissima zucchine in padella con un po' d'olio un po' di cipolla e poi alla fine metti un po' di cipolla e poi scusami di cipolla su cipolla e poi alla fine ci metti un po' di pancetta e poi vai farfalle o la pasta che ti pare è uguale abbiamo argomento e giochiamo ma senti tu cosa fai poi tu ti fermi per mangiare o vai avanti io posso andare avanti tanto prima delle dieci non mangio quindi ah tu mangi dopo sì sì io sono devoto all'esplorazio io mangio mentre gioco sì sì tranquilla no no io non salto i pasti mangio durante ormai sono abituati a vedermi mangiare lui vuole il fungo gommoso vai allora creiamo non posso fare le pokeball pesanti però faccio le altre io ne faccio più che posso ora magari non 46 posso fare anche due revitalizzanti me le impedisce di farne 46 nessuno credo infatti io non posso fare perché non ho erivital bocci erivital bocci sì io ne ho fatto il bio sì è una è una richiesta arrivo subito tra l'altro guardo un attimo se ho qualcosa da mettere su arrivo vai vai ok lei vuole vedere un criceto abbiamo abbiamo anche ok ciao vatskan signor striver li fornese mi fa spisciare però va benissimo io invece di prendere i biduf vediamo se mi ha aggiornato gli obiettivi in volte che li hai visto evolvere ma anche zero esemplari sconfitti allora sconfiggiamoli ragazzi bello e la soscia è smart ma curo ragazzi è un fenomeno sì sinda è veramente bellino sinda è veramente bellino ci sono aiuto sono indecisa dopo se farmi da mangiare ordinare qualcosa eh potrebbe essere la serata sì sì qualcuno ha detto di di nini stasera ci strebbe mi hanno sgamato tipo in parte si entro correndo una capriola nell'erba probabilmente felicissima di rivederti bugio stai bene allora allora vai obiettivo dove l'hai preso Emanuele l'ho trovato nella dove ci sono tutti i vurple tipo qui a destra sa che vuole che andiamo nella zona del sì bisogna andare laggiù ma io tanto vado un po' zigzagando proprio un attimo a guardare nella zona a destra se trovo il piccio vai vai oddio ma quanto è grosso sto schinx sì lo vedo anch'io ce ne ho un enorme anch'io che prendo da dietro proprio anch'io che vitello questo viene ragazzi sì anche questo che vedo io un vitettino enorme bacca baccata anche senza fare cose particolari io così mi diverto ciao manuele devo andare in giro c'è non so sarò infantile stupido insomma a me mi diverte non è che per forza bisogna sempre avere roba frenetica eh ma c'è questa tendenza che se non ma no in realtà non è così la gente dice che è così ma non è così altrimenti perché perché il mondo giocava a minecraft cioè tra quello che si dice e quello che si fa ci passa un treno credimi molta molta più gente ama giocare in relax piuttosto che quella che ama giocare roba frenetica fidati chi è? oh ah non eri solo niente ma è possibile che mi abbiano attaccato due chips? sì sì sta stendendo l'oscia oh mi sono tirato da una rupe dritto su una roccia eh mi la puoi oh porca miseria io continuo no non voglio fare l'azione potente ah ma perché sto giro potevamo anche cambiare io continuo a sbagliare i tasti sono abituata ai tasti soliti mi viene da premere i tasti soliti mi fa strano R quando il pomeriggio faccio che ne so Yu-Gi-Oh su Play 5 che hanno tondo e X invertiti come conferma nulla è è tragica ti capisco benissimo vabbè Jim i cocci i ciotoli sono questi qui questi qui rossi c'è uno snorlax oh eh però c'ha l'occhi rossi incazzato nero è il mio pokemon preferito quindi è il tuo pokemon preferito snorlax quellino che rispecchia i miei valori molto carino il gioco per ora sì raga molto carino mi sta piacendo beh non lo so magari sono 22 valori non mi permettono allora vediamo se mi ci fa andare perché ho paura di affogare e devo attraversare un guado sono buttata alla ricerca delle ho provato una pietra focaia sai che questa forse se è fissa la puoi prendere anche te e ti farebbe stracomodo per ponita ragazzi aiutate ponita si è si no ponita si evolve a livello 40 se non ricordo male non si evolve con la pokemon si si dopo mi pare al 40 dopo il 40 ponita ragazzi io lo devo ingaggiare è a livello 45 non lo prenderò mai arrivederci signor snorlax ho buttato in una bolla che sono impedito danna scuola d'un botto l'atmosfera marco ciao grazie per il secondo mese ben tornato quello lux ho trovato un'evoluzione di luce c'è il piccio c'è il piccio c'è il piccio e io ho trovato l'evoluzione di shinks oh nice al 17 cacchio questo bisogna provarci ragazzi via dalle balle pure un ferro anche io ora questo mi devasta no via dalle balle porca merda usa il peso e non ne ho no ragazzi questo mi fa fuori tutta la squadra mi devi dalle balle ho un burple appiccicato al culo non mi fa prendere il piccio eh burple sono famosi ancora mi lasci stare cosa vuole vai via mannaggia questo bruco mera io se ti consola tipo mi sta letteralmente distruggendo tutti lui ah hai attaccato quello grosso si vorrei fare una battuta dottore non la fare grazie basta mi sta one-eatando tutti è 40 è al 17 l'immortacci sua no si gira attenzione raga la cattura dei pokemon fatta in questo modo è una delle cose più divertite l'ho attaccato per sbaglio sono una babba vabbè può andar bene se non l'ammazzi no è uscito maledetto ho usato il pokemon invece che la pokeball sparami vabbè dai ormai sappiamo che è lì tornerò a prenderlo un'altra volta ormai merda c'era lì ho tirato il ponita invece della pokeball questa cosa è veramente tricky perché cambi di continuo per prendere i materiali no 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 non me lo prende niente devo demordere pulmi in denti niente basta io ho perso tutta la squadra quindi il grande campione me ne manca uno ma speriamo di farlo e ho trovato un l'evoluzione ho trovato un luxio al 17 abbandonato la lotta via non ho più niente andiamo bene qui c'ho anche snorlax che mi blocca la strada dai calmo è tosto veramente sono tosti ragazzi i pokemon qua bene via oh quantomeno non è un giochino non è facile perché ho sentito il rumore di un iperraggio ah è lui l'avete sentito ragazzi sai che io devo tornare al campo base perché vi ripeto non ho più niente c'è un piscio ne hai trovato un altro sì ma ho un burple al 6 quindi ho lo stelto niente ma già bello è visto ma cosa attacchi brutto tegame ma cosa lo sto provando a prendere a parte se vuoi ti do il mio c'è tanto io non l'ho preso hai preso un altro piccio sì mi dispiace per colpa mia per colpa mia perché dove è il campo base devi guardare sulla mappa mi chiede se voglio andare alla base della landa lo sai la base del sandalo la base della landa mi dice voglio andare sì ho capito sandalo no no ma perché alcune risorse brillano perché ci sono anche strumenti extra tipo polvo stelle e roba starli e allerta starli e fuggire come ci si cura allora se sei all'accampamento riposati per curarti devi riposarti basta che ti riposi e ti dici anche fino a che ora solo un po' solo un po' se ti riposi di più poi cambi notte e giorno bene oh ciao richard proprog ciao belli grazie per il ride ma buona sera ma ben trovati comunque quando vuoi procediamo va bene sì no perché secondo me si sblocca si sblocchiamo altre meccaniche qualche po' aree pokemon nuovi così almeno andiamo oltre gli shinx vado verso il ponte allora sì arrivo anch'io sto attaccato con le risorse girate per il ride come state è andata bene la life allora ok passo da di qua quindi arrivo sono nella landa dei ponita ci sono solo ponita raga se cercavate i ponita cioè nella zona o l'est ci sono solo ponita hai preso il drill che puoi evolvere burple bravi ragazzi può evolversi non l'avevo visto non si evolvono da soli no ci devi andare nel menu e premere x ah sì provo guardiamo un po' ma veramente resta a osservarci che cosa strana fammi provare wow che figo no non mi dite niente aspetta devo provare anch'io allora le evoluzioni più belle di sempre ma nell'info allora vai su un burple sopra che livello è no te ce l'hai al 6 deve arrivare a ok quindi nessuno si può evolvere cioè me lo accorgo al 7 al 7 fra pochino burple si evolve mi dicono che mi lampeggia la palla quando si possono evolvere ok ciao ciao i pizzo l'hai preso il drift room no io no io no io sono un botto basta che vai verso 6 allora la grafica ragazzi scusa è cura ma non ho nessun parere la grafica non è il massimo chiaramente c'è c'è delle belle spixelate abbastanza pesanti però il gioco è molto possibile infatti doppio peccato però nel senso sì veramente avessero fatto una grafica veramente degna sto gioco sarebbe stato veramente una bomba tripla sì sono d'accordo perché a me le meccaniche piacciono tantissimo io mi sto veramente divertendo ok io sono arrivata al ponte arrivo un porro buona frittata un porro buona cena chi va tanto ci ritrovate qua vai ci sono ok oddio ah c'è un manch là ah dicevo dove ce l'ho davanti la zona tra il ponte pulula di pokemon molto pericolosi devi avere almeno il rango rango monostella per ah aspetta il rango giusto per passare vedi di stare in campana e se si mette male vai in un posto sicuro riposati ok e qui ehi per di qua questa parte questa è lillian tu ho una faccia nuova non che faccia grande differenza per me se sei qui vuol dire che puoi aiutarmi no tutti simpatici e adesui sono risa un capitano del team diamante suppongo che prima o poi bisognerà spiegarti un po' di cose sui capitani e sul team diamante altrimenti sai che rizzate ma ora vediamo al punto c'è una cosa che vorrei che sistemassi subito per me come te la cavi coi pokemon credi di essere capace di affrontarli non so ovviamente fammi fare lo sborone capisco torna da me quando sei pronta per iniziare oh shit no non ho fatto la sborona e quindi aspetta ovviamente ah meno male quei principianti della vostra squadra di vigilanza sono stati totalmente inutili volevo fare la modesta invece questo è il mio compagno Munchlax io e lui siamo praticamente cresciuti insieme non ho bisogno di infilarlo in una palla ridicola come fate voi per farlo lottare al mio fianco immagino la tua amicizia sarà altissima se siete insieme da una vita ti vorrà molto bene questo Munchlax se siete insieme da una vita che non è mai diventato Snorlax no ragazzi ma ha shottato brutto colpo sin da qui cioè qui i giochi passano ma io rimango lo stesso dai ma non è possibile trottolamento brutto colpo morto ha fatto malissimo anche al mio cuore adesso può farvi restare meglio ok sì ma cioè benvenuti cioè io maledizione ma non è possibile ma anche in leggende nemmeno Wim molla la scarogna ma allora vorrei provare a utilizzare la mosca vai giù anche sta io ho una squadra non so ok ok su tono shock non posso allora parto da tono shock questa è stata più forte grazie per i due mesi ben tornato perfetta ma no ma il rotolamento mi sta devastando i pokemon eh sì perché poi ogni colpo è sempre più forte capito vai potente vai shinx attacco potente oh l'ho parrato eh non colpo prima di morire tanto non so per me morirà grazie davy a te quanti ti hanno fatti fuori a me tre a me per ora due però vabbè il ponyta ce l'avevo già praticamente con due hp e poi mi ha secato lo shinx che invece era pulled mi metto contro la mia arma segreta oh shawatt vai scelgo te dergantis ciao grazie per il ride e grazie a freeze va hai fatto fuori però madonna ragazze benvenuto benvenuta grazie ce l'è voluta eh angela vai ok ora ora me li devi curare tutti rizza no le rizzate le portare io l'aspetto approfitto vado a fare una più rapida ok vai alla fine mi ha fatto fuori due porti dai la shawatt l'ha stesa la shawatt is cool la shawatt is very cool lei aveva solo un pokemon si ma considerate che qua tecnicamente non ci dovrebbero essere gli allenatori e diceva praticamente che nella cioè nella storia nella lore era strano aver catturato più di tre pokemon sicuramente c'è qualcuno che ha più di tre pokemon però sono quelli mega uber forti considerate che noi siamo considerati fortissimi proprio perché abbiamo tre pokemon ne abbiamo catturati tre in realtà non ne abbiamo sei vabbè però si può evolvere adesso? ah dopo il dialogo allora guardo dopo controllo si sarà il burmple così vediamo come sono le evoluzioni sono curiosissima prima la reazione di francesco mi ha gasato no lo devi mutare smutare tu arrows per vedere si tra l'altro ragazzi per chi non lo sapesse per chi è appena entrato in canale stiamo facendo una running cop con francesco pardini e se volete vedere entrambi i punti di vista basta che andate a vedere sopra c'è un link che vi porta direttamente alla stream squad così vedete entrambi ovviamente l'audio ce l'avete solo di una persona cioè dovete scegliere uno dei due ma tanto ci sentite entrambi qualsiasi audio voi scegliate perché eccomi ecco ti mi sono appropriato di un avanzo di tortiglias hai fatto bene grazie per gli abbonamenti boys ci sono munch vedi vede munchlax e mi viene da mangiare hai battuto il mio munchlax pensa un po' sei piena di risorse tu mi sei battuto bene munchlax muoio ora rimetto in sesto i pokemon che hanno lottato e in aggiunta ho anche qualcosa da darti voi del team galassi avete il pallino del fai da te e no allora ecco dei materiali per te tu e i tuoi pokemon siete davvero affiatati mi hai molto colpita mi ricordi il grande eroe di cui si parlavano le leggende che mi raccontavano da piccola ho deciso ti affido il compito di sistemare quel pokemon alpha che infesta l'altura a gran corno basta che non sia il rapidash perché ciao sai cos'è un pokemon alpha no è un pokemon enorme molto più grande del normale beh allora vieni sull'altura a gran corno sai dov'è giusto se no no ti prego basta questa continua a fare ste battute orribili lo dirà almeno altre dieci volte secondo me suona il telefono non sapete cos'è un telefono ma è un telefono sta reagendo a qualcosa quel tuo strano coso lì sembra stia indicando la strada da prendere interessante la tua mappa sarà un'altra diavoleria tecnologica del team galassia la mappa indica si si chiama telefono la mappa indica la direzione giusta l'altura a gran corno è da quella parte allora lascio fare a te di sicuro non avrai grossi problemi ad affrontare quest'alpha il nuovo acquisto della squadra di ricerca stoffa meno male se no basta no ma poi glielo fanno ridì cioè capito si di un po' tu conosci il sommosinno vero? ovviamente non faccio più la modesta sommo che? non ti sfugge proprio niente però giusto per sicurezza non lo conosci? ti racconterò la storia che aggiorno io vai ah no no ah ok dicevo che di serio chissà da dove vengono le tue informazioni se fossero tutte panzane sai che ridate vale il sommosinno dominando il tempo plasmò l'universo nacque così la terra di Isui nacque così la terra di Isui oh sì ti prego vai dove oggi vivono i Pokémon noi del team Diamante siamo i discendenti di coloro che attraversando il mare giunsero ai Isui per venerare l'onnipotenza del sommosinno tuttavia si narra che il sommosinno decise di occultare la sua presenza pare che non si palese l'anima viva oramai da tempo immemorabile anche oggi esistono dei Pokémon legati al sonosinno sto derivando verso Silente però non è voluto è il compito di noi capitani è prenderci cura di loro uno di loro si trova sull'altura Gran Corno in lui scorre il sangue di uno dei Pokémon protetti dal sommosinno finito l'aria sulla quarta corda seguimi è ora di andare arrivo ehi c'è un cricket dot dove? davanti a me ah ok sì hai ragione eh cambia la fauna vedi? eh sì ma tu sei giorno o notte? notte anch'io ah evolviamo il Wurple avete ragione preso Cricket Hop vai può evolversi ecco guarda che bellezza apri il menu yes guarda che meravigliosa vai evolvero no vabbè no vabbè spaziale bellissima bellissima strabella raga la grafica è una caccata ma porca miseria che animazioni fiche ma infatti tirano fuori sta roba sì cioè sei lì che dici maledetti sta animazione era bellissima cascun molto bella molto molto bella è cascun raga è quello che va messo anche per i monopattini elettrici allora vai sei cugino di Risa che risate cioè non mi puoi uccidere così cioè fai fin per educazione capito almeno la prima live hai ragione dovevo fare cioè capito tipo come dipende gli anime no ara ara cioè fra un pochino no quando magari ce l'hanno visto uno due giorni tre giorni allora dici no cioè così subito ragazzi cardato da curo lì subito cardato c'è Driflum vieni qui perché sto camminando non so con vaccino ero lì per fare bisogno Driflum livello 10 usa ipnosi ovviamente il mio sindaco è colto da improvvisa sonnolenza è ancora troppo assonnato no no ma tranquillo no no ma tranquillo eh tante giorni e notte abbiamo un sacco di no ormai lui mi ha visto posso tirarmi la posso decidere di non tirare la pokeball no ormai una volta che ero messa in canna devo tirare per forza ma no se provi a passi al pokemon forse no ah si? non lo so lo farai probat cazzarola lo sai che potremmo fare probat tu hai già un'idea delle squadre da fare? no io vado proprio sempre a sentimento a parte che io le cambio di continuo eh ma qui bisognerà livellare no? eh lo so allora di norma io cambio pokemon di continuo perché non voglio la roba facile quindi cioè mi annoio se diventa troppo facile quindi letteralmente io cambio cioè li faccio evolvere e li cambio li faccio evolvere e li cambio faccio così di continuo finché non completo il pokédex però oh zupat però però è un titolo difficile come questo esatto questo è difficile quindi sicuramente farò la squadra ma ancora non ho deciso niente cioè andrò a sentimento in base anche a quello che trovo con le moon creche tutta anch'io porri porri quanto ne vuoi ah eccolo lì scappato dove vai maledetto bello se non scappare metto dietro ho preso zupat tra un pochino ci si evolvono anche gli starter si preso cricetot dopo un tot di ore di gioco posso dire onestamente che adoro il gameplay proprio mi piace molto il gameplay e considera che io come hai detto avevo cominciato a registrare giusto due episodi perché devo fanno uscire due al giorno non volevi staccare non mi volevo staccare cioè passata cioè da adesso in poi passato qui che è passato i tutorial si adesso inizia la parte più divertente cioè la prima parte è normale è pallosa ma è sempre pallosa in tutti i pochino perché appunto sei lì che devi imparare tutto oddio ti è male ti è spammato tu ti è spettato che bellino con l'immaginina del del fuoco con il loghettino dello status tra l'altro dice siano cambiati degli status ah sì cioè ma gli effetti sì cioè alcuni non ci sono proprio più e anche l'addormentamento hai visto non è che proprio non attacchi hai tipo una percentuale di non attaccare ma aspetta la bruciatura abbassava l'attacco del nemico dici che non è più così non lo so dovremo scoprirlo perché tutto segreto poi ci sono proprio degli status nuovi ho letto sai io tutto ciò che concerne il competitive basement è un pochino ma tu dici che questo avrà del competitive no zero no è comunque impossibile anche perché secondo me a novembre esce la nuova generazione di 6 mesi ti lo dico ah secondo te già quest'anno buttano fuori e ti dirò di più in maniera abbastanza prendilo subito prendilo su perché quello scappa no no ma già mi ha visto cioè mentre io lo vedevo lui mi vedeva ci siamo visti contemporaneamente quindi no ecco io tipo Abra farebbe gola anche a me però ci siamo visti contemporaneamente cioè è stato proprio ciao ciao ci siamo guardati negli occhi e lui si è dato raga vi ricordo di guardare comunemente la live yup così vedete entrambi i punti di vista wow ho trovato uno starly alpha staravia 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 allora staravia di cocca di cocca baccata ho fatto ho fatto mi ha arato sì sì t'ha fatto fuori no no anche perché il pony t'ha morto allora c'è l'omino se parli con l'omino guarda dove sta andando in alto ah per lui no vabbè ma non posso catturare se parli con un omino ben vestito all'inizio diciamo del restringimento dove parte poi la gola fra le montagne sulla sinistra ok ho trovato un sacco di abra fra francesco ho trovato un sacco di abra è sulla destra a lungo fiume allora sono sotto sì guarda e io ho trovato un warmadam per esempio scusami un burmi la preevoluzione eh vabbè ma tipo avvicinarsi senza farsi vedere eh no lui per esempio ciao prova prova a circunnavigarlo l'altro bello largo perché uno è scappato istantaneamente ce l'ho visto subito provo a stare qua finché non è più vicino anche questo è scappato moledetto scusa eh provo anch'io allora dove diavolo sei di là verso il ponte verso l'acqua via 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 veloce veloce ok e me l'ha messo KO vicinissimo non me ne ero non me ne ero resoponto cazzo è lontanissimo togli sta poco l e alto tira una bacca qua eh io non so se usarlo chitto fai da te che è sta bacca ho tirato una roba che puzza qua ah i cibi non avevo ancora provato a usarli i cibi effettivamente io devo ritornare al campo perché mi hanno riammazzato il mago del competitivo qua non sta facendo altro che morire di continuo eh vabbè ma senti no vai 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 no 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 me ne devo andare di continuo perché vedi ricompare ricompare però devo aspettare che mi compaia vicino cioè fa così lui vedi compare riscompare subito è bastardo si dice la foto lo devo prendere anch'io ma sei al di là del ponte e poi subito a destra o subito a sinistra guarda spianata fila vento ehm subito sotto spianata fila vento ok E te ti hai fatto un bel pezzettone a destra Sì, sì Io andavo avanti Si è rifata Sì, stavo raccogliendo un po' di loot Quando vedi reggio Calabria vuol dire Devi svoltare Proseguivo con loot Oh, c'è anche un Cricket at Alfa immenso No, ma Cricket è un quello, vado via proprio Quello è ignara Oh, i Pokémon Alpha sono veramente terrorizzanti Grossi Sì Allora, penso di essere dove eri che E infatti No, non c'è C'erano tre Abra in quella zona Devo andare ancora un po' più avanti Sarà via livello 16, oddio Eh, quello forse, forse puoi provare a Ho trovato del pezzo di ferro Ce l'hai mai trovato? No Sono arrampicato un po' in alto su una montagna È un po' in alto Sì, ho fatto di dire lo Starable Troppo grosso Wow Urmi No, due Pokémon per volta Maledetti Vabbè, questo mi sta vedendo palese Vediamo se posso provare a lanciargli del cibo Magari troverò qualcosa che mi piace Urmi Lo vorrei anche Ma chi è? Anzi, mi tocca prendere e togliere C'è un Cricketune Sì, è un Cricketune Per me c'è anche un Cricketune Alpha Volevo provare a dargli del cibo Dato che ormai mi ha visto Mi stanno crittando anche qui Pezzo di ferro L'ho trovato anch'io Eccolo lei Sì, esatto Vai Sono Andre Mi sono effettivamente allontanato Ancora tanti Abra Sì, è proprio la zona degli Abra questa Vorrei provare a vedere un po' se Ci metto le manine anch'io Sennò provo a prendertene uno Adesso devo fatti scappare perché Pensavo ce ne fossero ancora Mi sono andata un po' A piporitto Ancora, ecco, ne ho trovato un altro Guarda Provo a prendertelo Vai, vai Mi pare vero Farsi beccare Sta lì Che fatica ragazzi Che fatica con i Mi fuoco non Selvatici Eccolo Eh, poi vogliano farsi Uh, rispauniamo Eccolo, ho trovato anch'io L'hai trovato? Ok Sì, però mi sa che Eh Scomparso di nuovo Bello è scomparso Infatti Niente Ah no, ma scompare e ricompare Sì, no, allora Scompare e ricompare E finché non ti vede Se ti vede se ne va proprio istantaneamente Quindi scompare e ricompare Devi aspettare che sia abbastanza vicino Per provare a lanciargli la pokeball È veramente difficile Cioè L'ho curato per Dieci minuti buoni Quello di prima Tutto bene Adesso Oh, grande Dai, così abbiamo i nostri Dai due Abra Eh, quello ci sta a mettere In squadra Abra dà soddisfazione Sì, molto D'accordo Tutto bene Stiamo facendo Questa run Su Pokémon Leggende E mi sto divertendo un sacco Extra bello Come dicevo prima Mentre eri a mettere su qualcosa Sentivo Sì, sì Ho le cuffie wireless Che peraltro T'ho copiato È divertente farlo in Che cosa? Sì, è un'altra roba Ah, le cuffie? Sì, sì Mi saranno rotte Ho visto Avevo visto le tue E mi trovo molto bene anch'io Sì, le G435 O le G735 Non ne ho la più paglia di idea Sono quelle leggere Leggere O quelle un po' più grosse Sì, sono super leggere Ok, allora le G435 Sì, queste sono mega comode Le ho pagate una cinquantina Sì, sì, sì Esatto Sì, perché le altre costano 120 Cioè, sono più robuste Come materiali E come qualità audio Sicuramente migliore Ma queste come comodità Sono wow E io a volte scendo Tipo a buttare l'immondizia Mi dimentico di averle in testa No, più che altro Cioè, stando tante ore Con le cuffie addosso No, ma infatti Averle leggere Infatti Quello che dico sempre io Esigenza dello streamer Diversa magari Dall'esigenza Del videogiocatore Però Se è un videogiocatore Che gioca tanto Secondo me Comodità Maggiore qualità Però Assolutamente Sì No, per quanto Ero un po' preoccupato Della qualità audio Invece Si sente bene Certo Cioè, faccio la differenza Tra queste E sempre della stessa marca Le 735 Che costano il doppio E vedi proprio la differenza Sia dei materiali E la senti proprio anche nell'audio La differenza È abissale Però A livello di comodità Queste qua per me Sono il top Cioè, alla fine è anche importante Che non ti faccia venire mal di testa Sì Mi trovo da 10 Senti Hai preso nere? Nere Belle Sì, poi ci scambiamo i cadabra Certo Giusto Ma infatti La cosa bella di fare la run in 2 È che abbiamo tutti gli scambi che vogliamo Senti Senti, che vogliamo fare? Proseguiamo verso la gola? Sì Sì, sì Più che altro Perché sennò io veramente tiro sulla qualsiasi Cioè, sto Sto lutando il mondo Io metto il pilota automatico Ma perché è veramente Cioè, piacere Cioè, se ti dicessi che sono 20 all'otto Madonna E alla fine Vedi, ora non per fare il falso filosofo O il qualunquista Però alla fine della fiera Un gioco Questo ti deve dare Non ti deve far venire voglia di sloggare Cioè, io il gioco Non lo devo recensire Lo devo giocare Poi per l'amor del cielo Uno fa le giuste critiche Ragionare sempre con la propria testa Ragazzi Senso Senso critico Giustissimamente Per l'amor del cielo Per l'amor del cielo Guarda, io dall'inizio Che avevo ragazzi che mi dicevano Eh, ma la grafica è una merda Io gli dicevo Sono pienamente d'accordo Non vi posso dire che la grafica sia bella Posso dirvi che a me piace lo stile grafico Perché mi piace molto Non posso dire che la grafica sia bella Perché mentirei Però se dovessi dire che per me è importante Mentirei uguale Perché per me non è Cioè, non è il motivo per cui gioco Pokémon Poi posso dirti che è ovvio Magari migliorassero comunque anche Per quanto riguarda il comparto grafico Però mi interessa il gameplay Cioè, io gioco la roba in 8-bit Capito? Io gioco il retro game Ieri giocavo a mori L'uno non esclude l'altro Capito? È vero No, sono d'accordo, esatto L'uno non esclude l'altro Ma non è per me un motivo Per comprare o non comprare un gioco la grafica Farli a vita la stessa Cioè, guardate è terribile questo albero Cioè, è una roba che Guarda, guarda, guarda Però è perfetto Boom No, è un paio di tasto Tantissimo Mi si può rievolvere Grande Andiamo È uguale, Luca Anch'io Io mi focalizzo più sul gameplay Quindi Io evolvo Evolvo, ragazzi Evolvo Unito da me c'è l'Evolution No, non ce l'ho, Luciano Preso Geodude No, a me manca Geodude Allora, ti dirò dov'è Geodude È Dastox Al sentiero di Geocorno Incazzatissimo, Dastox Il sentiero di Geocorno Trovi Geodude Gestisci mosse È bene Ora c'ha confusione Va bene così E' già entrata nella gola Sì, ok Ecco, se torni indietro C'era un omino All'inizio della gola Che Se gli dai tre bacca a Liegia Ti dà 15 pokeball Ti può farlo fare Allora, è la vita che glielo date Sì? Allora, qui Eh sì, sì Perché ho pigiato veloce Non l'ho guardato Ma non va bene Oddio C'è il mio Starry Contro due Geodude E' facile Non è facile Per tirare la sua Dove ci tirarsi E lottiamo E' facile Dobbiamo 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 Lottare Poi Non per continuare La filippica Sulla difesa Interterrica No, del Filippo Assolutamente, io non difendo A prescindere il titolo Per me ad esempio Pokémon Sole e Pokémon Spada Scudo a me non sono piaciuti Cioè io non è che difendo a spada tratta Tutti i giochi La sposerei, io li odio Cioè capito A me gli ultimi due purtroppo Si parla di remake, i remake li ho amati tutti Cioè Perla, Diamante, lo adoro Cioè bellissimo remake Purtroppo Spada Scudo e Sole Luna A me non sono piaciuti Poi si sono giochi Pokémon quindi li gioco Lo stesso e mi diverto anche Però se ti devo dire che mi è piaciuto Sole e Luna Sole e Luna per me è il peggiore Proprio in assoluto Date una medaglia Che peraltro a Lola non potrebbe Perché non ci sono No stavo dicendo Cioè Non si considera mai Perché oggi ho letto delle recensioni Ho letto della roba Che La Switch Ha una Che posso dire Peculiarità Che non è Classificabile Come Criterio Valutabile Cioè È una Meno potente Poi Aperta parentesi Bisogna essere giusti È meno potente Però ricordati Che lavoro hanno fatto Con Rise Io quando ho visto Monster Hunter Rise Io ho alzato le mani Ho detto Minchia raga Sta roba È una bomba Non è che non è fattibile È fattibile Sì Devono sfruttare ovviamente Altri motori grafici Che probabilmente Loro non sono bravi a sfruttare Cioè perché Si tratta anche proprio Di conoscenze del team Che ci lavora Magari la Game Freak Non riesce a lavorare Sullo stesso motore grafico Su cui lavorano Quelli di Bandai Assolutamente Però comunque Cioè Ha dei vantaggi Che Vanno Come dire Al di là Delle cose Recensionabili Tipo La alzi dal dock Te la porti in bagno La alzi E vai sul divano Cioè Dici te Ma senti a cosa Si appiglia questo Eh no È vita quotidiana Perché È vita quotidiana E nel mentre Sin da quella è rimorto Guarda io da quando Faccio streaming Purtroppo Ho molto perso Ovviamente la portabilità Della Switch Ma Nei periodi Specialmente Periodi di quarantena Che c'era Animal Crossing A manetta Io Cioè Staccavo la live Di Animal Crossing Prendevo Mi buttavo sul divano A farmare Animal Crossing E No Poi appunto Non è per difendere L'indifendibile Graficamente ragazzi Lo vediamo tutti Ci sono alcune cose Che Personalmente Mi piacciono Di questa grafica Potevano sicuramente Lavorarci meglio Decisamente La giocabilità Per me Per ora Io mi sto divertendo molto Io sono Dalla tipina qua Fammi sapere Quando arrivi anche te Eh io Oppure Devo ritornare Alla base Perché qui Ah io I miei Pokémon Sono tutti morti Il mago Delle sette galassie Competitive No ma guarda Sono Difficili Cioè sono No è che Te conosco Con i Geodude Sei a posto Io Mi fanno Rotolamento Poi ne ho trovati Due Però io Guarda che Anch'io Cioè la mia squadra Voglio Craftare Faccio 5 Revitalizza A meno Non devo più Sì sì ma la portabilità Vale proprio per la switch In generale Cioè No Game Freak Non è al passo Assolutamente Con la Con la gestione Secondo me Proprio del Del motore grafico Ah ma quello È un dato di fatto Sì sono rimasti Ancora motore grafico Del 3ds Praticamente Sì è vero Sì è ancora Grafica 3ds Quella che vediamo qua Perché poi Se tu vedi Anche Non solo Monster Hunter Monster Hunter Rise Ma Monster Hunter Stories Ha Una grafica Delle animazioni Spaziali Io guarda Sembra Non cartone animato Sì ma dal day one Di quel gioco Proprio Ho iniziato a giocarci Ho detto raga Questo è il pokemon Che noi desideriamo E non ci meritiamo Perché Cioè No è vero Sì Quindi Cioè poi Vedi appunto Il lavoro che ha fatto La Bandai con Monster Hunter E dici Porca miseria Spremiti Game Freak Però per quanto riguarda Il gameplay Io sono felice Che abbiano provato A usare Qualcosa di diverso Era anche l'ora No a me piace Ambientazione Tentativo di stile Sarò sincera Da spettatore Magari giocandolo Cambio idea Questo gioco mi urla Occasione sprecata Ovunque guardo Vedo che poteva essere Fatto meglio Eh la grafica È sempre lì È la grafica Che poteva essere Fatta meglio Secondo me Perché poi La giocabilità C'è A me sembra divertente E grazie per i viz Ciotolo nero Quindi si potrebbe fare Anche delle Pesable Sicuramente Da portatile Più passabile Graficamente Certo Ma sicuramente Comunque io sono d'accordo Con Un ragazzo Una facciata E dice di Come si ostinano A fare troppi giochi Eccetera Da quel punto di vista È anche colpa nostra Perché Fanno troppi titoli Sì È anche colpa nostra Che dopo tre anni Consideriamo un gioco obsoleto E allora poi Ho una nuova mossa Però Improntiamolo con dust Niente Che pokemon L'impaccio C'hai stuntler lì? Sì Ho trovato un stuntler Preso Quello si evolve In Weirdier Ah Per fare Sì Sì È buono Ti aspetto qua Nella zona Poi dimmi Quando sei Qua vicino E sei arrivata In cima Al camminamento Sì Sì È arrivata In cima Al camminamento Sì Sono qua Che slu Sto prendendo Poi Sti caldo Quando sei In zona Eh no No Ma ci sono anch'io Ah Sei anche tu Allora Faccio fuori Che zubat Parliamo con la pettina Bellissime Che scalettine Ma sicuramente È anche colpa nostra Che continuiamo a comprarli A prescindere Però guys Io Non credo Esistirà un momento In cui dirò No E poi Cioè Non lo prendo Perché Ventirei a me stessa Raga E pokemon Cioè Andai a prendere Uno stuntler Anch'io Scusami Ma Fai Fai Cioè Personalmente Io la considero Una cosa Troppo legata Al Proprio in generale Anche alla mia infanzia È un titolo Che mi piace Troppo Per dire Non lo prendo È un chimchar Io sto evolvendo Il cascuno Invece Vai Resta a osservare C'è due chimchar Ma che dici Chimchar Ma cosa state dicendo Bravo Che bella Questa evoluzione Mi piace tantissimo All dustox Dai ti prego No Vabbè ragazzi Ma come si fa No Sono in difficoltà Incredibile Perché C'ho C'ho Sindaquil Eh No Lo vuoi te Come fai Ti fai Infernape Sì Si sta Se ne hai due Sì No Io tanto Non lo tengo Non lo metto In squadra Una volta che L'ho catturato Perché c'ho Non mi piace Ripetere i tipi Ok No io Sì lo prenderei Come immagino Che sarebbe stato Il miglior stile grafico Ma come questo In realtà Ripeto a me Lo stile di questo Va bene Semplicemente Con meno pixel Quindi con Non dico L'anti-aliasing Perché boh Evidentemente L'anti-aliasing È troppo lusso Però Semplicemente Con Cioè Magari Non vedere i pixeloni E Un ambiente Un po' meno sfoglio Poi graficamente A me Questo stile Piace molto Ripeto Cioè Grafica Cioè lo stile È bello Quindi questo stile Andava bene Dovevano lavorarci Su un po' di più Secondo me Tutto lì Io sono in lutto È sgranato Bravo Esatto Perché Hai capito? Il problema è che è sgranato Ragazzi Mi butto male Dalla scogliere Io sono morta Prima No Sono in lutto Che è successo? L'hai perso? No No È che non posso Non posso Cioè Non posso metterlo in squadra Perché Ho già sin Speso Stuntlet Però Ahia Madonna Che brutti colpi A manetta Ecco ragazzi L'abbiamo già fuorviata Niente Oh ma brutti colpi A go go Cioè io ho il team morto Ma io Ci dirigiamo Perché Sei portatore Sano di brutti colpi Sì Sano non so Portatore Guarda Importatore Succedono delle cose Incredibili Durante il mainstream Ma percentuali Curo che tipo Ah beh sì Tipo 10% E lo prendi sempre Potresti giocarti Per No ma forse sai Il critico Cioè roba tipo Il 10% Del 3% Dell'1% Del 90% Del 70% Del 30% E non sto esagerando No no mi fido Mi fido perché A volte capita anche a me Sto altri giochi Cioè roba che Dici Guarda È la stessa percentuale Di un 6 al super enalotto Ma te lo sei giocato Per essere stato azzato Guarda Io in generale sono abbastanza stigata Ho solo una cosa Su cui sculo Sempre fortissimo E infatti tutti mi odiano Gli spacchettamenti Ecco lì Lì mi sono riscoperto Anch'io un grande Corico Io lì ho veramente Cioè mi chiamano sculo Lì lì mica per niente Lì proprio Credo di essere Abbastanza Imbattibile Però Su Invece Nei giochi In generale Io sono abbastanza stigata Ok Sono troppo dietro Non mi odiate per questo E mentirosi Mentirosi Mi direbbe Chiellini Allora Io mi dirigo Lì a Ok vado anch'io Guarda Ho due pokemon vivi Ma tanto non penso Che mi servano E invece Mi sa che c'è da lottare Sai Dici Abbiamo appena lottato Eh ma bisogna affrontare Curali Curali Dammi Perché bisogna affrontare Sì sì T'aspetto Non ti preoccupare Stiamo tutti Poggemon Mor Mi odiate moderatamente Oh Oh Qui mi hanno fatto Un agguato Che è sta roba Ah Io ce l'ho La OLED E Posso dirvi Che Sinceramente All'inizio Quando l'avevano presentata Ho detto Vabbè Ma che differenza vuoi Cioè Non ci sa Nessuna differenza In realtà Lo schermo più grande Da soddisfazione Poi sì È una piccolezza Però Gli altri colori Cioè Io Giocare i remake Su Sulla OLED Sulla OLED Cambia Come fra guardare Sì 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 sono d'accordo Cioè vedi proprio I colori Che sono veramente Troppo vivi Poi Vabbè Tutti avremmo preferito Sicuramente Una console Più performante È sempre quello Il punto ragazzi Noi vogliamo una cosa Al mercato Ce ne da un'altra Ciao Marco Ciao Marco Ah no È Ryderk Che ha regalato Cinque sub Ma grazie Ryderk Grazie mille Per il regalone Apprezzo tantissimo E ti ringrazio di cuore Grazie mille Benvenuti a tutti nuovi No beh Non è questione Che non siamo mai contenti Diciamo che Non siamo mai contenti Ha ragione In questo caso Poi a volte Sì a volte Siamo di rompiballe A volte ci lamentiamo Su un sacco di titoli Che Potrebbero essere Molto belli Lamentarsi è una bella Abitudine moderna Quindi Eh guarda C'è un sacco di gente Ad esempio Che odia fortissimamente Death Stranding E l'ho aldiato In quel periodo Io Death Stranding Lo amo alla follia Io ho pianto tantissimo Su quel gioco E per me È favoloso Però Sono Cioè purtroppo È tanto soggettivo Sì Dipende uno Cosa ricerca Io faccio sempre L'esempio del Ristorante Ma è per carità Io sono una Che magari Si accontenta Anche molto Però Cioè Non sono proprio Rompiballe Di natura Io mi Riavvicino Sì Io sono Dalla tipa Ah Sei già lì su? Sì Uso Un revitalizzante Provo Provo a restare Un pochino Dai Non c'ho Più che altro Perché sono veramente Troppo lontana Dal campo E non c'ho voglia di tornare Giusto Onesto Quando sei In zona 40 Tom Tom Mi dice 40 metri Aspetto qua No assolutamente Se avete una switch Perfettamente funzionante L'acquisto Non è Secondo me Giustificato Cioè Allora Dipende che cosa Volete Io Avendola Vi posso dire Che la differenza Si vede La domanda è Quanto ci giocate In portable Esatto Esattamente Se ci giocate in portable Allora posso dirti Sì può valerne la pena Se vuoi vedere appunto Dei colori più belli Più sgargianti E avere lo schermo più grande Per il resto No Non vale la pena Guarda guarda Non è il professore Del tuo villaggio Quello Pensavamo di averla Scampata invece È arrivato Guarda mi chiedevano Se posso chiederti Se andare a K.O. È punitivo No in questo gioco Braga andare a K.O. Perdi soldi E cioè scusami I soldi Perdi gli strumenti Ah sì Con tutti e sei Eh sì No poi nel mio caso È una tacchetta Al disonore Quindi sì È molto punitivo Perdi Perdi strumenti Ma l'esempio del ristorante Cos'è È giusto È confermato Ve lo dico dopo Xenos Meno male Giusto in tempo E avanti Ah in qualità Di studioso di Pokémon Non potevo mancare Di osservare Un Pokémon Alpha Con i miei occhi Se è questo Il tuo lavoro Mi pare giusto Basta che non ci stai In mezzo ai piedi Benissimo Sono tutti molto Gentili vero Cioè proprio Ti insegnano I principi Dell'ospitalità L'altura Gran Corno Qui venivano A depositare Le offerte Votivi Per i Pokémon Descendenti Dei profeti Del suo Dei protetti Perché profeti Però ci stava Anche profeti Del sommosinno Delelelelelelewup E lui Non è uno Dei discendenti Direi no Se lui è un discendente Del sommosinno Io sono Gabriel Garco Quello lì È venuto Qui solo Per creare Problemi Meraviglioso Ragazzi Questo è il verso Più bello Di tutti Best Pokémon Su Alexis Lilian Rimetto in sesto I tuoi Pokémon E poi ci sbarazziamo Di lui Bene Quindi abbiamo buttato Gli strumenti Fantastico Quel Pokémon È immenso Quindi sono fatti così Quei Pokémon Spaventosi Che chiamano Alpha Precisamente I Pokémon Alpha Sono enormi E molto forti Senza contare Che conoscono Mostre particolari Che ti rendono La vita difficile Fagli sentire La tua forza Fino alle ossa Si prudente Le dimensioni Possono essere Una temibile Arma di per sé Questo Pokémon Avrà di certo Una potenza E una resistenza Fisica Fuori dal Comune Se decidi di affrontarlo Comunque Assicurati di avere I Pokémon giusti Con te E fa sì Che conoscano Delle mosse Potenti Oh nice Vabbè Questi sono proprio Un Alpha Breaking Italy E noi Con la nostra Tipica eloquenza No aspetta Scusa Francesco Breaking Italy Serio? Quella No sono mega fan Shine Non mi perdo Un tuo video Oh mio dio Cioè Francesco Scusami Mi è arrivato Ride da tipo L'unico canale Di YouTube Italia Che seguo Cioè Ma come chi è ragazzi? Guarda Non me ne perdo uno Non me ne perdo uno Guarda tutti i video di Shai Sono commossa Ti voglio super bene È il sardo preferito Di YouTube Italia È il sardo preferito Di YouTube Italia Grazie per il ride Non hai idea Sono mega fan Sono onorata Grazie Dario Per il regalo Grazie mille E grazie Armi Per il regalo Celestra Thank you so much Scusami Scusami Francesco Ma dovevo Fangirlare Ma è giusto Ma è giusto Troppo fan Ok Allora Sì ragazzi Gli unici sponzi Un girare a mano Nessuno Siamo noi Non vi preoccupate No Come Sì Siamo Sì Cricchettuna Sono pronta Vai E qui E qui Io forse Con sindaco Dovrei essere messo Mello Ma no Bisogna andargli a parlare Non tirare il lavoro Niente Bisogna andare A parlarci Giusto per sentire Il verso Un'altra Terza volta Quindi Io gli ammollo Pronti di una tecnica potente Però qui bisogna Ecco qui Occhio perché forse Val la pena Madonna E pigna Mi ha tirato Seguire l'elenco Degli attacchi Quindi Fatemi vedere un attimo Durante la notte Poi controllare L'ordine Le azioni Però non Ho usato X Ah Con la velocità Arrivata Potrebbe essere In grado Di attaccare Più volte In successione Sì Qua dobbiamo Mi sa Usare Degli attacchi Un po' più rapidi Io tiro due Brascieri Rapidi Ti consiglio Sì Ma praticamente Io faccio Un raffica Potente Perché Tant'è C'è Me l'ha ucciso So star Vado di potente Quella è il rapido Il potente Oh dai Ti ho fatto Danno Boom Invece che Invece È servito L'alternanza Io ce l'ho fatta Alternando Rapido Intanto Gli ho fatto Un 40 E poi Col potente Gli ho fatto Il 60 No Non erano Un roll Carminone Grazie Ho fatto Prima Oh L'ho pure Scottato Che suffering Ciao Ciao Che sera gioco Raga Il boss Questa sera Facciamo maratonina Su Pokemon C'è Day one Dimmi quando ci sei Francesco Ci sono Davvero impressionante Lo ammetto Sono lì Ah ok Ti do il cambio Se penso che sei riuscito Vai 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 Davvero impressionante Lo ammetto Se penso che sei riuscita A domare un'alfa Mi sembri proprio Un'eroina leggendaria Ora bisognerà Rimettere in sesto I Pokemon Che hanno lottato Al tuo fianco Ah Che succede? Guarda che fiero L'altissimo Wardir Emana saggezza Simba Simba E' bello bello Lui Vero ma Simba Guarda Lilian Con occhi benevoli Ah guarda Lilian Un giorno tutto questo Sarà tuo No Che grande onore Si pronuncia con la I Come dir Weirdir Weirdir Wardir O Virder Dipende Virder Weirdir Può essere fiera di te Ti sei guadagnata Le simpatie Dell'altissimo Weirdir E non è cosa da poco Visto che ingroppa Questo Pokemon Puoi attraversare Tutta Isui Weirdir Si lascia cavalcare Dagli umani Amazing Proprio come il famoso Poké passaggio Di Alola Prof Tutto bene Cioè parlano Del poké passaggio Di Alola Qui Evidentemente Ti dico C'è qualcosa Di dimensionale Che non stiamo capendo No Perché quando sei Alola Ultramarchi Eh Non lo so C'è qualcosa di lore Che secondo me Dobbiamo ancora comprendere Perché Ci sono troppe Troppe cose strane La caposquadra Selina Ha detto che Quando Lillian Avrebbe portato A termine La missione Avremmo potuto Installare Un campo base Qui Mi rendo conto Che la decisione È stata presa Da Mr. Damon E dal E dal direttore Ma possiamo davvero Aumentare il numero Di campi base La terra di Zui È stata creata Dal sommo sinno Perché i pokémon L'abitassero Se il vostro scopo È vivere pacificamente Con loro Non vedo perché Non possiate farlo Tra l'altro Mi sembra che L'altissimo Wiredir Abbia preso Lillian in simpatia Grazie per l'aiuto Riferirò la tua impresa Al reggente del team Diamante Un giorno Ti ringrazierò Come si deve Ciao Riza Mega waifu lei Anche se è un po' No infatti Io aspetto Ringraziamento Antipatichino Vivere pacificamente Con i pokémon Per riuscirci Dobbiamo prima Completare il pokédex E conoscerci meglio La squadra edile Edile Non dovrebbe metterci Molto da arrivare Presto potremmo installare Anche il nostro campo base Ok questa cosa È molto Monster Hunter style Ti può mettere I vari campi base Nei vari punti In modo da potersi Teleportare Questo è proprio Monster Hunter Questo è Breath of the Rise Of Monster Pokémon Il campo base Dell'altura Gran Corno È ordunque Completato Si chiamerà Base sull'altura Ora in poi Uscendo dal villaggio Giubilo Potrai scegliere La base sull'altura Come punto di partenza Per le tue ricerche Più punti d'appoggio Hai Più facile sarà Condurre le tue ricerche Allora ci ritroviamo Dalla tovaglia di lino Come al solito Questi mangiano E dormono Che bella pizza Ragazzi Io ho preso Pochi Pokémon Questa volta Sette Quanti hai presi? Sette Eh io ne ho presi Diciassette Io sette Ho preso solo Quelli che mi mancavano Zondini Ma io qui li ho atturo Anche perché ho visto Libellano Quindi Eh ma infatti fai bene Infatti sono un po' Mi sa delivellata Eh dovrei Overlivellare E che Non ho tantissime Pokéball Infatti adesso Ne crafterò di più Pokémon Age Inquisition Te sei passata Al rango successivo? No Non credo A me mi ha dato Non lo so Ho cliccato veloce Ho pigiato veloce Non ci ho fatto caso La barra Della completata No Mi sa di no Rampei Mr. Rampei Solito sia gentile Tre porzioni abbondanti Di moci di patate Thanks Ma io ho fame Qui si mandano Un melodie Un melodie Un melodie Un melodie Che ti fai? Ah Sai che bon Bon Sì Diciamo È tipo il mio cibo d'emergenza Non so se Hai mai letto Excel saga No Comunque vabbè È il mio cibo d'emergenza Quando tipo Non posso cucinare Ce li ho lì Per l'emergenza Di un po' Laven Hai sentito l'ultima? Stamani alcuni dei nostri Sono partiti per vedere Di placare quel Kivor furioso Kivor furioso E beh Diciamo che la squadra medica Ha avuto un bel da fare Per rimetterli in sesto Kivor? Ah ho sentito che è stato colpito Da un fulmine Ha perso del tutto il controllo Well Se la situazione dovesse farsi critica Ci penserà la squadra di ricerca È chiaro Per chi affronta l'ignoto Alla scoperta di Pokémon Appolti nel mistero Il pericolo è sempre dietro l'angolo Ma con Lilian dalla nostra Non abbiamo nulla da temere Ma perché parla come un milanese? Cioè che tipo Che ogni tanto ci infila dentro Qualche parola di inglese A casissimo Sì è un bocconiano ragazzi Lave Non ci può fare Però questo cappello No Infatti non capisco Io capisco l'ottimismo Ma ho sentito dire Che Kivor è persino più forte Di un Pokémon Alpha Appurare quanto sia forte Osservarlo e studiarlo È precisamente il nostro mestiere E per affrontare Siffatta impresa Servono una mente lucida E un corpo pronto all'azione In breve occorre farsi Una bella notte di sonda E sgrufugnano E via Eh mi sa che ora Da ora in poi Ritmo serrato Perché hai visto Kivor Che è il Pokémon regale L'evoluzione di Scyther Quello del trailer Mi sa che da adesso Ci si diverte Il giorno dopo Lilian si sveglia? Il capo vuole vederti Intendo il direttore Sorwan Vai subito nel suo ufficio E mi hanno minacciato O potrebbe farti fare Un bel volo Addirittura Ma non ho capito Sto baule Ah Ho gli strumenti qua Oh Cambiati di abito Che c'è le Abbiamo gli abiti Versi Sì Vediamo Aspetta Ah A me ma A me mi ha dato una giacca Carina Dai io me la metto La metto anch'io Anche il dono segreto Facciamo il dono segreto Come si fa a fare il dono segreto? Oh dono segreto Vedrai dal menu Dove si salva Sì Che peraltro è una vita Che non salvo Anch'io Chi? Salviamo Salute Grazie Allora Salviamo Dono segreto Proviamo un po' Ho perso Verani salvatati Ah Ah Li ha spostati Perché adesso abbiamo la scheda Dono segreto Ramite internet Sì Sì Vedrai vedere i dati di salvataggio Di spada scudo Che la roba là Ah è vero Sì sì Perché in quel modo abbiamo Ramite l'internet è riuscito Abbiamo Ci da due pokemon Vestiti A me dai vestiti Dovrebbe dar Dovrebbe darci due pokemon No Non so Shimeon e quelli Ah Shimeon sì Ma gli ottieni diversi Diversamente Mi sembra Forse Ce li sblocca Semplicemente E li troviamo in giro Come era anche In Splendente E E lucente In mono estroso Maschera male Di volpe No Bellissimo Vedere subito Come quelli della radice Ragazzi Come Com'è che si chiamano Di naruto Non puoi indossare Questo accessorio Con la tua conciatura Ah non posso usare La maschera male Di volpe Con la mia conciatura Non so perché Monostroso Bello Bellissimo Vabbè ragazzi La maschera Di Zora Di Ambu Bravidissimo Eh però sta roba Va con i sandali Che con quelle scarpe Proprio non ci attacca niente E anch'io Mi sa che mi tocca Rimettermi il sandaletto Via Sì però Ho i calzini estrosi Non ci voglio chiedere Devo capire Devo capire Come cambiare Mia conciatura Cosa vuol dire Che non posso A te te la fa mettere Sì Dai una sbirciata da me Guarda Guarda come sono Tamarro Io la voglio Perché io non posso Veduto Vedo un sacco La voglio anch'io È stupenda Quella maschera È il parrucchiere Alla prima città È strabella Dicono Io sono ufficialmente Unambu Eh dopo spero Di diventarci anch'io Ti piace Naruto A te? Sì Certo Affrettiamoci A raggiungere La sede Ah mi ha chiesto Se ho dormito bene A me niente Cioè ma possibile Dice finalmente Ti si accorta Che adorare una versione Fasulla Del sommo sinno È tempo sprecato Ah Bellini Ma cosa c'entra adesso Il tempo Universale o meno Il vero sommo sinno È quello che adoriamo noi Il creatore Dell'universo E dello spazio È chiaro Lo spazio A che ti serve Nello spazio infinito Non sapresti neanche Che fartene Ah senti chi parla Come se tu facessi Buon uso Del tuo tempo Invece Ah Almeno sei arrivato In orario Ti faccio i miei complimenti Normale Per una del team Perla Ero preoccupato Che con tutto Lo spazio Che avete Avresti finito Per perderti Ma che discorsi fai Lo spazio È un dono Che il sommo sinno Ha fatto a noi Del team Perla È il pilastro Fondamentale Su cui si regge Il mondo intero Figuriamoci Se mi sarei persa Basta Basta Discutere con te È una perdita Di tempo Vera e propria Rischio di far infuriare Il sommo sinno Forza Muoviamoci Ad andare da Sorwan Ma se sei stato tu A iniziare Che faccia tosta Senti ragazzi Dopo un solo streaming Abbiamo già litigato Ogni volta Che quei due Si vedono Partono subito Le scintille La ragazza Che ha appena visto È Perula La reggente Del team Perla Per lei Il concetto Di spazio È di vitale Importanza Ovviamente Sono devoti A palchia Immagino E quindi Spazio Il ragazzo Che non faceva altro Che parlare Del concetto Di tempo È invece Damon Il reggente Del team Diamante Attualmente Il team Diamante E il team Perla Si sforzano Di non entrare In conflitto Ma il loro passato È costellato Di dispute A quanto si dice Ma torniamo a noi E io intanto Lo sto guardando Con questa maschera Il capo Il direttore Sorwan Ti ha mandato a chiamare Non faresti meglio Ad avviarti Verso il suo ufficio? Io Passo la testa Perché Non può vedermi È strabella Quella maschera Spero di poterla Mettere anch'io dopo Niente Possiamo vedere Beautyberto Che è ancora Beautyberto Il mio era Beautylio Beautylio Sì Te l'ho già dimenticato Mi sono affissa alcune richieste Quelle vuoi consultare? Io so già su Ah tu non sei andato A prendere richieste? No Scusa Non ci ho pensato Ok Io prendo Prendo le richieste Al volo E vengo su Sì tanto è tipo Viene a giocare con Dripflum Gli occhi di Zubat Puro Lily È pronta la cena Sali Ah era lì il parrucchiere? Il pardini ormai va a braccio Ehi ragazza Capiti proprio al momento giusto Non è che potresti aiutarmi a trovare una pietra per tappare il mio vaso di sottaceti L'importante è che sia abbastanza grande e pesante da sigillare per bene il vaso Ah e se si spostasse da sola sarebbe il massimo Preferirei evitare di doverla sollevare sai com'è Forse è un geodude Ho sentito che si possono incontrare sull'altura a gran corno se non sbaglio Io adesso torno a casa ma se per caso ne catturi uno torna a trovarmi Non l'hai presa tu? Non ci ho parlato Ah sì Ora ci parla all'uscita Ci parla all'uscita Ah è perché vedi c'ho fretta Invece devo Ah sì Devi godere È più giù Ok Vai Sauron cosa hai intenzione di fare con Clevor? Sarà anche il discendente di uno dei Pokémon al servizio del sommo Sinnoh Ma non possiamo starcene a guardare mentre si scatena Damon come sempre vai dritto al suodo tu Il tempo è una risorsa preziosa faremo meglio a non sprecarlo Cosa proponi dunque per placare la collera del re del team Perla? È proprio perché è un re del team Perla che noi del team Diamante non possiamo alzare un dito Se ci impicciassimo scoppierebbe un'altra disputa come quelle dei nostri antenati Ci sono stati dei feriti anche tra i membri del vostro team? No? Vuoi startene con le mani in mano? Stai forse insinuando che dovremmo pensarci noi del team Perla? Noi a salire il re per cui non nutriamo che rispetto è deferenza? You crazy? Insinuare io? Figurati forse l'ho pensato ma non l'ho di certo detto E che differenza fa Gran Testone che non sei altro? E poi che possiamo farci noi? Non sappiamo nemmeno cosa ha causato la collera di Clevor Nemmeno io ma la cosa mi preoccupa Non è mai successo nulla di simile Nemmeno nella storia del team Diamante Uh sei qui dunque Inquadratura sulla mia maschera dai Quello è Alexis Grazie Jaffer O forse perché c'è la maschera Il nuovo membro della squadra di ricerca Ah sei quello di cui parlava Riza Ho sentito che Weirder ti ha preso in simpatia Quindi sei tu il tipo fenomenale arrivato qui Attraverso uno squarcio spazio temporale Io sono Damon, leader del team Diamante O il reggente se vogliamo essere precisi Ma quel titolo non mi piace Sa di vecchio Lo squarcio spazio temporale Chissà cosa c'è dall'altra parte Che sia lo spazio in cui risiede il sommo Sinno Comunque io sono Perula La reggente del team Perla È vera la storia dello squarcio Faccio un po' fatica a crederci in tutta onestà Ho una proposta Perché non lasciamo che sia il nuovo membro A fare ricerche su Clevor Lei, la ragazza che dice di essere caduta da uno squarcio nel cielo E di cui non sappiamo ancora se possiamo fidarci o meno Vuoi che sia l'ultima arrivata in queste terre A decidere come comportarci con il nostro re? Non che tu abbia molta esperienza in quanto reggente È bastardo Ma gli anni non contano per un reggente Serve uno spirito indomito Capace di apprezzare la vastità della nostra regione Senza timore alcuno Vastità dello... Sì, è giusto E allora non vedo perché escludere adesso Chi ha poca esperienza Io ci sto, Sorwan Proviamo a modo tuo Cioè a lui va bene soltanto perché a lei non va bene Esatto Sarà un'ottima occasione Per vedere in azione il team Galassia e le loro famose Pokémon Sì, ho detto Galassia A me questa faccenda non piace affatto Il sommo Sinnoh ha creato queste terre affinché i Pokémon ci potessero vivere in libertà Che diritto abbiamo di trattarli come nostra proprietà anziché come amici a cui affiancarci? Il team Galassia non adopera le Pokémon per sottomettere i Pokémon Il nostro scopo è la convivenza pacifica Lasciate che ci occupiamo noi della questione e ve lo dimostreremo Alexis, ho una missione per te Clevor sarà il tuo nuovo oggetto di studio Ha ricevuto Ha ricevuto Sono in tanti a non fidarsi di te per il semplice fatto che sei caduto giù dal cielo Se vorrai guadagnarti la loro fiducia dovrai dare il massimo Rotta su Clevor? Yeah Concordo È il re delle foreste, si dice discenda da un antico Pokémon che ricevette dei poteri dal sommo Sinnoh La sua forza è senza uguali Let's go Ascoltami bene, il team Galassia si è stabilito in queste terre per ultimo Siamo come stranieri E questo è importante Dobbiamo evitare azioni che possono minare i rapporti con il team Diamante e il team Perla Ora seguimi nel mio ufficio Si no, si sono stanziati Però la gente li vede con sospetto Ti spiegherò i dettagli della tua nuova missione Andiamo C'è anche il farrucchiere mi hanno detto Prendi la missione dalla tipina di sotto Mentre te ti fai le doppie punte Io procuro un tappo per i sottaceti alla signora Quindi se ci riparli e gli do un geodud e fa... Ma dove è andata però? È scomparsa Anche a me Però ce l'avevo il geodud Non l'avete visto, raga, il segno delle forbici? O si è tornata a casa Sai cosa? Già che ci sono passo anch'io alla lavagna delle missioni No, allora, aspetta Questa chi è? E' la... No Sopra l'avevate visto, raga, il segno delle forbici? Ciao, critica l'Harror Grazie per i due anni, bello, ventunato Qualche ora mi matura delay audio-video Meraviglioso Cos'è che ti succede? Dopo qualche ora che sono in stream È come se mi facesse tipo millesimo di secondo Che ne so Ogni minuto E quindi poi mi... No, non mi lagga Mi perde la sincro audio-video Ma di pochissimo Ma di pochissimi Però ci sono molto attento Quindi mi dà proprio noia Quindi basta che la disattivi e la reattivi dalle surze Strano No, ultimamente la capture No, no, non la videocamera La capture Ah, la capture proprio Sì, sì Perché hai preso? Attenti a quei biduf Vieni a giocare con Driflum O gli occhi di Zubat Sì, le ho prese tutte Non avevo dubbi Benissimo Mi farò lo stesso Ma perché? Potevi prendere una sola? No No, no Però magari Non so come funziona Ah, non va dentro fuori Allora parliamo con la tipa Prima di uscire No, perché devo uscire Per andare dal parrucchiero Ok, l'aspetto qua Dalla tipa Eccola lì Sì, c'ero Ci sono, ci sono My dear Lilian È sempre un grande piacere Professor Loven Vada al dunque Yes, yes Lilian Mi dicono che ti è stato affidato Il compito di fare ricerche su Clevor E sull'origine della sua collera Vada bene Si tratta di un Pokémon Notevolmente forte I membri della squadra di vigilanza Vittime del suo attacco Hanno cercato di difendersi Lanciando delle Pokéball Ma ogni tentativo di catturarlo Si è rivelato inutile Ha dimostrato una furia Del tutto singolare Sarò franca con te Si tratta di una missione Estremamente pericolosa Perciò devi essere ben convinta Di volertene occupare Sono convintissima Bestia E sia Ti spiegherò tutto allora I Pokémon regali Sono Pokémon venerati Dalle genti dei Team Perla E Team Diamante Poiché ritenuti I messaggeri del sommo signo Nei luoghi da loro prediletti I cosiddetti siti regali Vengono celebrate feste E depositate offerte In segno di gratitudine Nei loro confronti Per cui scoprendo Di quali materiali Abbiamo bisogno Per ringraziarci Clever con un'offerta Potremmo trovare Un modo per uscirne Vittoriosi In pratica I cibi preferiti Gli dobbiamo dare Forse con i regali Ci sono tipo degli aromi da tirare Sembravano i trailer No Allora I regali me li ero studiati Praticamente I Pokémon regali Per calmarli Tu gli devi tirare I loro cibi preferiti E delle Tipo si chiamano È qualcosa tipo Le sabbettine Quelle calmanti Sì Sì esatto È tipo Calma Una cosa simile Esatto Gli devi tirare Dei calmanti Poi una volta che si sono tranquillizzati Li attacchi E va così per fasi Le sfere zen Bravissimi Esatto Le sfere zen Bravi raga Lilian dobbiamo parlarti Damone è tuo Io voglio fare una scommessa Cioè? Secondo me dirà Se no sai che rizzate Oddio Pronta? Uh-huh Andiamo va Vai Vai damone è tuo Ascolta bene Quello che sto per dirti È possibile che Dall'altra parte Dello squarcio Vi sia Il mondo del sommo sinno Il sommo sinno Che veneriamo noi Del team diamante È il padrone del tempo Ciò vuol dire che forse Precipitando da quello squarcio Spazio-temporale Hai attraversato anche il tempo Pazzesco Se così fosse Avrei un favore da chiederti Riguarda Clevor Fai pure tutte le ricerche che vuoi Ma ormai che ci sei Non potresti placarlo In qualche modo? Mister Damone Proprio qui la volevo Era di questo che stavamo parlando Oh Tu devi essere quel grande scienziato Di cui ho sentito parlare Piacere di conoscerti Magari un giorno di questi Potresti insegnarvi un po' di cose Ma dove eravamo rimasti? Ah sì Clevor è il re delle foreste Ed è un Pokémon venerato Da tutto il team Perla Sono certo Che vorrebbero sistemare La faccenda per conto loro E chiedere aiuto al team Galassia E Pardonne Chiedere aiuto al team Galassia Non deve essere semplice per loro A dire il vero Anche noi del team diamante Abbiamo un problema simile Uno dei Pokémon che veneriamo Ha perso il controllo Si trova in montagne distanti da qua Il team diamante e il team perla Hanno un passato burrascoso È vero Ma abitiamo la stessa terra E dovremmo collaborare Per risolvere i nostri problemi Anche se diciamoci la verità Non è che ci siano poi tante persone In grado di affrontare Pokémon così potenti Non possiamo far altro che affidarci a te Altrimenti sai che ridate Ecco Come sei simpatica Curio Sì È veramente Arido da sola Clevor si trova nell'arena del Colosso Oltre la foresta lontana Il capitano che si occupa di lui è Rapan È un tipo sveglio Anche se a volte può sembrare un po' Come dire Sovra pensiero Adora Clevor Quindi ti dirà tutto quello che c'è da sapere su di lui Che tu glielo chieda o meno Beh allora continuiamo su di te Sono sicuro che ci riusci Sto laggando Sono sicuro che riuscirai a risolvere la questione Ci vediamo È il personaggio più loquace No vabbè Mi garbano molto Daman e Tello mi garbano Sì anche me Ha detto quello che doveva dire E se n'è andato Non si può certo dire che perda tempo Ad ogni modo dice bene Daman Per effettuare ricerche su Clevor È necessario raggiungere il luogo in cui dimora La base sull'altura Quella costruita da poco È vicina all'arena del Colosso Potremmo andare lì Ma prima di partire Fai un salto al pascolo E controlla di avere i Pokémon giusti E vola Anche perché c'è un Chimchar da prendere Lo vuoi te lo scambio allora? Sì Te lo Io direi Secondo me ti conviene metterlo in squadra Però è un doppione di Ponica Chi è Crescenzo? Mi è capitato anche a te Di pensare cose del genere Allora prestami un momento Di attenzione vedrai che non te ne pentirai Crescenzo Cosa vuoi Crescenzo? Ci aumenta lo spazio nel Borsello Eh direi di sì Crescenzo Vuota il sacco Sei furba Sì Cento mil Cento Va E io vago E io vago Borsello E io rivago Se ci parli più volte te lo Te lo Sì sì ma hai fatto Vai vai Faccio aumentare il Borsello Sì adesso raga mi metto su qualcosa A mangiare Ehm Per ora aver detto positivo Per quanto mi riguarda Mi sto divertendo Quando smetterò di divertirmi Te lo dirò Per ora Thumbs up Sono d'accordo Quante volte l'hai aumentato? Io ho 4 Sono a 400 adesso E io faccio basta Io Se eri nel team Diamante Aumentava il tempo nel Borsello Hai ragione Santoro Bravo Lo aumento ancora un pochino Penso che abbiamo tanti soldi Va bene Johnny ciao Grazie per i 91 mesi per il tier 2 E' bellissimo vero? Basta Se vogliamo scambiare Bisogna andare appena usciti a destra Francesco mi fanno i complimenti Per l'overlay Del Ah vabbè Io li rigiro al grafico Al buon gas E' stato molto bravo E' stato veramente un bel lavoro Ok basta L'ho ampliato tantissimo 91 mesi Sì Eh già So faithful 51 mesi E' una relazione Cioè Convivenza 91 mesi E' tantissimo Sì Allora Andare dalla tipa Quella laggiù sulla sinistra Sì Sì Lei indica anche a me No 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 Dico per scambiare Ah No a me aspetta Mi manda da Fabrizio Mi sa che c'è una secondaria Sì raga Ovviamente il testo delle secondarie Skip skip E' come Genshin Impact Si legge solo la main story Leonard Sono io Sono io Dovrei che creassi Un po' che cè Ah L'esemplare Non so se risultate Un po' che esci Per favore Che roba è Non so Dobbiamo creare questo Po' che cè Pezzi di legno Ah guarda che ci può vendere anche le ricette Sì C'è Fabrizio Il nostro caro amico Fabrizio Vende anche materiali Preparato Polpetta miele Offensiva extra E difensiva extra Queste secondo me Sono quelle che aumentano le statistiche Lo sai Sì Ne prendo una Prova a prendere un preparato Poi non so se le devo usare la ricetta O se una volta usata ce l'ho già Bella domanda Ma a me piace Questo po' Come un Johnny A livello proprio di gameplay Mi sto molto divertendo Mi piace Mi gusta È molto chillino Ti rilassi Va in giro E esplori Io gli compro un'offensiva Ovviamente Avevamo dubbi Ho preso la prima Ah e poi sì C'è Materiali Ah la ghicocche Vabbè Ghicocche La vino La polpetta base Eh il fungo però Forse ci merita prenderlo Per darlo Per fare la quest all'omino Che voleva fare la zuppa dei funghi Ah sì? No? Ma li troviamo secondo me Io non ne ho trovato nemmeno uno Per ora neanch'io Ma secondo me Perché siamo in un In un bioma dove non c'è Perché ho fame Senti si scambia Ti va allora? Sì Allora devi venire qui in fondo Dalla tipa Dalla tipa Quella là giù Un fondo Un fondo Un fondo sulla destra Quella là gialla Che c'è lo stand giallo Yes Ci dobbiamo aggiungere Io non ti ho solo aggiungere Forse bisogna mettere un codice Vediamo Boh Scambiare codice Giocatori lontani Giocatori lontani E almeno ragazzi scoprirà anche come funziona Eh infatti Così vediamo com'è Codice Ah vuole la password di comunicazione Boh Sì sì 5 5 2 3 8 0 7 9 Vai Io ho messo 5 5 2 3 No devi mettere poi 8 0 7 9 Dagli ok Sono 8 codici E come in spade scudo Ah quindi 5 5 2 3 8 0 7 9 9 Ok E poi gli dai lo startone Ok No ragazzi Non esiste Punto esclamativo Puro lì Come il comando Che comando è? Non vi arriva a casa Quando scrivi il punto esclamativo Curo lì Parte Picca picca Per l'ommaggio Allora Info Che cosa ti posso dare Che non hai? Cosa se l'hai dito? Non ha una Ha una natura E cala attacco Però No Ho preso labbra Sì sì No no ma dammi Qualsiasi roba Non ti preoccupare A buon rendere Poi tanto troverai qualcosa Che non trovo Sai cosa? Se io ho trovato Cinchar Sicuramente ci sarà Qualche altro starter Magari Erba O che no Sì Probabile E quindi poi me li darai Non ti preoccupare Almeno ci vede anche lo scambio Boh Ti do uno schinx Non vedo niente Ah ti do il Jowdood Hai preso il Jowdood? Eh sì E peraltro lui Se te lo allevi Se non è cambiato Anche questa cosa Ti livella più velocemente Ok Perché è di un altro allenatore In teoria Poi sai No ce l'ho già Labbra Se no gli davo labbra Sono curiosissimo Di vedere Eh vediamolo sì L'animazione dello scambio No che fico Dai guarda Mi piace molto L'epoca di Elon Musk Esatto Giordano Ho pensato allo stesso Sembrano È vero È vero L'animazione è davvero bella Mi piace Grazie Blocking Per l'abbonamento Lo stiamo scambiando Ok Thank you E mi ha dato anche un altro Me l'ha considerato come quest Come esemplare catturato Ah Fico Ottenere strumenti Ah da lei se ci parli Ti dà strumenti Allora Cos'è il filo Cos'è il filo dell'unione Filo dotato Di una misteriosa energia Guarda che figo C'è uno strumento Che è il cavo Game Link Ah Terro Ah il terror pan Vabbè Questi riconosciamo Filo dell'unione Filo dotato Di una misteriosa energia Che lascia percepire Un inspiegabile senso Di connessione Piace ai pokemon In particolare Dubbio disco Io mi compro un elettrico No non ho abbastanza Ah io ho pochi soldi Perché li ho spesi tutti Per ampliare lo zaino Vuole i punti gratitudine però Non vuole soldi Ti dico Da brava giocatrice RPG Ti consiglio di ampliare sempre Zaino risorse Più che puoi Perché poi ci puoi mettere dentro Più roba Perché poi se ne penti Esatto Meglio spendere più soldi All'inizio magari Però Ah poi è È un investimento È un investimento Hai ragione Va bene Ok andiamo avanti L'acconciatura Raga Non io non ho capito Voi mi continuate a dire Che c'è qua il Parrucchiere Ma io sono blind Io su quello Non lo so Non so aiutarti Dicevano che faccia Il parrucchiere Ma io non vedo Ah forse è questo Ah ok Ho trovato C'è le forbici È da Sawa Va vediamo un attimo L'ho trovata la tipina Ah c'è la signora anziana Che ti fa i capelli Che stile ti piacerebbe? Ma è uno stile di quando lei era giovane Vediamo Io intanto riordino la squalla Porto, lungo, rasato, ondulato, treccine Oh Arì Io Ragazzoni Stentlerone Lo prendo Sopraccigli No vabbè Destino 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 Che cosa? Che è successo? Abra che ho catturato È la natura Perfetta Ah vedi Allora lui Sei il mio uomo Avremo la Kazam in squadra ragazzi E allora io ne metterò una Così ne abbiamo diversi Biscoccia? No Assolutamente Ce l'avevo in squadra nel perla Quindi Ce l'ho avuto da poco in squadra Quindi è ok Peraltro è inutilizzabile adesso Perché ha soltanto Ha soltanto Teletrasport Allora Io mi metto in squadra invece Ovviamente il Chimchior Posso del Ponita E mi metto in squadra Il Geot Al posto di Dustox Che è già evoluardo E non si evolve più di così Ok Il Gardevoir Ci sta Ok Io quando vuoi Sono pronta per andare avanti Anch'io sono alla porta Ah bene Allora ci siamo Mia cara Mi auguro tu sia in eccellente salute Allora stai facendo buon uso Della tecnica segreta Del colpo alle spalle In ogni caso Eccoti delle super pozioni Non ho dubbi sul fatto Che le imprese Della squadra di ricerca Mi porteranno nuovi profitti Considera il mio dono Una sorta di investimento A monte Posso far comodo Sì ci sta Detto ciò Torgo il disturbo Delle rovine inesplorate Mi aspettano Mi sa che dobbiamo riandare A sempre lì dici Non mi da altre aree Sai Sì neanche a me Eppure avevamo sbloccato Andati Ah base sull'altura Però possiamo andare Guarda Possiamo teleportarci avanti Ora sì Ok Almeno si prosegue da lì Che diavolo Sì 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 anche perché tanto Sicuro faremo qualcosa lì Landa ossidiana Si crafta qualche bolla Sì Oddio che carina È la peso È la peso Vai io faccio anche Una poche coca esci Per il tipo Che mi aveva chiesto di fare Così poi ce l'ho Io ho fatto dieci peso Eh non ho legno Te hai legno? Sì legno ce l'avevo Eh non l'ho trovato Allora mi faccio Una quarantina di poca Con i normali Ciotolo nero Mi faccio Oh ciao Eh non ne posso Ho solo una quindicina Purtroppo Eh io ho fatto Non ho fatte dieci E queste se le tiri Occhio perché c'è Rischi di tirartele sui piedi Praticamente Ah vediamo se mi posso Teleportare da qua Perché se no Ho un giro A vedere Se c'è a piccio Lo farei Ah ogni tanto Bisogna fare Rapporto al professore Prime impressioni Per quanto mi riguarda Assolutamente positive Mi piace moltissimo Se hai delle polvo stella Vendile Ok Perché ti danno mille Io tipo ne ho tre Ammazzo Vendo E libero anche zaino Sì ci sta Dove le stai vendendo? All'umino All'umino La sentinella Qui al campo base Ah Da lui Compri e vendi Compra Vendi Ne ho cinque Nice Sono ricca Grazie Fatti i soldi Ho scappato Univi Eh anche Mi aprivo Un'umino 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 Io ho 66 Pokéball e 10 Pesoball Ma mi sa che ci serviranno tutte E vedrai che fra poco ci si evolvono anche gli Star Wars E' un Parasect Bello raga Hai trovato un Parasect? Si bello grosso Io se mi butto lì sotto di lì ragazzi Muoro Fuori Raga si prova? Buonasera che è appena arrivato Parasect incazzatissimo livello 30 Non è il caso Stacca il 30 un po' ti ha Io ne vedo uno alfa qua sotto Sì sì è lui Va bene Mi ha stravisto Ah starà via di veloci Ti dirò Conviene anche Via 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 Non ho fatto la giocata a venire qui Sono Eh anche io sono nello stesso punto Però ci sono i Paras normali qui Ah qualche Paras me lo prendo Sì Volpe Zaffiro Grazie mille per il regalo Grazie Volpe Grazie mille per il pensiero Eh è sempre buono Paras Sì c'è una tipologia un po' Un po' meh però Cos'è la pane Blade and Soul? Aspetta Paras non è acqua coleottero? No è erba coleottero Erba coleottero? Sì è una tipologia di me So perché l'ho vinta E' debole 4 per Tutto ciò che respira Eh sì Volante fuoco So è debole a roccia Insomma Un po' schifolo Oh schifo ha visto Ah Corruggito si blocca Ah Io ho avuto anche il coraggio di uscire dalla bocca Così per me Ok io mi do Scappo Però volevo Era 6 Io l'ho preso ma Quello piccolino? Non è che me ne faccia di molto Danza di spadola Un'erba rossa Se vedi delle erbette rosse Sì ho presa Prendi Prendi Metto un po' ansia Guarda se Cos'è un Paras? Poi quando avremo i pokemon un po' più livellati Converrà a tornare indietro E affrontare Io tipo vado subito a prendere Snorlax Ti dico la verità Io non l'ho ancora incontrato Snorlax Però sì Ho trovato diversi alfa Che vorrei prendere Prendiamo un po' che livello è sta rabbia 15 In teoria è traspontabile però Non 2 Maledizione Dai Rimorto Sindacul Ragazzi Sì a me mi sta piacendo molto Molto gillino C'è molta esplorazione C'è quello che di solito mi piace in un gioco Dammit Eh Vado Allora Uno sta ravia Sì Paras Il padre di Broly Bravi ragazzi Esatto Proprio lui La para malandrina Oh no Mi ha avvelenato Lo shawatt Buonappe Grazie Ma è più impossibile mangiare i noodles Senza sbrodolarsi in bene Oh è Atturato staravia O piglia Non c'è ancora È l'evoluzio di Ma pensavo di evolverlo Ah mi hanno attaccato in 2 La cosa che mentre sei lì che ti fai cavo di tuoi ti possono attaccare gli altri mi piace un sacco È molto più realistica Questo col shimshar Vedrai che si evolve già a starli Se ce l'hai Ti c'ho da fare evolvere shimsh E starli Li faccio evolvere Così sono obiettivi pochi E via Sì il gioco mi sta piacendo Sto Pizzando brodo E in un brodo di giugiole Sì No ti giuro è impossibile Cioè È una delle cose meno pratiche di questo mondo Penso da C'è solo un'altra cosa che è meno pratica da mangiare al pc Del Dei noodles La finalità Buona Sì ma è scomodissima da mangiare al pc Mega scomoda Sai quante volte ho mangiato la pizza al pc E mi sono trovata la tastiera conciata di schifo Io dopo li dico a Francesca se torna si arriva con delle belle pizze Pizze e torta ma che scherzi Te la torta la livonnese la conosci e l'hai mangiata Qual è? È tipo Si chiama torta ma è salata È quella che Dio Perdonami Chiamano cecina Alla tipo la torta di ceci? Eh Oh sì la adoro Buonissima No ragazzi No a me piace da matti Mi amo insieme a tutti No io ogni tanto Pensa che c'è stato un periodo che Me ne tenevo due o tre surgelate in freezer Che così io tac Metto nel forno Buona Quando verrai qui La farinata di ceci Io l'amo Sì D'ora in poi Torta Buonissima No no Quella mi piace molto Ho mangiato anche stream Quella sì che è pratica da mangiare Quella è buona E in pratica Da noi si fa il 5 e 5 Che viene da 5 lire di pane 5 lire di torta Che è un tipo focaccia Va bene Sì E torta E se proprio proprio melanzanina sott'aceto Ci sta Sì ci metti qualcosino E io me la mangio anche così semplice Che c'è un sacco Nel borsello Non c'è spazio Eccoci Eccoci Aveva ragione La maestra Told you E ora? Avevo trovato il legno io Bisogna sempre dare priorità All'ampliamento delle borse Perché poi Tanto quello una volta che l'hai fatto L'hai fatto Tanto prima o poi Li devi spendere Almeno ora Tocca buttare via una castagna Però il legno lo devo prendere Possiamo evolvere i chimchar Oh evolviamo Adesso l'evolviamo Grazie Jimmy Lui ha il 30 è troppo Abbiamo le ghicocche E scappiamo come dei codardi Evolviamo Evolviamo Sì Mi si evolve Mi si evolve Sin da qui Oh nice Vai Mentre io Volvo il chimchar Oh No vabbè No vabbè Cioè st'e evoluzioni sono incredibili Sono bellissime Cazzo c'hai monferno Che invidia Bello Ma me l'hai dato tu Eh vabbè Non posso far Oh Oh questi ti attaccano Balordi di un bibare Bibarellini La fauna si sta facendo Veramente Incattivita Ti dico la verità Via Evolviamo Sin da Non gustare Pubblicizzami Beh ma ti posso Secondo te ora Pubblicizzare Il ristorante Con Cioè Pizzeria Ristorante Poi Non è un ristorante Ma è un enoteca Una cantina Beh se ti capita Di andare a sondrio Di prianza Enoteca Pirovano Ecco vabbè Non è fallo spot Ragazzi A me qui mi stanno Attaccando Veramente Sono in pericolo Aiuto Cercando di prendere Un bibarell Allora Occhio perché Non ci mettano niente Si girano E ti attaccano Si ma infatti Ma lo attacco io Perché questo Lo vedo bello Libellino Non ci faccio niente Vabbè Sì Stava Oh Un centino Oh no Oh e vai Ciao cab Grazie per il secondo mese Deve Per forza Bentornato Grazie mille Sono incafonito Subivere Grazie ragazzi Per gli abbonati Oh L'abbiamo Vero Via Via Sono incafonito Anche io Ahia No fanno malissimo Sono i pokemon Più aggressivi Che io abbia mai visto Nella mia vita Eppure li vedi E dici Sì ma fanno malissimo Grazie Grazie Pasch Castello di Brianza Sì 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 Scusa C'è un altro Pichu E mi dispiace No vabbè Ho preso il Bibarel Qui c'è un omino Ma hai presente che a volte Si vedono degli alberi Oscillano Sì ma Ma vuoi insegnare Babà pipà Eh lo so Dai O di che c'è poco Su Bibarel alfa Sto lontanissima Comunque ci pensi Che noi stiamo giocando Da quante ore Non lo so Cinque Può darsi Cioè abbiamo il pokemon Al 17 Sì Beh c'era una grossa parte Di tutorial all'iniziale Però sì sì Dai stay Ori Pegame Giù burmi Dieci di coke Che voglia Dopo venti ore Li avrete al 50 Non so Eh per te che sei abituato A rushare i livelli Eh Non è È tosto Che cos'è Ah un lupan Sei il Caprino Per me che si chiama Sì sì L'ho vista L'ho vista Ivan Assolutamente Sì Che bello Sta arrivando la notte Mi sa che ho trovato Anche Pikachu Io ho trovato i banneri Banneri io non l'ho neanche mai visto Posso fare evolvere Ah shinx Shinx evolvere Aiuto Allora Madonna un botto di roba raga posso evolvere Vai tre evoluzioni Abbiamo a shavats Sarli e Shinx Uniti dall'altro Interessante anche questa cosa che scegli tu quando farli evolvere non ti si evolvono in mezzo a cose In maniera acquata Sì è vero Questo lo considero un improvement Ma ce ne sono diversi onestamente Sì Sì dal punto di vista della gestione È abbastanza smart Io sto razzolando C'è Sto trovando una quantità di roba Soddisfacente Sì Cioè da proprio gusto Sì Da proprio gusto Mi piace molto Galton se dicevo Bella esplorazione Cioè ti fa proprio per il foglio di provare E già per avanti Ma più che altro quelli grafici Markor Ah a livello di gameplay raga Non trovo sinceramente per il momento A livello di gameplay Cose che mi fanno dire No che brutto Lo preferivo prima Per ora no Grafica sì ma tanto torniamo sempre a questo punto lì Grafica ormai l'abbiamo capito Dal punto di vista del gameplay però Io trovo improvement Non trovo sinceramente dei passi indietro Sì adoro Sì Vota a fuoco Bravo zio Ti voglio così Lo sai che sto lottando contro quattro Pokémon Quattro? Uno contro quattro A me prima mi hanno attaccato in due E già ero in crisi Fatto? Eh non mi sa che infatti qui Sì Sì Fortunatamente sono tutti deboli a fuoco Quindi li Ah li spani però ho esemplari catturati di notte facendo le missioni se ne mangerei un altro andando avanti anche con la main sì ogni tanto ci fermiamo facciamo un po di esplorino e poi andiamo avanti con la main ho trovato i funghi che cercavi prendi prendi che cercava il tizio sono vicino agli alberi nella zona di arena del colosso a sinistra di arena del colosso io mi devo occupare quindi si mi sta piacendo il gioco molto rilassante ragazzi 104 ps livello 15 commovente doppia para bene 3 para su 3 dai record del mondo di para mi piace moltissimo questa cosa di poter switchare da pokeball a pokemon velocemente si è vero vai faccio una mossa come un perno crudo ok bracere potente quasi sciocco come va il monfermino bene forte ciao grimm gioca in pace grazie per i 22 grazie bellissimo bentornato allora a te sei già laggiù boia ok sto esplorando ci metto il ehi lascia un po' è bellissimo chimchar si anche se io sono team tartwig ma solo perché non lo voleva mai nessuno anche se è fortissimo e che debolezza 4 per ice l'è due eh lo so il problema è infatti contro viaggio però contro il resto è veramente buono è buonissimo un'avventura si è un bel tank Sergio benvenuto grazie mille ma che cosa vediamo un po' che cosa dobbiamo fare ci sono i pochi mi piacciono le notifiche sercione un combi vorrà farmi male però ho trovato un combi io sto provando a venire nella zona dove si perché mi sembra particolarmente ricca di roba si però va bello ma sorry di cosa mi viene a giustificare se ne ha lavoro se c'è ciao poln 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 non riesco a dirlo poln n l x grazie per i sei mesi grazie per la risultazione thanks ho preso un combi no no la pergamena prima va bene così se io posso aprire un'industria di sciottoli adesso sì no io sto raccogliendo mano mano che proseguo sì a me ste meccaniche piacciono sono d'accordo tartuiki top però sì capisco anche chi dice che diciamo che se trova il ghiaccio è un po' della pietra wow c'è un branco di dust provo a catturarne un geodudo sì si farma un sacco esatto sì sì esatto sì per persone a cui piace farmare come noi sì sto gioco è un po' ovviamente è uscito il bastard strani ah era zubat poi poi inseguono io ci sono quasi rimasto con chi con i dustox che fanno una sorta di mossa che insegue ah sì ti fanno sì sì me l'ha fatta anche a me quella che roba è baneri e quello che pokemon acqua è psyduck hai trovato psyduck? sì ti piace? tantissimo ciao franturio grazie per i cinque bentornato grazie bellissimo mi hai scappato ah mi hai scappato proviamo un po' che palle non me le non me le non mi fatturano più cioè non ti entra? il catch rate è diventato bassissimo all'improvviso ho questa impressione no ma anche a me ti dico cioè li ho messo tutti bene perché cioè bene no no è proprio basso il catch rate mi sto rendendo conto anch'io perché sto provando a prenderne un tot e mi scappano tutti eh ci sta che fosse in seguimento ragazzi davvero brava se lancio il mio pokémon inizia il combattimento però non sempre cioè a volte alcuni pokémon diciamo sono un po' più schidi quindi se gli lanci il pokémon loro si spaventano e scappano ciao Michele Farina grazie per la sub ben arrivato preso Psydac no bellissimo Psydac spero di farlo e ora provo e ora provo bu neri l'ho preso e provo a prendere un altro finale la baccabana che non me la raccoglie che ho lo zaino pieno maledizione vabbè dopo quando torniamo te lo pompi un bel po' eh per forza ho trovato il ferro scudino e questo va preso non so se buttare via addirittura una pietra focaia che è l'unico oggetto che ne ho uno oltre al legno beh se ho visto che c'è la tipina che le vende tipo a mille luna butta che è la tipina quella che mi hai detto guarda che vende gli strumenti ho visto che lei le vendeva no al ferro scudino mi sembra qualcosa di beautiful ragazzi qui c'è un mondo io ho letto la recensione dgn gli dava 5 e non c'era pokemon ma che avevo posa il fiasco ma che come non c'erano pokemon ho letto la recensione di gnn ho letto la recensione di gnn da codice penale si 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 sembra che i pokemon l'abbiano bullizzata la scuola la piccina ve l'ha schifo allora aia ok via 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 questa banneria mi sa calca 40 nessuno esige l'8 un pagella no per carità no ho smesso di chiudere la recensione quando parlava delle statistiche dice no ma l'ordine degli attacchi non è indirizzato dal livello dice determinati pokemon molto alti di livello attaccano dopo e c'era la foto di gastrodon che ha una velocità imbarazzante ragazzi si per te che sai queste cose cioè che ne sai di competitivo appena vedi una recensione ho riempito il borsallo anch'io si ma cioè ragazzi never heard about statistiche ordine in base alla velocità si si cioè sono cose che so persino io che non gioco competitivo per dirti quindi aspettiamo la velocità le basi cioè non è che stiamo parlando di no sì 5 è eccessivo sono d'accordo cioè può piacere o non piacere per carità 5 5 è veramente eccessivo dai 5 come diceva il mio vecchio professore a Hogwarts è ridiculous Harry Potter se lo sto aspettando intendi ti piace la saga ah si molto si si letto libri visto film buneri dove vai brutto tegame stiamo aspettando il gioco nuovo anche se probabilmente lo vedremo il 23 forza secondo me se ne parla l'anno prossimo lo sai e considera che io ho comprato la play 5 apposta eh ma secondo me fino all'anno prossimo ce lo so e questo fugge maledetto scappano scappano impressione sul gioco e ragazzi è veramente molto 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 godine vi dico la verità beautyfly dove vai io non sono riuscito a catturarlo beautyfly io sì l'ho preso adesso ha fatto il bravo è andato quello che è cotoni dite questa musica ragazzi che è quella di diamante e perla rifatta ho trovato anche l'ipsider 60 euro è tanto secondo me sì ma in generale i prezzi dei giochi sono troppo wild raga a volte ho speso 80 euro per alcuni giochi della play che duravano 5 ore per me quello per me è più scam cioè o mi dai veramente qualcosa che dico in 5 ore devo giocare cioè Gesù bambino con i re magi e allora ti dico ok figata ne vale la pena però se no boh cioè magari 60 euro può essere ah anche ho trovato per lo scudo e non c'è spazio allora ti svelo un segreto se un po' connesso acqua e te li tiri la bolla non lo prendi ok cioè la bolla non va sott'acqua grazie che me l'hai detto cosa buttiamo senti che si fa si progredisce si si butto giusto qualcosina silku la bacca star prendo psyduck e ci sono oh questo dorme vai vai io provo a catturare silkun tutti questi psyduck no ma velena appunto ma che cosa lo dica a far vai 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 ti divertirai tanto ingel veramente grazie di stare con noi sei quello psyduck che mi guarda strano fa delle host veramente bomba a mano si le host sono stracarine non so se le sentite perché obiettivamente l'audio lo sto tenendo piuttosto basso però le trovo molto gradevoli molto chill ok dov'è che dobbiamo andare per andare avanti all'arena del colosso lo sai che ci tocca probabilmente clever adesso vero ci tocca il glamour clever 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 quello che cos'è ci sono quando vuoi 70 metri intanto mi faccio un bicchierino d'acqua a gozza ho provato un sacco di ferroscudo in giro a me piacesse sì piacesse senti qui sono a livello di maio a me piacerebbe tanto facessere un leggende su roba di ogni tipo deoxys girashi magari su sì con degli approfondimenti anche su proprio asteroidi quella roba sta sta ah qui c'è un poi che bella sta cosa che tiri la poca madonna no aspetta raga quello staravi a 2 fps sì verificando uno staravi a 2 fps sullo sfondo poi sai quelle cose che fanno sono talmente brutte che fanno il giro e diventano belle moronna buneri ragazzi nemmeno youtube è così sì non riesco a prenderlo no è terrificante stavo guardando da te stavo veramente una scena tristissima 2 fps proprio l'ho visto ho detto cos'è quella roba ecco ma io ti dicono se è una software house cioè un tuo ti propongono di vendere una roba del genere ma te cosa gli disci sì ti giuro più anche il quale frame break dici no vai io sono da rapal butto via sta roba intanto che arrivi prendo altro cibo che ho fame sono anch'io appena torna una leggenda sulla storia del drago originale di un ima ci starebbe viaggi del tempo con serie di tutta la roba il mio manchelax livello 9 a 178 ps eccomi eccola ci sono anche la rapal e lui è l'antenato di rapal capopalestra di bianco e nero è proprio identico allo stesso cappello uguale uguale non è un cappello qualsiasi proprio un cappello con una pietra con la stessa forma eccetera eccetera quindi anche sta cosa ce la potrei capire o l'hanno messo così no sono tutti parenti io sono rapan del team perla il capitano che si occupa di clever come alla rai sono tutti parenti e tu sei qui per incontrare clever ci ho indovinato vero non c'è dubbio non c'è dubbio vedi quel cappello c'era quella proprio il suo ed è presto svelato anche perché secondo me se lo tramandano di generazione in generazione quel cappello eh sarebbe il top ma ce lo devono dire cacchio come ahimè non posso concederti di incontrarlo è fin troppo forte per tre sospetto che sia stato pervaso dalla potenza del sommo sinno dopo il fulmine di qualche giorno fa come posso aiutare? ma ci picchia vedo che il tuo desiderio di incontrare clever è davvero incandescente ma in ogni caso quanto sia forte quanto sia forte il tuo desiderio ci tange abbastanza poco perula ha parlato forte e chiaro nessuno può avvicinarsi a clever se non hai intenzione di darmi retta io e il mio fidato gumi ti faremo cambiare idea si lotta vai si combatte vieni bello e triste storia vai c'è è tardi Diodos che mi dice ma hai fatto apposta che la roba lontana vada meno FPS così alleggerisce il carico ma qui non sembra sia pesante quello che c'è ha senso il problema è che c'è il conte 5 si potete bello bene l'ex si vencerà ringrazio grazie spero lo lavino il cappello prima di passarselo in generazione perché se no non è dato non è dato saperlo io ti dico solo che il suo fantomatico gumi l'ho squagliato in un attacco si e e stasera no falliamo mossa fisica ah ormai perché al di là dell'elettro che chiaramente no aspetta è successo una cosa incredibile hai parato no gli ho fatto la bruciatura e poi ho preso l'uxio e gli ho fatto elettroshock hai sovrascritto la bruciatura ed è diventato paralizzato ecco questa è una cosa molto interessante che non pensavo di succedere ecco hanno cambiato si possono sovrascrivere gli stati domi è molto debole fisicamente si tutta la sua tutta la sua linea evolutiva è molto valida in difesa speciale ma molto poco buona credevo il contrario essendo una gelatina perché pensavo che per logica gli attacchi rinforzassero è vero dammi retta clevor è pericoloso se ti avvicini troppo ti farà fettine di solito quando è inquieto lo si può accalmare offrendogli i suoi due cibi preferiti ma così infuriato è inavvicinabile anche per me che sono il suo capitano figuriamoci per te che sei un estraneo gli antenati di clevor vai perula mia 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 perula vai vai no ti vedevo che mangi oh vai tranquillo eh però perula non ti preoccupare eh ma perula peruleggia peruleggia vai gli antenati di clevor wardier e altri ancora hanno adoperato la loro forza dono del sommo sinno per proteggere tutti è solo grazie a loro se noi del team perla possiamo vivere liberamente qui ai suoi no più che altro perché ci aspetti che io finisca di mangiare stai fresco stai fresco io quasi spittinico la sera perula che ci fai qui cercavo i fumi mi cazzi tua mi cazzi tua clevor è diventato più forte è vero ma ormai è una vera propria minaccia il pulmine che lo ha colpito deve essere stata opera del falso sommo sinno quello adorato del team diamante adorato dal team diamante clevor è un pokemon a noi molto caro è per questo che ero lestia a lasciare la faccenda emana un estranea ma non posso più ignorare la realtà clevor va calmato e al più presto bisogna agire prima che attacchi altri pokemon o altre persone inasprendo i nostri rapporti con il team diamante e con il team galassia che faccia che faccia che ha sto tipo sveglia aggiungerei ehi tu estraneo caduto dal cielo che ne pensi al team galassia puoi aiutarci no aspetta scusami Dario hai preso uno starly shiny di già subito pronti via Ale ma che culo faremo il possibile io intanto ho questa maschera che ripianto si te che non vedi niente guarda io e Rappan prepareremo i cibi prediletti da clevor tu pensa a trovare una soluzione invece passa al setaccio l'intera Isui se è necessario ma trova un modo per calmarlo te ne prego Larsus Fon sta reagendo a qualcosa quindi reagisce quando siamo vicini grazie a un potere misterioso puoi arrivare istantaneamente ai campi base mi sa che ha reagito al campo base quindi noi clevor qui non lo non ci ragioniamo